Allora partiamo. Buongiorno a tutti. Vabbè, inoltre che vi ripeto che sono Roberto Ciccutto, presidente del Biennale, siamo abbastanza fraintimi. Definirei questo incontro un'imboscata contro di me. Perché nella mia precedente vita di uomo di cinema, non tanto quando facevo il produttore e l'imprenditore privato, ma quando ho avuto l'onore di presiedere Luce Cinecittà, un amico qui presente, Gianfranco Giagni, figlio dello sceneggiatore del film, mi ha torturato per anni dicendo che bisognava fare qualcosa per il film Smog. Un restauro che poi abbiamo cercato di recuperare gli eventi di diritto, l'America, la Titanus, le cose eccetera. Insomma, per farla breve, non sono riuscito a mettere in cantiere questo restauro. Mi è costata cara perché per esercirlo gli ho dovuto produrre una serie di documentari più o meno belli, no, decisamente molto divertenti. E no, no, no. E quindi per questo dico no. Un giorno quando Deborah Rossi mi ha raccontato il programma degli incontri che si svolgono in questo bellissimo posto, ho visto questo Smog, ho preso una specie di coccolone, come dire, ma veramente, e pensavo che lui mi avesse fatto, come dire, un raggiro. E invece manco lo sapeva che facciamo questo incontro. E quindi, insomma, sono particolarmente felice perché quando c'è un aggancio, come dire, personale, biografico in questi avvenimenti e la partecipazione è più partecipata, appunto, emozionante. Io ho visto il film, l'ho visto come, credo ormai l'abbiamo visto tutti, con mezzi un po' di fortuna. Sembra che si procederà presto ad un vero e proprio restauro. Lo dico anche perché in assoluto questa stanza, questa sala, questo luogo della trasmissione del sapere è uno dei luoghi più cari per me dentro la biennale, però non possiamo certo definirlo una sala di proiezione. Però in questo caso, e sono felice che ci sia l'architetto Professor Zancan che farà chiarezza sul fatto che la proiezione di questo film non va giudicata per i suoi meriti cinematografici ma per la sua straordinaria potenza documentale rispetto all'architettura e a un luogo come quello di Los Angeles, va considerata questa proiezione uno strumento, uno strumento di prova delle ipotesi o delle tesi che nella conversazione che poi farete verranno appunto affrontate. Quindi non posso che augurare, non direi buona proiezione, ma buonissimo incontro. So che le partecipazioni sono di grandissima qualità. Ringrazio a Deborah Rossi che nella sua qualità di responsabile dell'archivio storico delle arti contemporanee della biennale ha messo anche questo appuntamento in calendario e quindi buonissima giornata con Smog. Bene, allora un saluto a tutti, buongiorno a tutti. Quando Roberto Zancan mi ha proposto questo, diceva non potremmo fare qualcosa attorno a Smog, sai c'è questo bellissimo film che ha partecipato a una mostra d'arte cinematografica che offre spunti molto interessanti perché appunto oltre a essere un documentario, film di pregio, anche tutti questi aspetti esplora, temi dell'architettura. Mi ha subito intrigato l'idea, insomma non posso nasconderlo, proprio perché risponde a quell'intento che hanno questi incontri che abbiamo organizzato, che ormai insomma hanno preso una cadenza mensile, che vogliono esplorare temi che partono dai momenti della storia, dei programmi della biennale, ma che offrono anche spunto per approfondimenti che riguardano oltre più settori nei quali la biennale opera, come in questo caso abbiamo chiamato l'incontro infatti viaggio tra architettura, arte e cinema e appunto interventi, il programma della giornata segue appunto questi diversi momenti, approfondisce anche questi diversi momenti, ma anche perché appunto parte da un episodio, un episodio della programmazione ne consente una lettura, una rilettura alla luce di temi ed argomenti che sono proprio dell'oggi, del presente. Quindi poi Roberto Zancan diciamo fa parte degli studiosi, dei ricercatori che frequentano le attività di biennale, che frequentano l'archivio in questi anni e quindi lo accogliamo appunto come parte del gruppo verso il quale anche il nuovo centro di ricerca si vuole aprire, ovvero instaurare rapporti e connessioni con istituzioni veneziane, nazionali e internazionali, con ricercatori che vengono in archivio e approfondiscono anche temi che sono della propria ricerca. E quindi un grazie al professor Zancan e grazie alle colleghe, innanzitutto a EG, a Elena, a tutte le colleghe dell'archivio che hanno collaborato a organizzare anche questa giornata e quindi auguro buon lavoro e siamo ansiosi di ascoltare. Prima dell'inizio ci spostiamo di là perché così vediamo meglio, ma mi e ci scusiamo anticipatamente perché abbiamo un dovere istituzionale, i nostri dirimpetai, nonché proprietari, del terreno su cui si svolgono le biennale oggi inaugurano un'importante iniziativa di intrapresa industriale e culturale che è il Salone Nautico. Dobbiamo assolutamente fare un passaggio e quindi scusateci per la nostra partenza anticipata. Ci mettiamo lì così vediamo meglio. Allora, innanzitutto, ovviamente, ringraziamenti grandissimi, innanzitutto a Deborah Rossi di averne accettato, insomma, questa piccola proposta fatta mentre camminavamo insieme dopo un altro evento bellissimo che aveva inaugurato, credo, quest'anno. sono questi incontri, direi, veramente cruciali per questa città a partire dall'archivio. E il Presidente Ciccuto di aver rilanciato anche attraverso la sua conoscenza diretta questo episodio singolare, veramente, della storia culturale italiana. Due, tre cose prima di cominciare. Innanzitutto mi scuso perché per quanto riusciremo a farlo bene probabilmente le transizioni tra la proiezione e le altre immagini, le altre informazioni saranno un po' disomogenee. Nel senso che abbiamo deciso, invece di presentare interamente il film e poi commentarlo nel pomeriggio, di fare una, anche per la forma della sua narrazione, che è piuttosto, come dire, fluida e non necessita di essere seguita in tutti i passaggi, di interromperlo con una serie di commenti e di associazioni. Questo vuol dire anche che la durata di questa cosa, almeno della mia presentazione, è volubile e non precisa. Inviterò voi anche a dirmi se siete stanchi andiamo più veloci o andiamo più lentamente su alcuni passaggi. Il film è disponibile online, eccetera, anche se le copie non sono molto buone, speriamo veramente di avere presto una versione restaurata come merita. Detto questo, che insomma sono questioni tecniche, rispetto alle quali vorrei anche ringraziare completamente tutto lo staff sin dall'inizio, insomma. È stata un'esperienza veramente bellissima, insomma, per me la prima così diretta, insomma, dopo le visite alla biblioteca, di poter lavorare con l'archivio, o anche con le persone oggi che si sono occupate degli aspetti tecnici della proiezione, che dimostra, insomma, il livello strepitoso della Biennale, che spero anche sarà un po' dimostrato dal racconto di oggi. Questa eccellenza che è costante nei secoli, un po' quasi da carabiniere, detta così, ma insomma vedrete che forse è così. Allora, ho deciso che anche questa prospettiva andava mostrata, per cui presenterò il film, lo interromperò con delle immagini, a volte forse torniamo un po' in dieta, un po' andiamo avanti, ma vi farò vedere molti materiali un po' affastellati, un po' proprio anche per mostrare quest'idea di aver lavorato su un archivio e molti altri archivi. Partirò proprio dai documenti dell'archivio storico della Biennale e per le parti introduttive, in cui cerchiamo di capire come questo film è arrivato a essere presentato, perché per questa ragione, per quali ragioni, come mai, eccetera. Poi vedremo soprattutto il suo inserimento in un contesto geografico, cioè che è la caratteristica di questa opera artistica, il suo contesto storico, estremamente particolare e preciso, anzi, la proposta, una delle molte ipotesi che vi farò oggi, che questo film ha una storia così particolare anche perché appare in un momento che cambierà la nostra storia per varie ragioni. E le persone coinvolte non sono totalmente escluse da questo percorso. Infine, cercherò appunto di rapportare molto questa vicenda all'architettura e all'arte del periodo. l'arte e l'architettura di una città particolare che si chiama Los Angeles che viene presentata in parallelo con la città di Venezia. E vedremo subito uno dei personaggi che riguardano questa storia. Allora, io vi propongo di cominciare a vedere, a entrare al cinema, fermarsi e poi ripartire tra qualche secondo. Allora, posso farlo partire? Allora, posso farlo partire? Ve l'ho stoppato subito. Ve l'ho stoppato subito perché, come potete vedere, appare una scritta che è quella della casa di produzione, Titanus. In particolare, è una scritta che nasconde un edificio. Adesso propongo di ritornare indietro senza l'audio, magari per questo 20 secondi, insomma. Non so come ritornare indietro da qui, forse non abbiamo fatto la prova. tolgo l'audio, poi lo rimetterò. Allora, come vedete, la caratteristica, insomma, di questo primo inquadratore sono questi movimenti di macchina verso destra, in questo caso, ma che fanno apparire questo edificio un po' strano che si vede sul fondo e che si rivede qui. Si chiama Team Building, dopo ci torniamo, che viene a un certo punto proprio nascosto dalla scritta Titanus. In realtà, proprio la ragione per cui questo film non è conosciuto, sparisce, è il fatto che è incluso in un pacchetto di altre produzioni con la... vi chiederò poi agli esperti di cinema di correggermi nei punti che qui sono meno preciso, ma insomma, di produzioni associate a Metal Golden Mayer, ma soprattutto fa parte di queste produzioni realizzate dalla Titanus che comprendono altri due film in particolari che porteranno quasi alla bancarotta la compagnia di produzione, ovvero di Goffredo Lombardo che vedete il primo nome che appare sullo schermo, ovvero Sodoma e Gomorra e il gatto pardo. Passo di nuovo alle diapositive, se posso far vedere queste? Dove siete? Ah, devo farlo andare avanti. Puoi andare avanti di una, scusa? E un'altra ancora, grazie. Questa è la quarta di copertina di un libro che potete trovare lì in Baccheca di un signore veneziano cioè cosmopolita per nascita, Pier Maria Pasinetti, il fratello del più noto Francesco Pasinetti almeno per i veneziani visto che è una delle sale in cui vengono le proiezioni della mostra del cinema è quella. Vi farò leggere molte cose o piuttosto ve le metto lì e vi lascio un po' a leggere e io leggerò in parte durante tutta la presentazione ma quello che mi interessa è sono le prime righe Pier Maria Pasinetti è stato sempre animato dall'idea rivoluzionaria che il romanzo italiano moderno e il suo aggancio internazionale siano appena cominciati. Questo è il suo terzo romanzo dopo Rosso Veneziano libro migliore più importante del gatto pardo secondo il London Magazine e la confusione che fece dire all'Express la rivista francese Pasinetti è un autentico scrittore uno dei migliori se non il migliore che si possa trovare oggi in Italia. La teoria che ho l'ipotesi che vi faccio oggi è che questo film è il tentativo più importante di un processo più complesso da parte di Pasinetti di presentarsi come il migliore il più importante scrittore italiano dell'epoca. Questo attraverso la la sua figura la sua la sua la sua attività in due città Venezia di dove è nativo e che lascia piuttosto presto già negli anni 30 per andare a studiare in America dove diventerà professore dopo varie fasi insomma di altre attività ma come professore di letteratura comparata presso l'università UCLA di Los Angeles a partire dai primi anni del del dopoguerra esattamente nel 49 e in qualche maniera quindi abbiamo un po' questo se c'è un fantasma in questo in questa storia è quello costituito dal film Il gatto parlo che esattamente produce no? questa immagine non solo di una grande produzione ma anche il narratore di questo grande cambiamento dell'Italia nella modernità allora vediamo cerchiamo di vedere innanzitutto come riesce e cosa come l'insieme della casa di produzione dei suoi attori e di tutte le persone coinvolte nel film riescono ad arrivare a Venezia vi propongo quindi per iniziare tutta una serie di documenti pregi alla presa o presentati insomma ovviamente dall'archivio storico e che ci fanno vedere tutto il processo che va diciamo dalla scelta del film fino alla sua presentazione alla alla mostra alla ventitresima mostra internazionale di arte cinematografica mostra del trentennio ovvero celebra i trent'anni dalla prima edizione 1932 non passerò scorrerò un po' questi questi documenti in maniera un po' un po' rapida questi riguardano come vedete e anche non so con una certa sorpresa da parte mia la velocità con le quali questo insieme di film che non riguarda soltanto Smog ma che riguarda anche il film che poi vincerà questa edizione che si chiama Caronaca Familiare di Zurlini e un altro che invece non arriverà che sono le quattro giornate di Napoli cercano di essere imposti dalle produzioni proposti e poi insomma dialogati con i responsabili della Biennale come vedete però le date di questi documenti cominciano verso la metà fine di luglio 19 luglio 1962 aspetta perché sto ovviamente seguendo due computer anzi tre e per quello vado avanti con uno non mi dimentico dell'altro qui ci sono una serie di risposte quello che sorprende almeno da parte mia insomma cerco anche di fare una presentazione abbastanza rilassata insomma per voi è anche la velocità con la quale si avviene insomma questa vicenda voglio dire noi siamo abituati alle mail ai contatti costanti in realtà questi 20 giorni non solo risolvono ma addirittura ci sono risposte da un giorno all'altro e quindi vuol dire che insomma il contatto è continuo e fra l'altro sono risposte scritte non si parla di telefonate o di documenti di questo genere addirittura appunto abbiamo i telegrammi in cui Rossi si ringrazia arriviamo quindi in questi ritagli giornale il popolo di Roma ed altri che verso la metà cioè scusate l'inizio di agosto e l'otto agosto cominciano a presentare quelli che sono i film prescelti con tutte queste contestazioni ovviamente intorno ci vorrebbero gli azzurrabili ci vorrebbero più film italiani non riusciamo ce ne sono almeno dieci in quel ritaglio piccolo se riuscite a leggerlo che meriterebbero di essere qui insomma non è possibile che nella giuria ne scelga soltanto tredici scusate soltanto tre arriviamo infine alla scelta dei quattordici film in concorso alla biennale in quell'anno saranno presentati 34 film vediamo tra un po' anche la lista i quattordici sono qui spero che ve li riusciate riuscite a leggerli è troppo piccolo si legge no? ci sono delle pietre miliari Lolita che ha molte difficoltà ad essere accettato francamente guardando gli altri documenti la critica americana ne ha parlato malissimo hanno sbagliato dovevano prendere un altro film italiano uno dei due film che vinceranno appunto Cronaca familiare Zurlini ma l'altro è L'infanzia di Ivan cioè primo film che esce dall'Unione Sovietica di Tarkovsky presentato e vissuto nel momento della della mostra semplicemente con un favore fatto all'Unione Sovietica di presentare la sua produzione un momento che come verrete non è assolutamente secondario ve ne sono altri soprattutto abbiamo anche Orson Welles che poi eccetera giusto non li nomino insomma anche per andare un po' più veloce la mattinata è già troppo lunga vi faccio vedere però la cartella stampa ufficiale quindi che trovate anche nella bacheca lì a sinistra perfettamente ordinata dalla LIA questa mattina e in cui sono contenuti anche dei libri di paginetti o altri documenti alcuni di quelli che sono presentati ma ne sono molti altri quindi anche mostrare insomma questa grande quantità questa miniera che è offerta dall'archivio una miniera che forse come in questo caso può sembrare un po' superficiale marginale cioè nel senso non sono documenti manoscritti non sono la scenografia originale per quel che voglia dire originale insomma di una scenografia poi sposta in pellicola ma consentono molto molto bene di inquadrare e di capire alcune scelte direi strategiche intorno al film ma non solo soprattutto di le ragioni che stanno alla base di molte di queste operazioni che si verranno anche all'interno proprio stesso dell'immagine del film quindi la cartella che vedete qui è anche una cosa molto interessante la trovate in quattro lingue mi sembra nelle baccheche non so quanto si possa leggere ma ad esempio già questa ci dice che la versione presentata o probabilmente montata ancora in quel momento presso la casa di produzione non corrisponde esattamente al film che viene poi presentato ad esempio ci sono delle variazioni leggendola con attenzione nella forma del finale e di altre parti quindi anche un documento così come dire formale ed ufficiale ci fa capire alcune questioni riguardo ai valori e alle ragioni culturali dell'enemone un altro punto interessante è il catalogo quindi il catalogo ufficiale questo questo bel volume che appunto trovate invece nella bacchecca di sinistra in cui è presentato Smog con la scelta di due immagini due immagini che secondo me presentano bene questa doppia faccia che ha di un film che vuole essere distribuito e riuscire ad avere un successo di pubblico così come si vedeva molto in queste immagini l'immagine fissata dalla locandina in cui sembra che questi due personaggi abbiano un'attenibile zuffa che in realtà è un episodio molto piccolo all'interno del film e tutto sommato marginale però nella foto sotto c'è forse una delle immagini più significative almeno per me per i miei interessi e anche per tutta la relazione di questo film che è questa fotografia di Anir Girardot e di Renato Salvatori all'interno della piscina della Stal House ovvero dell'edificio più iconico di Los Angeles che incontreremo a un certo punto del film ecco l'ho vista un po' meglio e quello che mi interessa è anche che all'interno appunto del programma ci sono delle pubblicità e no queste due immagini rappresentano proprio i due film che sono portati dalla Titano c'è un canterzo e devo dire che se dovessi scegliere il vincitore sulla base della pubblicità sceglierei probabilmente Cronaca Familiare giusto per la faccia la bella faccia di Splendido Mastroianni questo è il programma ufficiale quello che viene diffuso che vi faccio vedere sia perché trovate i nomi della giuria c'è Rondi ci sono altre persone i costi vi racconterò molto di storia materiale in questa mia ricostruzione e per farvi rendere conto insomma un po' di quella che è la la situazione in cui ci muoviamo qui abbiamo invece le prime informazioni riguardo alla proiezione perché la cosa interessante è che Smog apre il 25 agosto 1962 la mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia non è un è un film d'essere mi permetto di dirlo alla francese nel senso appunto con questa idea da Nouvelle Vague infilato dentro per quelli che già lo conoscono poi forse sarà più esplicito per gli altri dopo ma è un film proprio che si presenta come il blockbuster per iniziare la 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 mostra si presenta con attori importanti non è un come dire non è un underground non è un film infilato in in qualche storia parallela apre letteralmente attraverso probabilmente anche delle ragioni che io leggo molto biografiche molto veneziane con una scelta appunto di far vedere una storia che adesso cercherò di ricostruire quello che è interessante è che questo film riguarda degli italiani all'estero e e anche il no ho saltato no giusto allora degli italiani all'estero che è un tema che attraversa forse anche altri altri altre proiezioni altre opere qui nell'insieme avete visto prima la lista dei 14 questi sono altri film dei 34 complessivi in rosso messo comunque quelli di produzione italiana per far vedere che poi alla fine la presenza italiana comunque riesce ad essere consistente però il film si apre si chiude con due storie italiane di italiani all'estero un altro capolavoro quale spero un giorno insomma avremo occasione di vederlo l'archivio eccetera non so c'è una relazione così stretta come smog ma che è Parigi Ocara die con Franca Valeri Mattioli eccetera che è un film straordinario sulla storia appunto di un personaggio molto particolare la signorina inventata che poi diventerà il personaggio principale della Valeri che è questa prostituta molto particolare romana che però ha il sogno di andare a Parigi e che invece insomma anche lei incontrerà altri italiani all'estero con una storia del tutto parallela ma completamente diversa a quella che accade in smog entriamo finalmente nei momenti della proiezione la proiezione di smog è aperta dal 25 agosto alle 10 di mattina in sala grande in una conferenza stampa poi c'è la proiezione già il 24 per la stampa il pomeriggio i film erano sempre presentati prima la stampa almeno quelli in concorso e poi finalmente alla sera alle 21 e 30 un po' più tardi per quanto riguardava la sala grande quindi una parte per il grande pubblico e una parte per il pubblico di Stato invitato apriva alla presenza delle istituzioni e in generalità di una star la proiezione principale la proiezione principale alla quale è invitata la Lollo in film italiano ha dato il via alla mostra cinematografica di Venezia è smog del regista Franco Rossi una pellicola che ha vari motivi di interesse ma non ha la forza del capolavoro subito stroncato come vedremo tra un po' il film non ha un successo alla sua prima proiezione vi mostro ancora alcune foto che non vengono dall'archivio della Biennale purtroppo o per fortuna questo forse fa vedere che ci troviamo in una città straordinaria in cui si sta costruendo ancora sempre di più e posso dirlo dal diretto contatto con tutte le persone che sono anche coinvolte ad intervenire oggi eccetera di questa rete di archivi incredibili a questo in particolare l'archivio delle carte del contemporaneo che contengono che contiene il fondo il film di Pier Maria Pasinetti in cui sono contenute alcune fotografie le uniche fotografie quindi che per il momento ho trovato sulla la proiezione d'apertura sono queste come vedete in sala grande sala cinematografica la platea insomma e questo probabilmente ricevimento avvenuto prima o dopo insomma in cui vediamo alcuni dei produttori Pasinetti e la Lollo in per il film ripartirei con la proiezione devo mettere l'audio scusatemi l'audio Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, sono io. Non l'inglese, per favore. Io comprendo l'italiano, ma non lo parlo. Ho parlato francese, spagnolo, per casualità. No, comprendo, è spagnolo. Io rappresento l'aerolino mexicano e sto a sua disposizione. Mi permite il suo billetto, per favore? Certo. Ecco qua. Sì, è un po' cercante, aspettare fino a domattina. Arrivederci, cari, io devo restare. Sì, sono italiani. Non, grazie, sono degli emigranti che ho conosciuto in aereo. Posso vedere il passaporte? Certo. Gli italiani sono molto simpatici in Italia, ma all'estero, vero? Vuoi dire a descansare a la città? Io non ho visto per l'America. Io non prevedevo una sosta così lunga, sai? Io sono in tranzito, vado al Messico. Ma questa notte può restare sotto la responsabilità delle areolino mexicano. Deve essere qui a la una. E non c'è controllo di polizia di frontiera. Stiamo di accordo con l'Officina di Immigrazione. Ah, bene, allora. Non è così. Beh, devo dire che è molto facile entrare in America. Puedo preguntarmi il passaporte? No, noi abbiamo il billetto e il passaporte. Questa notte se lo devolveremo. Ah, bene. Tiene dinero americano? Sì, circa 500 dollari. Vuoi adquire un carro senza chofer? No, preferisco prendere un taxi, grazie. Usted pagherà demasiado tomando un taxi. Los Angeles è una città molto grande. La salita è per lì. Bene, grazie. Allora, fino a questa inquadratura, se posso mettere le diapositive? Abbiamo assistito a una sorta di esperienza reale, sincera. Nel senso quella di scendere da un aeroplano, entrare in una serie di ambienti e poi uscirne per andare fuori dall'aeroporto. Il luogo in cui ci troviamo è un luogo assolutamente nuovo. È il primo film che viene girato nel nuovo aeroporto di Luxon, che è il risultato di un enorme ampliamento nell'epoca della cosiddetta jet age. Tutta la storia, la mia storia di oggi, vorrebbe muoversi tra due voli. Tra due voli, tra aerei che esistono, aerei che non esistono, aerei che non riescono a stare in aria, e così via. Non so se ci riuscirò completamente, ma cominciamo un po' da qui. E questo è il momento in cui i viaggi commerciali con degli aeroplani a jetto, ovvero dei jet, comincia completamente a dispiegarsi. Per noi italiani, per voi italiani, forse pochi tra tutti noi, questa esperienza verrà fatta nel nostro paese con le Olimpiadi del 1960, in cui appunto vengono realizzati i grandi hangar di Nervi a Roma. lo stesso Marco Polo, che sostituisce il Nicelli, viene realizzato in 1959, aperto in 1959, in quella prospettiva. La freccia blu, che ancora trovate sulla rotonda, è stata fatta in quell'epoca là. E quindi è il momento di una trasformazione, una trasformazione che non è solo economica, ma che è una trasformazione sostanziale. la diffusione del trasporto aereo di massa sicuro a partire dalla fine degli anni 50, più precisamente intorno al 58. Il 58 è esattamente l'anno in cui ci sono più persone che attraversano l'Atlantico con l'aeroplano di quante lo attraversano con la nave. Pensate anche un'altra cosa, che il 4 ottobre del 1957 era stato lanciato lo Sputnik. Un grosso problema strategico per gli americani. Vedremo poi che cosa comporta, anche rispetto alle nostre storie. Qui adesso ci tengo a farvi vedere una serie di cose che ci fanno vedere quanto Smog sia avanti o faccia per primo, metta in scena per primo e comprenda profondamente alcuni luoghi che verranno poi idealizzati nel cinema americano. Il primo è appunto questo passaggio dall'arrivo. Abbiamo visto queste immagini in cui si vedevano degli aerei. Lui probabilmente si muove come un TWA, credo, ma poi tra finzione, in realtà non si sa esattamente cosa accade. Comunque ci sono questi satelliti nel centro delle piste. Avete poi, questo è l'insieme, vedete, un airport for the jet age. Ho preso queste immagini dall'archivio dell'AXA, avete detto sotto l'AXA. È una grande ricerca d'archivio, insomma, sommare tutte queste cose che cerco di mostrarvi oggi e che mostrano bene come viviamo della possibilità di rendere leggibili e spiegabili molte vicende, molte opere, eccetera, grazie a questi depositi che hanno la loro funzione e la loro forza sempre più crescente. Penso anche quindi al progetto dell'archivio della Biennale. Allora, il nuovo aeroporto è costituito appunto di questa nuova immensa estensione che si basa sulla creazione di una parte centrale che vedete, insomma, dove sono posizionati i parcheggi, con un edificio che avete già visto, che è quello che vi ho sottolineato, che si chiama team building, ma sul quale torneremo dopo, e questi ambienti più piccoli da cui si accede tra il terminal in cui si scende l'aereo e il passaggio attraverso i tunnel e l'uscita dall'aeroporto. Come ogni aeroporto, ovviamente, il luogo centrale è la torre di controllo, la si vedeva proprio nella primissima immagine che adesso spero che vi ricordiate, ma la prima cosa che noi vediamo è il cartellone, stiamo ancora costruendo l'aeroporto. Lo vediamo prima ancora del nome del produttore, poi scende, si sposta verso destra, ci fa vedere la torre di controllo sullo sfondo questo edificio, che è iconico proprio della Jet Age. Vediamo la torre di controllo e dopo la torre di controllo vediamo, questo è l'insieme, insomma, per spiegarlo, se volete sotto sono un po' anche le citture, questa è la pianta che vi fa capire ancora meglio un po' il TWA, probabilmente dove è sceso il nostro protagonista, e questi personaggi attraversano un luogo, questo tunnel che si vedeva. Evoca molto il primo saggio cinematografico di Lucas, che si chiama THX 1138, fatto da Lucas all'epoca, non so quanti di voi, poi diventa anche il primo film di Lucas, che si basa su questa supposta utopia, disutopia, in cui tutte le persone vivono sottoterra, ma è molto simile a queste inquadrature. Quindi questo luogo diventa tremendamente evocativo. Ho inserito tre video in questa presentazione, purtroppo non riusciamo a farveli vedere, perché sennò a parte là c'è un problema di cavi, quindi vi faccio vedere le immagini fisse. In realtà il primo di questi video è un signore, un operatore dell'aeroporto, che spiega che cosa si vede in questi tunnel, e racconta, girandosi, proprio facendo questo gesto con la mano, che in realtà la decorazione di questo tunnel riprende la mappa degli Stati Uniti. È una gradazione di colore che vanno dal blu, al giallo, al marrone, eccetera, che rappresenta tutti gli stati dell'Unione. Questo luogo diventa celebrato in tantissimi film. Io ve ne mostro almeno due, non ovviamente interamente. Ah, no, è andato avanti. Probabilmente più che un film, la prima è una serie. Forse l'avete riconosciuto, si chiama Mad Men, in cui viene anche usato, soprattutto in uno degli episodi più famosi, questo arrivo all'aeroporto di Los Angeles. E dall'altra parte, forse vedete, riconoscete Pan Grier, nel film di Tarantino, in cui in realtà Mad Men riprende Tarantino, in cui non è tanto un carrello, ma una camera fissa, appoggiata sul tapirulà, che si muove e mostra la sequenza dei colori, eccetera. In Mad Men la scena viene fatta lo stesso da parte del protagonista, al netto maschile. Per spiegarvela meglio, avevo la seconda immagine. era appunto questo famoso arrivo del protagonista e della sua compagna nel film, scusate, nella serie, che viene a prenderlo proprio all'uscita. Quindi si vede proprio riprodotta esattamente all'operazione di Smog. questo per dire quanto questo film, come vedrete anche per molte altre cose, sia veramente all'origine di cose che poi diventano fondamentali e ripetute, proprio aver visto insomma sia Mad Men è un'icona post-modern quanto Tarantino e le sue riletture del cinema classico, del cinema popolare degli anni 60 e 70. Un'altra immagine importante è questa, Point Black, 1967. Quindi dobbiamo aspettare almeno cinque anni per rivedere la stessa cosa al cinema. In un film, tra l'altro fondamentale per la storia di Los Angeles, perché è uno di quelli che mostrano di più proprio l'identità della città con tutti, come dire, come vedrete, dirà più tardi anche Alexander Schwarz che si collegherà da New York, ma insomma una grande studiosa della storia dell'arte contemporanea di Los Angeles, come alcuni di questi film che appartengono da Point Black, mostrino esattamente i luoghi e le ricerche delle avanguardie artistiche dell'epoca. La terza immagine, la quarta immagine, scusa, che avevo la terza sequenza che volevo farvi vedere, è un altro incipit, famosissimo, di un film che ha solo l'inizio a Los Angeles, che è Easy Rider. Immagino che forse, spero che vi ricordiate questa scena bellissima in cui i due protagonisti, uno che è un artista della pop art come Dennis Hopper, cioè veramente coinvolto non solo nell'arte cinematografica, ma assieme a Peter Fonda, vanno a vendere il quantitativo di droghe che si sono procurati in Messico a il grande produttore di musica, Philip Spector, che interpreta quasi se stesso, e per fare questo scambio si mettono in un luogo più sgradevole possibile per non essere controllato alla fine, all'inizio della pista di atterraggio dell'Ax. Ve lo lascio vedere se non lo conoscete, ma almeno i cinematografari lo conoscono molto bene. Ancora di più, quindi vedete che questa invenzione di questo luogo avviene attraverso un film italiano, il primo film italiano prodotto a Los Angeles, realizzato a Los Angeles, eccetera. Bisognerà aspettare almeno due anni per vedere un altro film italiano realizzato a Los Angeles. Intrigo a Los Angeles. Un thriller di Vittorio Sala, una storia di spie, scambi di informazioni atomiche e così via. Un film quindi con tutt'altro tono in cui Los Angeles viene usata un po' per alcuni sfondi, ma non ha nessuna ovviamente densità e importanza come per gli elementi che abbiamo trattato finora. Nella scena su cui ho bloccato il film vedevamo il primo punto di stacco in cui, come dire, ci troviamo a che fare con qualche cosa che non sia questa sequenza diretta aeroplano, terminal, tunnel, uscita. ma questo edificio assolutamente unico e distintivo nella storia di Los Angeles tuttora dal 1993 è diventato monumento nazionale che si chiama il Team Building. Il Team Building è un edificio realizzato da molteplici architetti, due principali, è uno studio che a quel momento si chiama William & Pereira, sembra un po' William & Barbera, ma insomma uno dei due ha anche lavorato molto nel cinema e così via eccetera. È uno studio, uno dei più grandi studi professionali americani dell'epoca, in particolare il sesto come produzione a quell'epoca, e però è codiuvato da alcuni altri architetti e disegnatori, tra cui questo famosissimo Wright, che è uno dei più grandi e più famosi architetti afroamericani di Los Angeles, se non americani, scarsamente conosciuto fuori da Los Angeles, ma in realtà lui ha realizzato tantissime ville per le stadie hollywoodiane, è interessante nominarlo in questi giorni, anche in relazione alla Biennale, al famoso esodo afroamericano, ed è coinvolto in questo progetto anche lui. In realtà questa immagine che avevo usato in una conferenza purtroppo vent'anni fa mi ha sempre molto piaciuto, è una fotografia di Gary Vinograd in cui questa stampa in particolare sta al Ghetti Institute, al fondo del Ghetti, e l'ho messa a punto ancora una volta per far vedere queste connessioni tra archivi. E anche perché se voi leggete un po' il testo che descrive queste immagini, credo che esprima con tutta la professionalità di un grande centro di ricerca e di collezione americana l'esatta qualità di quello che viene espresso in questa fotografia. Vinograd è questo grande fotografo di strada, insomma, paesaggistico, come diremmo all'italiana, ma che rappresenta soprattutto in questi anni, all'inizio degli anni Sessanta, il cambiamento della società americana attraverso alcune figure, soprattutto quella della donna, ma soprattutto anche degli animali inseriti in alcuni contesti urbani, ma quasi esotici. L'edificio, come vedete, ha la caratteristica di sembrare una nave astrale, insomma, un UFO appoggiato su delle gambette molto esili sul suolo terreno, sul suolo della terra, insomma. In realtà non è altro che la riduzione di un progetto molto più grande, che era quello che immaginava, un po' come è accaduto recentemente, invece, in alcuni aeroporti del Far East, non so, Singapore, piuttosto che un altro aeroporto recente realizzato da Fuxas in Cina, una grande cupola, al posto di quello spazio che vedevate coperto dai parcheggi, immaginavo una grande cupola sopra la quale doveva starci su questo oggetto che era, come vedete, una terrazza per vedere l'interno, quando invece questa terrazza nel team building è all'esterno, e doveva coprire tutta e riunire tra loro i vari punti di accesso all'interfaccia, diciamo, tra l'arrivo all'aeroporto e l'accesso ai gate. L'edificio è un edificio che ha una lunga storia, adesso è stato acquistato, adesso, da parecchi decenni, è stato acquistato dalla Walt Disney che l'ha trasformato in una specie di luogo, di parco tematico, insomma, però esprime esattamente questo spirito della jet age dell'epoca, si rifà la cosiddetta architetura grange e probabilmente voi l'avete visto anche rappresentato in alcune delle immagini che forse tutti da piccoli abbiamo visto dei Jetson, per esempio. Non le ho messe, c'erano alcune cose, ma insomma, anche per non andare troppo lunghi, già così, insomma, mi sto intrattenendo molto. Ripartirei col film e vi faccio vedere una sequenza abbastanza lunga. A presto. 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 Gli italiani sono... For over 40 years, Los Angeles County led all other counties in the United States manual bond products. Gli italiani sono due cose, il primo riguarda il fatto che abbiamo una sequenza un po' rovinata saltando, mi scuso, ma non è sempre facilissimo. E' di circa 35 secondi in un tunnel nero. Per vederne una altrettanto lunga dobbiamo aspettare che Wim Wenders faccia Summer in the City, che è il suo secondo film, in cui ne farà una da un minuto e cinque secondi. E' molto famosa perché non si vede sostanzialmente niente, si intende però la musica. Qui la musica che abbiamo sentito partire quando sale sul taxi è quella di Chet Becker, che fa da consulente soltanto per alcune parti del film. La prima battuta vera che sentiamo della storia, perché fino a qui abbiamo avuto la premessa, l'abbiamo avuto non tanto l'incipit, ma la contestualizzazione della vicenda, che comincia in questo momento, è... Ma lei è italiano. E' un'altra volta qui. In America. In Messico. Non capisci cosa sto dicendo. Grazie. 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 più precisa. Questo giornale dice Russ explode the big bomb. Russ è per Russian. I russi hanno fatto esplodere la grande bomba. La grande bomba è in effetti la più grande bomba atomica mai esplosa. Il 30 ottobre 1961 la famosa Tsar Bomb che forse vedete per scala in questo diagramma, l'ultima quando vedete in piccolo Hiroshima e Trinity nel diagramma una bomba da 50 megatoni limitata dal fatto che potevano farla ancora più grande ma c'era il problema anche di trasportarla e poi anche del fallout. Quindi per come è concepita comunque era il tentativo da parte dei sovietici di fare esplodere la più grossa bomba mai realizzata. C'è un bellissimo documentario anche su YouTube russo decrittato insomma che si può per ricostruire la vicenda. Perché vi faccio vedere questa cosa qui? Intanto per una prima ragione probabilmente i diari di Gianfranco ce lo dicono ancora meglio ma il film è stato girato ufficialmente tra settembre e ottobre 1961 molto più probabilmente è creso da agosto in poi. Quindi questi sono anche quei dati interessanti per come dire comprendere esattamente i momenti in cui vengono le riprese alcune le riprese tra le quali se voi guardate sempre con attenzione troverete sempre dei riferimenti all'Italia cioè con Paris Pizza più tardi troveremo delle pubblicità dell'Alitalia ed altre. però la cosa interessante è che quel 25 agosto 1961 c'era un grosso problema per gli americani. Già da un po' di tempo degli abitanti non allineati alle forze governative di Castro avevano mandato dei messaggi perché giravano per l'isola di Cuba dei camion molto grandi che non riuscivano a girare nei villaggi erano così lunghi che non riuscivano a girare. Gli americani dicevano allora di lanciare un programma di voli appunto per tornare a questi aereoplani supersonici eccetera di B2 per fotografare l'isola e però questa cosa inizia all'inizio di agosto in realtà non riescono fanno quello che si chiamerà il famoso fly gap non riusciranno a rivolare a poter fare le fotografie possono volare ma ci sono delle nubi sopra Cuba per lungo tempo e non riusciranno in questi giorni soprattutto alla fine di agosto 25 agosto a vedere che cosa sta veramente succedendo quando invece ci riusciranno fanno queste famose fotografie ovvero tutta questa vicenda che noi assistiamo succede mentre si sta innescando la crisi di Cuba è il momento più famoso più anche celebrato a questo punto anche da parte del cinema della guerra fredda la questione si risolverà molto tardi verso la fine di ottobre e vorrei finire con un'immagine di quello al termine della della presentazione però ci riguarda forse anche un po' più direttamente i sovietici erano molto preoccupati perché qualche tempo prima in reazione proprio appunto al lancio dello Sputnik Esenauer aveva lanciato un grosso programma di 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 installazione di armi atomiche che potessero attaccare la e che potessero essere in grado di rivaleggiare tecnologicamente con con le forze sovietiche coinvolgendo gli alleati uno di questi alleati è l'Italia anzi uno dei tre alleati solo i tre paesi che sono coinvolti in questa cosa sono la Gran Bretagna da sempre no in prima linea e così via ma poi c'è la Turchia che accetta e poi c'è tutta la vicenda del cosiddetto neoatlantismo Fanfani Mintor va nel 1958 a discutere di questi aspetti anche di altri ovviamente poi viene coperto da altre storie eccetera questa era la questione principale direttamente poco dopo essere stato eletto un mese e mezzo dopo forse anche prima adesso non mi inquieto troppo per vedere le date perché poi mi angoscio se no fare la presentazione però le potete vedere lì e va a visitare l'amministrazione per decidere la strategia attraverso la quale poter installare dei missili balistici atomici contestati atomiche in Italia questa vicenda è una vicenda molto interessante sarebbe lungo discuterne eccetera perché è una vera e propria strategia molto elaborata del fatto di poter accettare queste armi senza dover passare per un'approvazione dell'intera come dire del Parlamento e così via quindi posizioni ma non è tanto quello sarebbe complicato molto la segretezza della cosa cosa che invece comunque avviene quindi va in visita a Washington e in questa visita in questa visita abbiamo alcune foto che troviamo appunto nella catalogo generale di bine culturale nel fondo Pasinetti qui disponibile a Venezia le persone che vedete lì sedute sul divano sono chi è poveri chiotto se lo ricorda Fanfani il piccoetto come si diceva un altro signore che diventerà da lì molto famoso ma era già il vicepresidente si chiama Richard Nixon e un altro seduto sul bracciolo che si chiama Pier Maria Pasinetti eccolo qui con gli stessi personaggi sono anche il responsabile della difesa così via quindi questa personalità che per il momento abbiamo visto incontrata come dire a un livello letterario ha un'implicazione esclusivamente come dire di dimensione artistica o creativa in realtà viene chiamato proprio anche per le sue capacità linguistiche ma anche per la figura che occupa come sicuro alleato Pasinetti è il primo laureato italiano a Yale nel 1938 poi si dottora anche successivamente in America quindi ha questa immagine dell'italiano fidato per le due parti a livelli vedete decisamente elevati per non dire delle sue conoscenze di tutte le star di Hollywood per altre ragioni che vedremo più tardi c'è una volgata che fa passare la risoluzione della crisi di Cuba per il ritiro dei missili italiani in realtà è Bernabèi che parla di questo dopo che Fanfani è morto eccetera in realtà però la cosa partecipa effettivamente una delle ragioni attraverso le quali Khrushchev si accetta il ritiro delle armi che sono già arrivate in realtà le prime armi che arrivano le prime testate atomiche che arrivano a Cuba arrivano il giorno di chiusura della Biennale l'Otto di settembre non c'era un ancora mentre li stavano cercando e in realtà quindi comunque sicuramente un fattore che partecipa è il fatto di ritirare le testate che sono state installate in Puglia lo vedete in quel diagramma in basso insomma queste sono delle immagini sia dello stato attuale che lo vedete in parte adesso è trasformata in un campo profughi nella parte alta sotto abbiamo un diagramma e una fotografia d'epoca che insomma mostra i famosi missili dell'epoca torniamo alla nostra biennale e forse l'altra cosa che è interessante dire prima di continuare questa visione che adesso sarà un po' più lunga vi lascio vedere un po' di più è il fatto che lo stesso 25 agosto in cui viene proiettato il film apre a Los Angeles una mostra fondamentale ve ne parlerà probabilmente la Schwarz più tardi ma che si chiama New Painting of Common Objects che viene recensita qui in una pagina di Art Forum la più importante rivista d'arte americana proprio come immagine del nuovo annuncio della pop art della West Coast che non è corrispondente a quella di Wall della costa occidentale ma in cui il personaggio probabilmente ancora non famoso ma che diventerà il più affermato è Ed Rouchet di cui vediamo questo famoso quadro che si chiama Spam e che produrrà questa serie famosa di volumi tra cui 26 Gags on the Station ma soprattutto il famoso leporello di Every Building on Sunset Strip nel 1966 che è questo leporello ovvero questa strisciata con i due lati da Hollywood Boulevard che si vede molte volte nel film torniamo a vedere il film che si vede Grazie. 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 Ecco, adesso finalmente succede qualcosa. Buongiorno, scusi, questo pittore Marpicati è qui? Yes, I think he's here. Mabel, darling, shall we give another try to the loudspeaker? Let's try to fix it. All right, just a second. Grazie. You, pittore Marpicati? No, I'm here to fix the music. Mabel, are you ready? Yes. But on the music, honey. Okay. Louder, louder. No, no, that's too much. We scare away all the customers. Not that we have any. Oh, that's fine. Oh, that's fine. Oh, e lei il pittore? Sì, sono il pittore Lelio Marpicati. In italiano? Sì. Beh, che gliene pare? Dica pure. Libertà di parola, specialmente qui in America. Lei qui in America da molto. No, da un paio d'ore. Io da qualche settimana. Ho cominciato a esporre a New York, cinquantasettesima strada, una delle migliori gallerie. It's okay. Ora qui a Los Angeles, poi a San Francisco, poi a Dallas nel Texas. Si vende molto bene nel Texas. Anche qui intendiamoci, ma nel Texas c'è veramente la grana. Prego. Grazie. Qui in America sai come pittura va solo la strattina. Sì, sì, ma a me non piace, scusi. Ok, sono d'accordo anche io. Ma lei è italiano? Yet. Perché prima non mi ha risposto in italiano, scusi. Perché mi diverte fare l'americano. E lo faccia con gli americani, allora. Eh, adesso. Lei si tratterà molto a Los Angeles? No, solo fino a questa sera. Beato lei, io devo stare qui ancora un paio di settimane. Si sarà accorto che questa è proprio una città incredibile? Ma cosa vuole che mi sia accorto, salvo il fatto che qui si deve vivere praticamente l'automobile? Ah, beh, in fondo qui sono ancora circondati dal deserto. Mi sento per favore, non si potrebbe trovare un posteggio di taxi qui vicino? Io posso dare a lei uno lift? Cosa mi può dare? Posso dare un passaggio. Ah, ma io vado fino all'aeroporto, sa? All'aeroporto? Peccato che io devo fare qualche gioco, qualche cosa. Beh, può almeno lasciarmi al primo taxi. Ah, 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 ok. Ecco, allora se non mi piace. Eh, arrivederci maestro. Allora la musica è a posta, eh? Vai. Arrivederci. Permette? Ciocchetti. Io sono Mario Scarpetti. Dopo permetterà che regoli io la benzina, eh? La gasolina qua in America. Eh, che cosa c'entra, no? No, non può dire. Buono figlio, buono. Eh, non facile trovare taxi. Cosa c'è scritto all'Italia? Eh, mi sono accorto. Ma perché? Perché non ci sono turisti. Qui tutti tengono l'automobile. Eh già. Eh, questo è il paradiso sulla terra. Sì. E ci abiti in questo paradiso che non ho incontrato nessuno per strada. Tanto che cammino. Ah, 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 ah. Tutti gli italiani fanno così. Cosa? Camminare. Ma qui non c'è nessuno per strada. Sono tutti in casa, negli uffici, nei markets. Coke. Ah, grazie. Non nemmeno un caffè ho potuto trovare. Ah, 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 ah. Tutti gli italiani cercano il caffè. Ma scusi, lei ha la cittadinanza americana? No, ho fatto la domanda. Spero di averla presto. Beh, intanto che cos'è? Cosa sono? Eh, niente. In realtà il film non va mai a Los Angeles. Spera Hollywood, Beverly Hills. Stavo malato, l'ho preso dalla clinica, lo sto portando a casa sua. Ah, levate le nalle. No, no. Io e certi amici miei abbiamo una specie di arrangement, you know? Un patto con la clinica. Gli portiamo i cani malati. Stiamo pensando a un progetto su scala molto più, più larghe. Un'idea veramente importante. Assicurazioni. Come? Perché? Lei si intende le assicurazioni? Un pochino, io sono avvocato. Beh, assicurazioni mediche. Assicurazioni contro le malattie. Come per gli esseri umani, no? Fredo, tu sei meglio di un essere umano, costi anche di più. Guardi, è uno smasher, un'idea prodigiosa. Lei prende un esempio fra mille. Lei conosce quell'attore inglese, Freddie Whittaker, no? Quello grasso, quel pederastone, l'avrà visto in qualche film. Beh, nella sua villa Santa Monica tiene 37 gatti. Pensi, assicurarglieli tutti, tutti e 37. È una buona idea, glielo auguro. Lei crede che non è possibile? Ci vuole inventiva. È California il paese dove si può vivere come mi è sempre piaciuto vivere a me. Un po' di inventiva e allo sbaraglio. Un momento, per favore. Paido, Paido. We're home. Mother little darling, Mother little darling. Come on. Home you go, home you go. Adesso senti lo strido della mamma quando lo vedi. Ecco, questa è la mamma. Lo vedi della mamma con una brucia è arrivata in blando. La mamma mia, andyttari di come una mamma. Dammi chiamato... …iascire in blando. Un signore dolin. Ho saltato un po', adesso è andato avanti. Non si dice, ma non пропa. Salvadori con uno dei molti lavori che fa è quello di insegnare del convers nên aparecer. cioè qualcuno che è da turista vuol visitare l'Italia o divertirsi a parlare l'italiano, ha una serie di ricche signore insegna un po' di espressioni eccetera, e poi come vedrete andrà a fargli la pizza anche a casa un po' queste cose da arrangione insomma Oh dear, am I late? No, ah, ah, cosa ho sentito? Am I late? No signora Pauline, non è in ritardo ma Oh, mi dispiace, ho parlato inglese Biggie bank, biggie bank, agarre No, sì, sì Il porcellino salvadanaio attende il pagamento di un quarto di dollaro per ogni parola non italiana pronunziata durante la lezione Ripetere Un quarto di dollaro per ogni parola non italiano pronunciato durante la lezione Ok, giusta offerta destinata a bambini italiani meritevoli e bisognosi Bambini italiani bisognosi Dunque, dunque belle signore Vogliamo continuare la nostra lezione del parrucchiere? Prendiamo per esempio lei, signora Pauline Faccia conto che io sia il famoso parrucchiere adulto No, no, è Alexander Alexander Ok, you like Alexander Io sono qui con il mio bel camice bianco Smoc Tutto bello profumato E dico Stia attenta signore che questo poi dicono in Italia Dunque dico Bonjour madame Che cosa posso fare oggi per la sua bellezza? Conoscere i prodotti nella buona società Qui è un'altra scena la rovino un po' nel senso che tutti questi luoghi ovviamente sono connessi attraverso dei viaggi in auto Ma che scherza Ma questa è una casa che varrà 50.000 60.000 dollari Sì 50.000 dollari spesi male a ripicare da questa cucina E questo è bruciato Peccato Ma lo sa che solo col terreno sono diventati tutti i miliardari qui E perché c'è l'oro Ci sta tutto qui Ah ma c'è il salotto Ma come diavolo ha fatto lei ad arrivare fin qui Eh Eisenhower Eisenhower Eh Io stavo a Trieste no eravamo andati là con tutta la famiglia perché al paese nostro non c'era niente da fare Eisenhower ha fatto una legge che certe famiglie potevano emigrare Sì Ma perché avete emigrato Ma non lo sa lei che si muore di fame anche a Trieste perché Siamo stati mandati a Detroit ma la mia famiglia non ha resistito e sono tornati in Italia Io invece sono scappato e ho attraversato tutta l'America E qui mi trovo benissimo Cosa vuole che le dica Sarà il clima qui che mi dà un sacco di idee di progetti E le cose che c'ho a fuoco io E le pizze intanto Su avvocato gliele faccio assaggiare Sì My friend will serve you Allora ecco qua care signore Prego Questa è opera del vostro benamato professore Anche lei professore italiano No no Professore di pizza allora No 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 Io non sono professore Mario May I have another stinger You make them so well Oh yes That's right Ok Don't forget the ice You know I like Chi chiamava? Era Perisa Non lo sa Come? Dick Ah Sei anche la loro Qui vi presento L'altro personaggio Principale Che è Quello della Girardù Ma andiamo via Che è questa donna Molto indipendente Ma si capisce che Scherzavo Che è amica Di Salvadori Ma lo sa che lei è un tipo Veramente curioso No ma adesso non crederà Davvero che io Lo paga per questo servizio Insomma di farsi portare in giro Certo perché non andiamo da qualche parte Non so avere un bicchiere Salvadori propone Ma non stiamo andando all'aeroporto A Salerno di farsi seguire Perché non mi fa conoscere Questa signorina Gabriella Per esempio Vabbè Tanto ci deve andarsi Tanto c'è tempo E poi sa Per un italiano all'estero Incontrare dei connazionari Non le dispiace No? Il personaggio è completamente diverso Se lo vediamo prima In una camera C'è una camera cara Con delle immagini scure Non parla La incontriamo soltanto dopo Anche qui Si sta ascoltando la radio Ha una musica Completamente diversa Non sono due personaggi Che parlano tra di loro Questa figura femminile Contra luce Che vive in questo paesaggio Molto più integrato Molto non è No? Questo rispetto La Jahrta Che vive in questo paesaggio Che vive in questo paesaggio Che vive in questo paesaggio Ah, sei anche la Roll Royce. Che cos'è, l'automobile della signorina? No, vuol dire che in casa c'è anche Isar. Ma sì, saliamo lo stesso, va. Chi è questa Isar? È un'amica, la room mate. Sì, abitano insieme. È una modella, grandissima classe. È toscana. Avrà avuto una decina di copertine su Vogue. Pare che vuol fare il cinema. Oh, ciao. E che si è messa a fare questo? È il portiere di casa? Perché? Dove sta Gabriella? Di là. Ah, Isabella, questo è l'avvocato Vittorio Ciocchetti. Piacere. Venga, come me. Dic, dici. Mr. Schill? Andiamo. Mr. Ciocchetti. Just a ride from Rome. I've always wanted to live there myself. Che dice? A parte che uno spostato dice che i suoi migliori amici vivono a Roma e che anche lui vorrebbe vivere là. Aspetta che ti aiuti. Perché il signore conosce Roma? È il padrone della Rolls Royce, un fregnone pieno di soldi. St'attento, Mario. No, non capisci. Per me una parola ogni tanto la capisci. Non sa neanche come campa. Aspetta, tu non sei buono. Hello? Yes? Mrs. Isabella? No, no, no. Oggi no. No, tomorrow. Call tomorrow. Chi chiamava? Era per Isa. Ciao, Gabriella. Ciao. Gabriella? Taron? Questo è l'avvocato Vittorio Ciocchetti. Dessa? È arrivato da Roma stamattina. Lo so, vi ho visti arrivare dalla finestra. Ho sentito la tua macchina. Ero sicura che lei era appena arrivato dall'Italia. Ah, e come mai? Non so. Come si muove. Un po' tutto. Ieri a quest'ora l'avvocato era ancora a Roma. You understand? Che tempo faceva a Roma? Domanda stupida, vero? Eppure viene così naturale. È un po' di nostalgia, eh. Lei si ferma in America? No, riparte stasera. Gli ho fatto fare un round per dire due o tre così. Chissà dove l'avrai portato. No, no, anzi, è stato vario. Perché non si siede? Guardi, quella è comodissima. Grazie. Le preparo un whisky? No, no, per carità, ho paura che... Ah, giornali d'Italia. Comincio proprio a distendermi in aereo. Sa cosa le do allora? Un vermut italiano. Lei mi ha già capito. I'm going to get some ice. Con chi sta parlando, Dick? Parla con la ragazza Flanagan. C'è una festa importante da Flanagan domani sera. Sei Flanagan, quelli importanti. Di quale che io ci vado, non sei con me. Però, conosce tutte le migliori famiglie di Los Angeles, sei il tuo piccolo fregnone, eh? Piccolo fregnone, you! Ecco, te l'avevo detto io che qualche parola ogni tanto la capisce. Perché non vieni anche tu dai Flanagan domani sera? Dick, sei con me, si sbronza subito, non esiste più. Vieni anche tu, va, non mi lasciare il sole. Ma io con chi ci vengo? Qualcuno lo troverai, no? E poi possiamo fare un gruppo italiano. Orgì romano. Vieni, non parlo italiano. Ma c'è un ragazzo che è arrivato qui da Rome. Vuole che lei parli con la signorina Flanagan. È una barba di Roma, quindi per me è già quella di domattina. Ha saltato qualcosina, insomma, c'è questo collo che viene invitato a questa festa importante, la quale ambisce di andare l'altro, invece non ci dice. Ma sì, sì, non faccia complimenti. In America si usa così. Sono abitudini che dovrò perdere fra qualche ora. Comunque... Mi dia la giacca che gliela faccio stirare. Grazie. Che diceva Katherine Flanagan? Parla bene l'italiano, no? No, niente, voleva invitarmi a quella sua festa di domani sera. Quei segni che le faceva Mario erano perché lei intervenisse in suo favore, vero? Lui non lo invitano. Pensi invece che io ho dovuto rifiutare. Peccato. Tante grazie. Sa adoperare quella specie di rasoio? Sì, certo, certo. Teron, would you please brush and press this jacket? Sì, thing, honey. Perché non si ferma fino a domani sera? Ma io ho dei doveri, cara signorina. Lei dimentica il mio lavoro. Lo sa che per domani ho già degli appuntamenti molto importanti. Che lavoro hai? No, niente, una causa di divorzio, il solito divorzio messicano. Ma lei non è cattolico. Con questo non sono mica io divorziare. Aiuta solamente gli altri a farlo. Che vuol dire? A Cesare quel che è di Cesare, cara signora. Eh già, la professione. Ah, mi diceva Mario che lei si è diplomata in musica a Parma. Sì. E in che cosa particolarmente? Violino. Violino? Si figuri che ho studiato anche composizione. Ah, che brava. Suonava bene? Abbastanza. Gabriella, ti prego, vieni con noi. Non mi lasciare. Ciao. Grazie, che bravo. Ok, questo hotel, Knickerbocker, che vedete qui segnalato dietro, in realtà, in realtà, insomma, è un hotel in centro proprio da Hollywood, è quello dove vanno molte delle star, ed è davanti a quest'altro edificio molto iconico di Los Angeles, che è Capital Record Building Circolare. L'avete visto anche quello con lo stesso stile. Questo per mostrare che i luoghi non sono mai banali, non vanno a finire, cioè non c'è una location scelta a caso. È sempre molto preciso, anche in queste piccole inquadrature di raccordo non sono lasciate a degli sfondi qualsiasi. Gabriella, che facciamo? Ti sentiamo! No, andate avanti! Noi due! Sì? Però, eh, si tratta bene la sua serva. Senta, qual è la macchina che vale di più, quella o questa? Ma, sa, quella è la Cadillac, questa è la Thunderbird, quella è la Rolls, valgono tutte. Immagino che prima di andare all'aeroporto vorrà mangiare qualcosa. Eh, l'appetito c'è. Come si chiama lei? Io? Sì. Vittorio Ciocchetti. Ah, già, mi scusi, sa, ma con i nomi... Vittorio, Vittorio, Vittorio. Questa è la parte che vi lascio più lunga perché c'è questa grossa scena tra italiani in cui discute un po' di tutto ed è la scena più importante dal punto di vista narrativo di tutto il film. C'è quasi dieci minuti dentro, non è una cosa l'altra. Il bullying con i fiaschi è interessante. Eh, anche a Roma c'è una cosa così, ma non si mangia. E poi non c'è tutta questa grossa di... Il bullying sul tè, vero. Quindi viva l'America. Il bullying sul tè, vero. Il bullying sul tè, vero. Che love you. Why does it make you a few weeks? Oh my gosh. Dice di restare un paio di settimane come suo ospite. Ma eh, no, magari no. Una fata messicana questa mattina mi ha concesso soltanto poche ore. Come? Sì, mi ha detto tu puoi entrare a Los Angeles, alla città degli angeli, è vero. Ma soltanto fino a questa sera. E infatti si è tenuto il mio biglietto e il mio passaporto. Ho lasciato alla zeca la mia identità. E io praticamente qui non esisto. Beh, ma qui ci vorrebbe del vino un pochino sostenuto. Ah, vino. Eh, scatti, chiati, buonanino. Ah, bravo. Conosce qualche parola di italiano. E lei, signorina, cosa aspetta a insegnargli il resto? Che mi sposi. Ciao, vino. Com'è? Cerca di farle capire che per il vino è meglio chiedere ad altri. Ah, sì. E il quale altri sarebbe? Il padrone del locale, un italo-americano. Uno che ha fatto molti soldi, esattamente non si sa come. Ah, sì. Mi recco di persone. Dove lo trovo? Al bar. Ehi. No, no, avvocato. Il bar è dall'altra parte. Ah, guarda. Frank Ribera. I'm falling here. Frank Ribera. Yes, sir. I have a lane over the strada party. Yes, sir. Il bar. Yes, sir. Mr. Al. He's over there. Si tu vuoi comprare, bisogna che i soldi li tieni. You understand? Sicuramente? Sì. I soldi ci saranno, li tengo. Il petrolio è come il latte della mamma. Basta poco per farti comprare. A chi lo dici? Ma i soldi bisogna che li trovi se vuoi comprare. Get me? Scusa. Oh, avvocato. Guarda qui. Questo è l'avvocato Vittorio Ciocchetti. Avvocato? Ciocchetti. Ciocchetti. Angelo Antonio. No, Ciocchetti Vittorio. Arrivaste di recente? Sono arrivato questa mattina. Ah, di recente. Cosa faccio io per te? Come dice... Cosa vuoi dammi tu, scusa? Senta, mi hanno detto che lei vende del Barolo. Una bottiglia di Barolo. Gabriella? Gabriella? Perché non ce la facciamo anche noi due una partita? No, grazie. No. Oh, mamma mia. Ma se tu tecni la sei valga e la fai guai. Tu hai la messa e non hai una messa. Ma che è successa, ma... Ma questo è davvero il ritrovo degli italiani, eh? Mario e il Barolo. So che avevo un appuntamento con Al. Beh, no, ma io dicevo così in generale. Cosa faceva? Non so, parlava appunto con questo Al. Adesso non so bene di che cosa. Beh, io vado a fare un colpo, eh. Voglio proprio vedere come funziona questo gioco. Scusi. Viero, come on, madame. Io gioco fino a dieci. Gioco. Non facciamo come l'altro a te. Eh, bravissimi. Avvocato. Prego. Ah, thank you very much. Avvocato. Mi ricordi per la costa. Eh, mamma, come ho fatto tu sempre. Vieni qua. Vieni. Alla. Avvocato. Avvocato, vieni qua. Tu sei italiano e ti piace il vino. Questa qui la beviamo alla salute dell'Italia. Il vino è come il latte della mamma. Ti fa campare. Vieni qua. Tu vuoi vedere i miei locali? Sì, grazie, volentieri. Però il vino offro io. No, 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 no. Io voglio bene i miei paesano. Ora ti faccio vedere. Allora, è facile. Vai. Devi andare via? Beh, io vado a giocare. It looks pretty good. Yeah, yeah, got them all now. Oh, ma hai done quanto bravo. It's very good. E qui Avvocato fanno le caricature. Qui ci stanno i molti grandi artisti. Queste che arriva e taglia... All right, here we are. Keep still. We'll be true in less than two minutes at most, okay? Va bo. I'll be right there. Look forward. Straight ahead. Now, turn it to the left. Like this? Yeah, that's right. Guarda che si rivede, come va? Ah, ma noi ci siamo conosciuti stamattina, no? Sì. Alla mia mostra. Ah, sì. Anche lei frequenta questa specie di baraccone italiano. Eh. Io ci vengo tutte le sede. Ah, sì. Aspetto quel signore. È un amico che ho ritrovato dopo 15 anni. Da 15 anni che stai in America. Sì. Per banco. Aspetto che finisca. E poi, al solito, ce ne andremo da qualche parte a chiacchierare. E ne abbiamo tante, sa, di cose da raccontarci. Pensi che ha girato quasi tutta l'America facendo il caricatore. Noi, non so. Well, I'm going to put plenty of girls in this drawing. You can't get too many from me, mister. Tall, short, fat. Ma, è un brio, una duracità di tratto, una personalità. Eh, non solo quello. Nino, c'è un ammiratore qui. Sì. Molto bene. Scusate, lo spettacolo è finito. Big Joe, will you please take over my drawing gear? And don't forget to collect. We don't work just for art. Ok. All right, man. I'll take care of you. I can do both of your pictures together. Ma insomma, si può sapere che cosa ti è successo? Ma che cosa c'hai? Oh, che mi sono rotto le scatole, scusami tanto. Ma che cosa sono diventato? Una scimmia in gabbia da mostrare ai turisti di passaggio? Non lo so. In questo momento sei un cretino. Va bene, sono un cretino. Che ci vuoi fare? No, mortisti. E perché non venite a mio tavolo? Sono con due connazionali, graziosissime. Eh, va bene, andiamo. Ehi, Mario, quel giovanotto che ha incontrato questo mattino alla sua mostra. Eh, io sono con due su e faccio scelto. Mario, stasera è di poche parole, eh? C'ho i pensieri miei. Signorina Gabriella, carissima, posso presentare? Eh, Nino Fortuna e Lelio Marpicati, un altro italiano di passaggio qui. Un pittore astratista molto bravo. Io le conosco già, la signorina. Ma sì, Mario, lei conosce Nino Fortuna? Si, si sa, per quel momento di nervosismo di prima che... No, siamo tutti nervosi al giorno d'oggi. Eh, avvocato, guardi che non può salire così tanto. Eh, poi temperamento d'artista, no? Tra connazionali, bene. Per quello io sono cittadino americano, veramente. Sì, e perché? Dove è nato lei, scusa? A Formia, ma sono venuto qua nel 47, marito di un americano. Io sono stato uno sposo di quello. Nato a Formia, sì. Ed è americano. Vita l'americano. Come me, perché non le piace? Certo che mi piacciono, anzi, mi fanno anche un po' di tenerezza. Prego. Grazie. Come tutta l'America e del resto. Perché? Ma perché l'America ormai è un po' superata, francamente. Voi artisti avete qualche anno più di me, e sapete bene che cosa significava fino a qualche anno fa questo paese, no? Quando tutto il mondo lo vedeva come un miraggio, una meta da raggiungere, paesi di uomini ricchi e liberi, cosa detto come quella. Sì, mi ricordo. Avvocato, venga a fare un gatto. Venga. Ah, sì, volentieri. Attento che pesa, eh. Ah, le scarpe. Ah, già, le scarpe. Richard Evans, telefono. Lo sa, Avvocato, quando ci siamo conosciuti io e questo bel tipo? Richard Evans. 17 anni fa, nel 45, a Roma. Proprio quando in Italia chi mangiava, mangiava le scatolette americane. Mi ricordo che noi due, per campare, avevamo aperto una botteguccia in via nazionale. Ci eravamo messi a fare le caricature per le truppe americane. I negri. Questa gente, insomma, eccoli là, che ci hanno portato il pane bianco e la libertà. Ti ricordi, Nino? Ehi, Gio, caricatura? Me ne ricordo, sì. Io stavo sulla porta, ti ricordi, a far entrare i soldati, e tu li disegnavi. E quando ti stancavi, io disegnavo e tu facevi l'involitù. Eh, quanti anni fa. E da allora io ho continuato a fare le caricature come un cretino e lui è diventato un pittore di fama internazionale. Stiamo diventando vecchi tutti e due, altro che. Quello sì, purtroppo. Ma con te, vedi, mi ricordo di quei tempi felici. Eh, no, tempi non felici per l'Italia. E perché? Si campava così bene la giornata. In un paese tanto sconfitto da essere finalmente libero, senza padroni. Col coraggio di fare quel che ci pareva. E persino convinti allora che sarebbe successo qualche cosa. Perché, scusi, invece... Invece non è successo niente. Ah, no? Invece è successo. È successo che noi abbiamo ricostruito l'Italia, se permette. Ed è stata ricostruita bene, caro. Come? Ho detto, è stata ricostruita bene, secondo il suo parere. Ma no. Eh, sì, io ho conosciuto tipi come lei, sa. Per lo più gente proprio della sua stessa età. Il rifiuto, la critica, la distruzione sistematica. Ma... Sì, infatti d'Italia ce l'hanno lasciata sistematicamente distrutta. E il giorno dell'armistizio io colpivo 17 anni, caro signore. Non capivamo nulla, non sapevamo nulla. Eppure noi ci siamo fatti sotto. Ci siamo messi al lavoro. E oggi... Ma... Fisati. Facciamoci questa partita. Oggi, oggi lo sapete voi altri che al nord Italia scarseggia la mano d'opera? E perché non la pigliate dal sud a loro? Dove mi dicono che c'è sempre tanto. Odiamo, siamo rimasti al sud qui. Beh, allora sai che cosa le dico? Che un giorno verremo a prenderla proprio qui. Ecco. Eh, sono contento di averla fatta ridere, signorina. Comunque non parlavo per lei. E perché no? Eh. Ma piuttosto mi dica una cosa. Ecco. Come vive una donna in Italia oggi? Parlo di una donna libera, una donna sola. Non la serva del marito. Eh? E come vive? 50.000 lire di media al mese, una stanzetta e 10 giorni di ferie all'anno pagate. Quando arrivano? Vuol sapere la mia vita in Italia? Vabbè, ma cosa? Io lavoravo per pagare la donna di servizi e avrei continuato così pur di avere un'attività, di lavorare, di essere libera, insomma. Eh, viva la suffragetta, eh, che volete di più? Laviamoci la giacca e facciamo questa partita perché io proprio ho bisogno di fare un po' di esercizio qui dopo questa cena così abbondante. Chi segna i punti? Vediamo un po' il forzamento, per favore. Sì, Mario. Ecco, andiamo. Yes, please, for tally party. Io, io, non ho con chi stavo qui, se non mi spiegate... E non dici a me. Non ci capisco niente. Ma è possibile che non mi parassi. Sono 10 giorni che sono 10 giorni che questo gesto non può spiegare. E vabbè. Avvocato, c'è qualcosa di marcio in Danimarca. È sempre con due mani. Ehi, avvocato, tu calento. Avvocato, ma dove sta andando? Avvocato, guardi che la boccia sta lì, sa? Avvocato, si sente male? Vado a cercare un dottore, torno su. Sì, corri. Now what's up? I have a lane for the Strataparty. Strataparty. Su, avvocato, ancora a me? I don't know, he's your first. When the owner of an automobile blocking the driveway sees... You must be as liberal. È meglio che non si muove. Has to be something else. Meglio che stia freddo. Beh, insomma, arriva o non arriva questo dottore? Stia calmo, adesso arriva il dottore. Stia calmo, stia calmo. Dick, Dick, help him out. Una toaletta, per favore. È un po' di barattere. I don't think he needs another barattere. Ma l'avevo troppo. Gliel'avevo detto di non bere tanto, è un po' di barattere. Beh, se la cosa si risolve alla toaletta, non è poi tanto grave. Come va? Come va? Dov'è la toaletta? Scusi. 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 Nella monumentale storia della mostra cinematografica di Venezia, Brunetta all'edizione 62 dà pochissime pagine, molto meno che quella del 61-63, è una tra le meno trattate. Quindi non viene percepita come un momento in cui né questo film né altri hanno così segnato, abbiamo visto comunque come ce ne fossero di importanti. Se andiamo a vedere un po' le recensioni, ci leggiamo ancora un po'. Questi sono tutti materiali ovviamente sempre dall'archivio della Biennale e vi lascio leggere questa, è un po' divertente perché si lamenta, ma soprattutto è interessante questo fatto di colore, che dice come la gente, insomma comunque ci sono tutti questi gridolini, la gente svene quando vede le star, eccetera, insomma, quindi anche come, anche in fondo uno degli elementi di questi fattori di non esaltare la figura dell'attore, eccetera. La critica più forte è quella di avere troppi sceneggiatori. Il film non è unitario perché ci sono troppi sceneggiatori. Poi cosa questi abbiano fatto non ci si interessa, ma visto, e sono evidenti che alcune di queste recensioni sono scritte prima ancora o senza aver visto il film, quindi non va bene. Più positivi invece sono all'estero, ad esempio le Figaro, che qui viene citato, un altro piuttosto ovviamente che legge di più gli aspetti ideologici, al lato opposto del Figaro ovviamente è l'unità, che però è l'unico che cita Pasinetti. Dice, eh, allora, semplicemente c'è questo attacco a Los Angeles, a un buon conoscitore degli Stati Uniti, tal Pasinetti. È molto divertente la lettura che ne dà Jean Doucher, che finisce di essere il direttore dei Cahiers de Cinema per lasciare il posto a Romera, in cui, insomma, fa questa breve recensione di Smog, che è molto divertente, insomma, prova un po' a tolirla a braccio, insomma, anche se potete probabilmente leggere un francese molto semplice, Smog è composta da queste due parole, smoke e fog, no? Brouillard e fumé, fumo e nebbia, no? Che nello spirito dell'attore significerebbe questa erranza di anime, ma è proprio così, è anche l'erranza nella civilizzazione dei nostri contemporanei. Sarebbe molto interessante leggere queste parole alla luce, non so, dai trattati filosofici sul cinema di Deleuze, il movimento, l'erranza e così via, no? Per rovesciare questa visione. Io penso che questo neologismo si incolla perfettamente a questo stile confuso, inutile, quindi è visto esattamente all'opposto di quello che sarà visto sette, otto anni dopo, non so, appunto, i film di Wenders, ma la stessa anche, vediamo dove va a puntare, di qualche altro regista italiano. E lo troviamo alla fine, no? Un cinema ridotto alla natura di pellicola, gelatinoso. Però sarà riconosciuto certamente la felice e capitale influenza di Antonioni. Quindi quei lati di questo funzionano, no? Quei lati dell'erranza. In realtà anche questo sembra un film che comunque riconosce le connessioni che ci sono tra i vari componenti. del gruppo. Mi interessa quest'ultima, che per mettere tra l'insieme, appunto, delle letture complessive di quell'edizione del festival, gli sbadigli del leone, la mostra in supercrisi, quello che si diceva tutti gli anni, in realtà questo mi interessa, perché è il lato opposto, mai tanti jet transatlantici. È una pubblicità della Panam che dice che quanti si possono prendere per andare negli Stati Uniti. Lasciamolo riposare qui un po'. Che schila? Lei su? Sa va? Arriva il dottore. Non l'ho trovato, ma non credo che serva. Un'iniezione, meglio. Non deve prendere freddo, prendiamo una coperta. Dite, let's get the blanket. Come on. Sì, è una buona idea, ok. Va meglio? Sì, abbastanza, grazie. Non vuole mica un dottore? No, no, non è proprio il caso. Ma si può sapere che cosa è stato? È svenuto. Ah, che strano. Non mi era mai successo. Non si preoccupi, è la stanchezza del viaggio. Povero avvocato. Succede anche alle persone serie come lei, sa? Eh, già. Mi fa molta pena vederla così. Sì. Piuttosto sto pensando che oramai non c'è più tanto tempo, perché io... Eh, Gabriella? Tempo per che cosa? Dico per la partenza. Per la mia partenza, no? L'aeroporto non è molto lontano da qui. Va bene, ma ci vorrà sempre. Va bene, stia tranquillo. Io vorrei sapere dove stanno cercando questa benedetta coperta. Io proprio non lo so. Vado dentro a vedere. Grazie a tutti. Come on, let's hurry up. Bop, bop, bop! Come on! Anybody got a call back? No, you don't. We haven't got time left. Oh, I'm afraid. We haven't got much time left. Come on, come on. Come on, come on. Oh, no, we're late now. Come on. Non le ho trovati, poi, ma. Andiamoci. E' disposto a seguirmi? E perché? Dove andiamo? Ad estenderci i nervi. La cena è tutta incomprensibile. La stupirza. E' chidnetti in giro. No, no, no. Lei, finora, sempre e soltanto guidato di notte, eh? Tenete conto, questa è una donna che guida di notte... Sì, lui ha fatto così. Ha fatto così? È una bella abitudine la sua, eh? Ma forse riappare. Così, come scomparso. C'è ventola dietro? No, no, no. Sta meglio adesso? Sì, molto meglio, grazie. Faccio attenzione a dove mette i piedi, c'è il trampolino. Dove siamo qui? Cielo, praticamente. Sulle colline di Hollywood. La città è tutta intorno, vede? Perché mi ha portato qui? Sto per comprare questa casa. Volevo sapere cosa ne pensa. Io? Questa sarebbe la porta di casa. E' tutto di vetro qua. Le piace? E' quasi vuota, come vede. Ma conto di traslocare tra qualche settimana. Però ci vengo quando mi pare. A nuotare, per esempio. I proprietari lo sanno. Gli andrebbe un tuffo in piscina? A quest'ora? Non credo. A me sì. Vado a cambiare. Prego. Questo sarebbe il mio futuro regno. Le piace? Beh, a questo punto vorrà anche dirmi quanto costa. Oh, mi ci vorranno degli anni a pagarla. Ho già combinato un prestito con la banca. 6%. Ottimo, sa? E poi questa è una zona di lusso. Le tasse non sono neanche esagerate. Oltretutto è un buon investimento. Questo sarebbe, come dire, il simbolo del successo. Prego. Dico che questa casa è il simbolo del suo successo. O soltanto quello che volevo. Senta, e chi sono questi due nostri ufficiali qui in fotografia? Quello in divisa d'aviazione è mio padre. L'ho messo lì perché si obbiettivo all'ambiente. Ho idea che forse gli piacerebbe. Forse adesso potrei convincerlo che ho fatto bene a venire qui da sola. Quello più alto è suo fratello. Sono morti da un pezzo, purtroppo. È strano. Muoiono sempre prima che ci si possa spiegare. Come si sente adesso? Ma, mi sento un po' come all'estrema frontiera. Si distenda. Non pensi a nulla. Invece penso che lei è una donna molto coraggiosa. L'acqua è riscaldata, sa. Anche l'aria è calda, senti? E il vento secco del deserto muove. Per quello è così chiaro stasera. Qui è una meraviglia quando non c'è lo smoke. Chi è che suona? Mette l'orecchio a fior d'acqua. Eh? Perché? Provo. Senti. Musica a fior d'acqua. È un'altra mia invenzione. Ho già sistemato 300 piscini. Verrà. Cosa c'è? Ecco io, quando non digerisco bene, accidenti, il cuore su... Mi viene subito un po' d'affanno. Oh, non è niente. Sarà un estressisto, le basta fare attenzione. Sì, ho capito, ma cosa dovrei fare? Beh, la prima cosa è non partire stanotte. Domani si sentirà benissimo. Guardi, io tra poco me ne vado e la lascio padrone qui. Di là c'è un altro letto, bagno, tutto quello che serve. C'è anche il classico spazzolino da denti nuovo. Io sono americana, capisce? Ha paura a dormire solo? Eh, no. Mi faccia sentire il polso. Ho anche studiato un po' di medicina, sa? Il polso è ottimo. Lei fuma? No. Beve? No. Voglio farle la tipica domanda della donna americana. È sposato? Sono fidanzato. Molto bene. Senta, che pressione ha lei? Non sa perché la osservavo stasera, specie quando discuteva con gli altri. E mi sono detta, quell'uomo secondo me ha la pressione alta. Ve la voglio misurare, aspetti. Ho comprato l'apparecchio poco tempo fa. Mi serve, sa? Quando posso, la mattina vengo qui prima di andare in ufficio. E faccio dieci volte la lunghezza della vasca. Così adesso con l'apparecchio posso misurare da me l'effetto che questo esercizio ha sulla mia pressione. È comodo, sa? Io ce l'ho bassi. Ecco, si distenda. Così. Ecco. Ah, un momento. Si tiri sulla camicia, intanto. Ecco fatto. Cos'è quella fotografia? Ah, sì. È la mia fidanzata, Maria Beatrice. Bella. Sì, tanto fine, educata poi. No, dico bella la villa dietro, si vede solo quella. Ah, già, è l'unica fotografia che ho, è per questa. Sì, sì, è una bellissima villa del Settecento. Con la cappella privata. Adesso ci hanno fatto anche la piscina. Ci sposeremo lì. La villa è di Maria Beatrice? No, 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 è del genitore. Un uomo politico molto in vista. Ah, un uomo politico molto in vista, bene. Congratulazioni. Di che cosa? Scusi, la mia fidanzata mi ama, sa? E lei? Beh, io... Io sarò un buon marito. E per fortuna in Italia essere un marito significa ancora qualche cosa, cara signorina Gabriella. Ah, la sua pressione è perfetta. Lei sta benone, guardi. Camperà fino a cent'anni, stia tranquillo. Sì, però io le consiglio di dormire veramente questa notte, eh. Le lascia aspettare i suoi clienti. Io domattina vengo a prenderle e così lei si fa un altro giorno d'America. Ma io non so che scade, fa presto a parlarle. Ma cosa vuole che siano 24 ore in più? Basta telefonare a Dick, l'innamorato di Isabella, il padre senatore. E così. Allora volendo potremmo andare alla festa di quei cosi, come si chiamano? Flanagan. Ecco sì. Non ricordava benissimo. Gente molto, molto in vista. Come direbbe lei? Lei mi ricomincia a fare la suffragetta, eh. Perché? Certo che lo direi, scusi Gabriella. A questo mondo ci sono le persone che contano e quelle che non contano. Ed è opportuno appartenere a quelle che contano. E chi crede che siano, qui in Italia, dappertutto. Ah, sa che cosa le dico? Io mi metterò al seguito di mio suocero e farò la carriera politica. E lei e col pittore di stasera, per esempio, voterete tutti per me. Io sono americana. Ma sì, lo so, va bene. Mi vorrà dire che voterà per gli americani che la pensano come me. Ah, Dio, Dio, come sono stanco. Che ora è? Oh, è quasi mezzanotte. Allora, come avete visto, insomma, no? Questa persona, questa persona molto indipendente, riparto con le immagini, vive in questo edificio. Ho parlato di edifici iconici per Los Angeles, ma sicuramente questo lo è più di qualunque altro. Lo è più di qualunque altro grazie a questa fotografia, in cui esistono anche delle altre versioni un po' differenti, a colori, durante il giorno, ma soprattutto per questa. che l'ho messa in scena appositamente preparata, con dei mobili appositamente scelti e portati in questa casa, che si chiama Casa Stau, che sta sulle colline di Hollywood. E la foto è fotografata dal più famoso fotografo di architettura dell'epoca, Giulio Schulman, di cui potremmo dire che conosciamo più le sue fotografie che l'architettura americana dell'epoca, no? Queste fotografie molto nitide, molto a fuoco, molto precise, con le ombre perfette, eccetera. La foto è scattata poco dopo la conclusione della realizzazione della casa, ovvero nell'aprile del 1960. come vedete siamo ancora una volta a ridosso al film, perché, ancora una volta, Smog è il primo film che fa, oh, è sparito un boc, che fa, che ci introduce a questo edificio. Cioè, al mondo è la prima volta che qualcuno va a riprenderlo, a farci un film. Ancora una volta, questa anticipazione è, non solo assoluta, ma è sorprendente. Cioè, ci vuole qualcuno che veramente conosca bene la storia dell'architettura e dei luoghi di questa città. Sì, la casa è apparsa nelle pagine di Life Magazine, nel 62, però il film è girato un po' prima. È apparsa soltanto qualcosa nelle riviste di architettura, Art and Architecture, che adesso vedremo, perché fa parte di questo vasto programma che si chiama Case Study Houses. Messo in piedi, per gli architetti, insomma, conosciutissimo, messo in piedi da John Entenza, ovvero il direttore della rivista, e che viene proposto come una serie di prototipi, di casi facili da costruire, moderne, riprendono l'architettura missiana, la portano in dimensione domestica, per risolvere i problemi dell'abitazione di massa americana. La stessa Rosolangeles aumenta di 6 milioni di abitanti in questi anni. Quindi è proprio la casa per i reduci della guerra, i reduci nel senso coloro, la generazione post-Seconda Guerra Mondiale, nella quale troverebbero finalmente tutte queste dimensioni della modernità, le strutture in ferro, come le pareti completamente vetrate, questa, non più che trasparenza, cioè più che, scusate, che visibilità, che osservazione, questa trasparenza. L'immagine è anche quella, appunto, di una casa molto semplice, più semplice di quello che è in realtà, è una casa piuttosto, come l'avete in queste sonometrie o piante, insomma, che la ridisegnano, piuttosto elementare, ma che ha una caratteristica, insomma, di essere forse un po' più complicata di quanto l'abbiamo sempre immaginato, perché viene sempre mostrata la parte della living room, della cucina, e questa cucina aperta sul paesaggio. Questa casa tornerà al cinema, o meglio, alla televisione, soltanto nel 1968, quando, con il primo episodio pilota della serie Columbo, Prescretion Murder, il pilot di Columbo viene realizzato come un film, come film della settimana, su NBC, ovvero non parte subito come una serie, fanno questo film, e poi un paio d'anni dopo, un secondo, e poi decidono che tutto funziona, Peter Falk è d'accordo a fare il personaggio, eccetera. Eppure in questo episodio già si chiama Columbo, e comunque ha tutte le caratteristiche, l'impermeabile, parla della moglie che non si vede mai, eccetera. E la casa ha un ruolo cruciale nella storia. anche in questo caso, la casa è rappresentata come la casa di una donna sola, ovvero di una donna indipendente, in questo caso l'amante di questo psicologo, che uccide la moglie facendosi aiutare inconsapevolmente dall'amante, che abita in questo luogo. Quindi vediamo questa immagine della casa, un po' secondo così, l'interpretazione quasi parallela a quella di Beatrice Colomina sull'individualità della casa del celibe americano, come la casa della perfetta celibe americana, della fama indipendente, anche sessualmente, anche rispetto alla propria società, e che vive, appunto, osservando la città, un po' da lontano, protette, eccetera. In realtà, questa è una casa di famiglia. È una casa costruita dal signor Stahl, appunto, perché nella casa precedente non riescono più a abitare perché la famiglia si è allargata e facendo un mutuo e poi addirittura soprattutto impegnandosi a comprare i lotti davanti in modo che nessuno li costruisse davanti, si costruisce, incontrando questo straordinario architetto che si chiama Pierre Koenig, una della case studies, il numero 22, e realizza questa casa che non ha niente del glermo con la quale è continuamente presentata. Cioè, per carità, lo è magari dal punto di vista estetico, ma è una casa di famiglia in cui la piscina serve per i bambini in cui, appunto, ci sono due camere perché, appunto, c'è quella dei genitori e crescono quantomeno due bambini, poi un terzo che arriva più tardi, lo vedete, Shulma con il terzo figlio ha avuto più tardi, sempre la stessa moglie, ma non è una casa di, come dire, del celibataire, del celibe, indipendente, così come è inventata nella finzione cinematografica e televisiva. Questo è molto interessante perché, invece, forse questa interpretazione nasce da qualcun altro ed è innescata proprio ancora una volta dal personaggio che vi propongo di seguire, ovvero questo signore qui, Pier Maria Pasinetti. Vi metto qui, in realtà lì leggete, mentre io ve li racconto, un paio di dicettazioni a questa lunga intervista fatta da Dante della Terza, che è un importante collaboratore di Pasolini, scusate, di Pasinetti, anche lui in letteratura comparata, in realtà è quello che insegna letteratura comparata a Berkeley e prima a Princeton, quindi uno di questi, insomma, personaggi intellettuali, accademici, italiani, che si occupano, soprattutto questo libro, in cui parla della diaspora degli interiore europei in America, in cui fa vari personaggi, tra i quali inserisce Pasinetti, un libro che esce, questa è la seconda edizione, prima dell'86, la seconda del 2001, e all'interno c'è questa, non è tanto un'intervista, ma lo racconta, hanno una grande amicizia e due, e racconta proprio di questa dualità di questo personaggio Pasinetti che abita tra gli Stati Uniti, precisamente tra Los Angeles, non gli Stati Uniti di New York, non gli Stati Uniti della metropoli densa americana, ma questa nuova frontiera, o questa cosa di indifferente. Leggete queste parti sulla confusione, questo termine invece di essere confuso vuol dire fondere assieme questi aspetti, in questa geografia a bassa densità, in qualche maniera. Un altro punto in cui aspetta, no, questo l'ho sbagliato, deve stare prima, eccoci, torno su un'altra intervista a Pasolini, scusate, a Pasinetti, parla di come lui parli della propria casa a Los Angeles, e come di riconosca alcune parti, il fatto che ascolta il lato dei coyote, dalla sua terrazza vede certe cose, e troviamo una vera e propria assonanza con quanto si vedeva nella Stal House. vi faccio vedere ancora delle altre parole in cui, delle altre citazioni, in cui Pasinetti racconta di come progressivamente si allontana dal cinema. Farà il consulente, come forse vediamo questo, collaborerà con il fratello, con lo stesso Antonioni, farà lo sceneggiatore, collaborerà con Hollywood, farà il consulente storico, tra virgolette, con bellissime interviste in cui spiega che cos'è un consulente storico in maniera anche molto divertente per il Giulio Sisa di Mankiewicz, e poi parla di come avesse queste occasioni di fare altri film. Qui addirittura parla di quella di Fred Zinemann, ma soprattutto di questa possibilità di lavorare con Nicholas Ray, quindi l'architetto, cioè il direttore, il regista americano cresciuto con Frank Lloyd Wright per questo progetto che si chiama Passport, che è un grosso progetto che poi lui dice non si realizzerà, in realtà vai anche in parte, qui trovate un articolo ad esempio nel New York Times in cui si racconta che questa realizzazione era già partita e la produzione avrebbe dovuto imprendere Bogart ed altre star, quindi non film assolutamente secondari, non film poco importanti. Pasinetti quindi è al centro di questo mondo, è un docente universitario, ma è uno che frequenta in molti episodi racconta di Chaplin come di altri, eccetera. Questo gli permette anche di fare un certo income, come si dice in inglese, di guadagnare una certa quantità anche di soldi. Qui parla di smog, vedete, e in questo caso ancora continua, ci sono due interviste perlomeno in cui parla abbastanza direttamente di smog, come però i momenti in cui è un più, e proprio si vede che è il suo ultimo grosso tentativo. Cioè il momento, farlo lavorerà ancora anche con Rossi per l'Eneide, per l'Odissea, non è che lo abbandona, però capisce che lì sta perdendo tempo, che il suo ruolo è quello di diventare questo grande romanziere, di aprire, come ti ho fatto vedere nella quarta di copertina, di portare a un livello internazionale il romanzo italiano, che invece non ha. E qui, adericcora, racconta di come, insomma, si allontana da queste cose. Credo che in questo proprio parla anche di come è arrivato e di perché è finito a Los Angeles. Alla fine della guerra, in fondo i posti di professore per una persona così interdependente non mancavano, a lui arrivano due opzioni, andare a Seattle, la nuova città, la città della Boeing, dei Sonics, ma anche un'offerta da sia lei e dice beh, ma però se io vado a Los Angeles posso far venire mio fratello e farlo diventare un regista qui. Purtroppo non andrà così. Però c'è anche questa strategia. Che invece muore proprio nei giorni in cui stava finendo la sua tesi di dottorato a Yale. Torniamo appunto a questa storia della casa perché la Pasinetti House, la casa che Pasinetti si fa costruire viene pubblicata all'interno della rivista Art and Architecture. Non fa parte dei case studies ma viene pubblicata nello stesso contesto. Quindi abbiamo a che fare come un italiano che si fa fare una casa sulle colline di Hollywood pubblicata nella vetrina maggiore dell'architettura modernista americana. Questa casa è chiesta a un altro espatriato europeo, un architetto che si chiama Georgescu e qui avete il racconto della terza a cui viene raccontato per la prima volta di questa casa, di come i soldi per questa casa arrivano proprio attraverso le produzioni e le collaborazioni con Hollywood e di come viene anche presentata la relazione tra l'abitante e lo spazio domestico. È una casa sì per un celebre. Pasinetti non si sposerà mai, avrà moltissime relazioni ma niente di come dire di stabile e di fisso e questa casa interpreta piuttosto proprio quell'immagine che abbiamo visto forse rappresentata nella Stal House rovesciata anche secondo alcuni schemi come dire Antonioni Aniani è la donna che rappresenta la modernità molto più evoluta del maschio che rimane un po' legato agli schemi dell'epoca. La casa non è nemmeno tanto distante lì ho messo ho sbagliato perché ho impostato i trasporti pubblici che è del tutto assurdo a Hollywood insomma sono 20 minuti di da ora non un'ora non prendete il bus per andare tra le due ma insomma la Stal sta da una parte come vedete è un po' più all'interno dei canyon c'è la casa di Pasinetti con questa questa è la fotografia che compare all'interno dell'articolo che è molto divertentemente commentata in una lettera che lui fa a chi a Loredana Balboni ovvero la moglie del fratello o meglio la vedova del fratello sorella di Luciana prima moglie di Antonioni Letizia scusate e gli raccontano la casa è finita però l'architetto ha voluto farsi la foto lui permette di soggiornarci e lui questo frescone lo prende in giro con questa arguzia eccetera in realtà più avanti esistono delle fotografie sull'archivio in cui c'è lui invece era figurato nella fotografia questo è proprio un pasinetti la casa e tutto l'archivio a Giorgesco non è un architetto tutt'altro che secondario l'archivio si trova alla Getty Foundation dobbiamo andarlo a vedere a breve speriamo insomma vediamo la casa vi faccio vedere un po' le piante ma soprattutto un po' le foto ha questa caratteristica di essere a doppia altezza con questo mezzanino appoggiata su questo su questo crinale e di e di essere veramente sospesa cioè abbiamo una situazione molto simile a quella della stall senza la piscina rivolta non con la stessa fortuna verso la piana verso lo smog torneremo su questa cosa dello smog però con la stessa tipo di struttura vedete sta verso l'interno e adesso vi faccio vedere questa è la situazione della casa recentemente che è stata anche soggetto di di numerosi attenzioni da parte della cultura losangelena recente per il suo restauro è stata dopo la morte di 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 Pasinetti all'inizio degli anni 2000 lui l'aveva già lasciata all'inizio degli anni 2000 poi è rimasta ancora per un po' per la famiglia poi è stata venduta insomma da un architetto che l'ha acquistata e l'ha rinnovata senza straboggia appunto perché ci sono stati anche numerosi articoli su Los Angeles Times ve la faccio vedere qui per farvi capire anche il contesto anche l'evoluzione di questo contesto la vedete qui è proprio una casa sul dirupo molto aggettante con quest'idea che non vedo il suolo sotto di me sono sospeso in questo paesaggio nebbioso è reso non trasparente dall'inquinamento e eccola qui insomma questo è un fatto anche di Google Map la vedete dalla strada di sotto ne ho messe molte per farvi vedere ecco questa invece è la situazione attuale dopo i restauri qui non era ancora stata riempita di mobili insomma ma vedete che è un ambiente molto aperto in cui il mezzanimo ha questa funzione di essere sia la camera da letto ma anche quella di studio su questa terrazza aperta e quindi un ambiente unico non ha vediamo anche la differenza rispetto alla stal che non ha queste divisioni necessarie per la separazione dai vari componenti della famiglia vado un po' le mie loce ne ho messe tantissime perché sono fissazioni di architetto e invece vediamo la casa veneziana di Pasinetti piano sopra due piani sopra no tu che sei stato lui è il penultimo Loredana piano terra famosissimo appartamento ristrutturato da Carlo Scarpa Luigi Guzzardi devo stare attento a qualunque cosa dico a sto punto ma insomma casomai dopo ne parliamo assieme e quindi vedete insomma questa comunione tra due posti molto lontani ma anche rappresentati come una situazione abitativa completamente comune direi non differente allora adesso vedo che non capisco che ore siano 12 e 39 allora il film durerebbe ancora 40 minuti e non ce la facciamo vi faccio un rapido salto dei tutti gli episodi che mancano e poi andiamo a vedere l'ultima cosa e così per l'una dobbiamo aver finito torniamo sul film allora lui viene messo a letto da per forza per me è proprio domattina e viene risvegliato in realtà a questi bambini dei boy scout che vanno a vendere i dolcetti e raccolgono nel frattempo lei è andata a fare un giro in attra non è presente nella casa capiremo anche dove è andata ve lo lascio un po' per vedere questo paesaggio in relazione a quanto vi ha appena raccontato e poi torniamo su quando ritorno la giornata come on buy some si yes ma i am not mister herman come venite come no come come cosa what money 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 genero di nero genero questa è una parte della girardot che è in giro da sola e fa questa prima volta che l'abbiamo in attra non l'abbiamo mai inquadrata di viso sempre da dietro quindi questo ti ha differente da dietro e poi e rientra in casa buongiorno ha dormito bene? si sta meglio adesso? ah benissimo grazie e non aspettavo più oramai beh sai io il sabato dormo fino a mezzogiorno ha visto che smog che c'è oggi? ecco questo sarebbe il famoso smog ma cos'è una specie di nebbia no? è nebbia e fumo sai il gas delle fabbriche il motore delle automobili lo sa lei che abbiamo quasi due macchine a testa qui in California? si è così che avete avvelenato questo paradiso terrestre per fortuna pensi altrimenti come sarebbe noioso questo paradiso terrestre a proposito benvenuto in America grazie bene che cosa facciamo allora? quello che vuole vuol vedere le ville dei divi di Hollywood? di fuori naturalmente no no grazie quello va bene tutto chiuso? si si ho già chiuso io prima e dov'è Mario stamattina? perché dovrei saperlo? no no così domandavo è a Calver City dove ci sono i pozzi di petrolio va là ogni sabato ha degli amici ha del petrolio? ecco un posto interessante da vedere no? ma è lontano il posto è brutto si ma però però io credo allora in questo caso dovrei cambiarmi non posso andare là a vestire perché ci terrei bene non saluta la mia casa prima di andare via? perché? potrebbe non rivederla più ma che brutta idea sa forse non la compro ma non ha detto che era un buon affare oh sì i proprietari la vendono a qualsiasi prezzo e allora? c'è morto un bambino un anno fa il figlio più piccolo è caduto nella piscina è interessante perché poi questa storia qui questa leggenda viene diventa reale cioè viene passata quando non è mai successa alcuna tragedia insomma riguarda la piscina ecco il matto chi è? allora sarà un attore lascio a scuola un po' le immagini vi racconto sopra in realtà lui si accorta appunto che ha perso il portafoglio cioè che durante il portafoglio non ci sono i soldi vuole farsi riportare a Salvadori che è che è andato nel posto che gli interessa di più ovvero sta cercando di acquistare un lotto di terreno per poter poi pompare fuori sperando di trovare insomma comunque pompare fuori il petrolio da lì nasce anche a questo punto questa lotta dei due anche non vi faccio vedere apposta che è il momento che invece è più importante per il fumettista del manifesto e anche per la fotografia abbiamo visto del catalogo perché sì insomma perché sembra quasi una cosa fatta per inventare un po' di narrazione in tutto un episodio generale che non è così qui vediamo i tipici pozzi per trovare la canicola dell'epoca vediamo perciò io rischio sto mettendo i soldi da parte Gabriele non c'è non lo so insomma si scusa di aver preso i soldi ma gli servono per quello l'altro insomma in qualche maniera anche lo accetta e decidono di andare alla famosa festa dei Flanagan la festa di Flanagan lo sa un'altra cosa la prima volta che si vede un car wash come Giancaro giustamente io non lo sapevo in un film italiano tutte le avete tutte qua prima si ha visto anche comunque il abbiamo chiesto il veterinario il pubblicitario di veterinari le cose di funerarie e così via ecco loro sono preparati adesso stanno andando a questa festa che è una festa abbastanza tradizionale per un film insomma sposto italiano a cui vengono presentati i personaggi importanti anche i politici eccetera e a un certo punto però soprattutto racconta racconta una cosa che la moglie ha una villa a Recoaro viene anche localizzata spazialmente quindi abbiamo ancora che fare con qualcuno del nord-est per dire insomma in grado di termine a lei a un certo punto chiama lui chiama la compaglia la fidanzata insomma gli racconta e vuol conoscere un senatore e questa cosa appunto prende un po' questa dimensione un po' ufficiale verso la fine invece della festa viene invitato ad andare in un luogo in quel momento però la Girardot un po' delusa o piuttosto Giovanna Gabriella scusate delusa un po' dalla maschilità del personaggio decide di abbandonare e di fare cosa di tornare nella sua casa and you see it will go through it of course I understand dice che il corpo estraneo attraverserà la cometa ah ecco già e di cosa sono fatte poi le comete excuse me what are the comets made of well it's Lucy mainly chi è il tipo da cucina niente dicevo cosa Mario il suo amico traduca uno per te e uno per me grazie alla sua siamo cattolici e Roma perché non sia qui con me perché non telefoniamo a Santa Maria il suo padre era un Italia è un paese tranquillo si è molto tranquillo si è in disordine politica prendo il Sunset 2 e lei in realtà rientra a casa e a casa c'è si scopre che i due insomma hanno una relazione lei e Mario che sta nuotando nella piscina della casa e torni felice come di prima ah si eh? ah no aspetta il bacio per il botteghino è arrivato al minuto 1 e 20 e le grandi famiglie questi famosi Flanagan ce l'hanno il senso della realtà? ho parlato un po' con la ragazza Flanagan non è mica stupida abbiamo parlato figurati di nonne di nonne? beh insomma del senso della famiglia della tradizione pensa per esempio se io mi sposassi qui e avessi una figlia e se questa figlia avesse dei figli i figli dei suoi figli potrebbero dire di lei un giorno è la prima della famiglia che è nata qui in California è un po' lunga la faccenda tre o quattro volte il tempo che mi occorrerà per pagare questa casa è fuori della realtà quest'acqua è meravigliosa si sta bene qui vero? eh sì perché non ci fermiamo un poco qui? sì la Girardot e Salvadori erano presenti alla prima proiezione una cosa che non è qui non c'è niente qui c'è qualcosa perché non resti qui fino a domani mattina e così litighiamo su chi deve preparare la colazione dici sul serio? dicevo per dire non sarebbe nella realtà certo certo e poi sai devo proprio andare da Al? no Al è meglio lasciarlo perdere per il momento o altri business sai la faccenda delle assicurazioni la clinica dei cani sembra che vada molto bene e poi ho mille idee in testa e poi dico siamo in America no? ah già con inventive e allo sbaraglio sono frasi tue no? ecco brava quelle frasi lì bisogna crederci è una cosa istintiva quelle frasi lì se si capiscono quando si capiscono? io le capisco ciao ehi beh ciao Gabriele ti chiamo domani abbiamo lasciato l'avvocato alla festa sono almeno 15 minuti che non vediamo nel film l'avvocato alla festa E' Antonioni che ha copiato? Questa invece è l'altra casa, loro che escono dalla festa, i giovani che lo portano a visitare questa nuova casa. Ve la faccio vedere, poi chiudiamo con le ultime immagini del film. In realtà la casa che stiamo per visitare è questa, tutte le diapositive. Eccola qui. Presentata anche questa, anche questa era in parte su questo speciale di Life, però soprattutto in questa immagine ufficiale, ancora una volta, il primo giugno del 62, vedete che tutto viene fuori allo stesso momento. Si chiama, viene chiamata TripNerd House, fatta da un giovane architetto che si vedrà tra poco nell'immagine, cioè lui proprio che ci abita, e all'epoca ci abitava e la racconta con la moglie. TripNerd perché è fatto di tre elementi, questa cupola geodetica, i servizi centrali, e lo spazio interno. Una bolla di plastica per le colline di Hollywood. Sarebbe questa immagine di un futuro abitare che dovrebbe arrivare con l'era Nage. Questa era già stata presentata su Life nel giugno del 60, che era ancora però in costruzione. e la storia è piuttosto semplice. Judge conosce questo, ha come professore quando arriva a Chicago, no scusate, in California, ha questo professore che si chiama Lindsey, Jeffrey Lindsey, che è un adepto di Buckminster Fuller, di cui è stato studente a Chicago, lui sì, e che è un canadese però, che quindi quando finisce i suoi studi torna in Cana e dicendo sulla base del fatto che il Cana non è ricco come gli Stati Uniti, dice che costruire cupole geodetiche sarebbe perfetto per risolvere i nostri problemi di habitat meno costosi e così via. E sperimenta queste cupole un po' dappertutto, in tutti gli ambiti, lo vedete qui negli anni 50, a costruirle tanto sotto la neve come nei luoghi più caldi del Chebec, e anche come paviglioni temporanei. In realtà collaborerà anche quando finalmente Funstel riuscirà a fare il suo più grosso progetto, ovvero la famosa cupola realizzata per l'Espos 67, il 1967 a Montreal, che poi presto brucerà, tre anni dopo, e che comunque continuerà questa connessione. Quindi abbiamo a che fare con tutto un universo che non è quello, che non ha nulla a che fare con la cultura californiana, sì, che assumerà, che ha tutta una serie di relazioni con questo, ma che propone questa sorta di modernismo spinto che nasce da un universo tecnologico differente, che sarà anche la grande retorica che poi si imporrà nell'architettura in generale, però viene quindi proposta alla fine del film questa casa del futuro, una casa che non funziona, una casa che avrà grandi problemi ad essere abitata perché le condizioni climatiche non sono favorevoli, abitare sopra una tenda di plastica in un clima caldo è un assurdo, per quanti dispositivi si possono inventare e questa immagine del futuro ancora più quando si vede quando un'immagine della famosa cupola di Montenor bruciare è un po' come quella della modernità del Quebec, cioè non è una militante annunciata ma in realtà proprio a fallimentare. Un po' come succederà non tanto a questo film ma alla figura di Paginetti che non riesce alla fine ad imporci a rimanere una persona importante ma assolutamente non di riferimento e tantomeno alle sue ipotesi. Un'ultima cosa da raccontare è che forse questo jazz comunque farà qualcosa di interessante ovvero sarà incaricato da Marlon Brando per costruire il famoso resort all'inizio con intenzioni molto ambientali da parte di chi? Di Marlon Brando che nel 1962 aveva scoperto Tahiti facendo il bounty. Tutto ancora negli stessi anni e negli stessi momenti. Andiamo a vedere una torniamo a vedere la fine del film e così cerchiamo di conquistare la casa del mio filanzato ma come sarebbe quella la casa? Sì è più interessante della nostra non è ancora finita sarà pronta in qualche mese attenzione la scala è pericolosa e quando spicca il volo per Marte? No non vola è piantato molto solido ma è vera? Sì è un progetto del mio filanzato con l'architetto e cos'è cellophane? Cos'è una copertura provvisoria? No è fortissimo il stesso identico materiale di che sono vestiti i satelliti sa come Sputnik un americano non aveva mai detto di Sputnik siamo arrivati un momento il mio filanzato buonasera l'architetto molto piacere molto interessante sai su il progetto il progetto è molto interessante grazie questa casa è un prototipo di un modello che si è construito all over the United States come ha avuto questa idea? si è ricordato dove hai avuto l'idea? la idea è fondamentale di questa casa è inspirata da le forme di nature è un risultato di una question di un'altra parte è un posto di un posto è lozzi la Queen, mio Lord, è morto lei deve morire ci sarebbe un momento per questo un momento, un momento, un momento e un momento, un momento in questo momento, da giorno a giorno, da giorno, da giorno e tutti i nostri stessi hanno licefondito la forma a la morte Oh, wait a minute Vieni su? Sono amici a Torre, vieni? Dove? Sopra, è bellissimo non c'è smog questa sera e vedono tutto l'oceano C'è abbastanza da vedere anche qui, mi pare, no? E poi io non vorrei fare troppo tardi, ormai dunque lei vivrà davvero qui in questa come si può dire, in questa casa Io non lo so, solo quando cade la pioggia a me verrebbe l'angoscia E poi crede davvero che qui ci possano essere sentimenti affetti, tutto quello che la famiglia Signorina Mister Mister, architetto non c'è più nessuno qui? Ma non c'è più nessuno qui? Facciamo una diapositiva e poi vediamo insieme i titoli di cosa così andiamo a maggio perché come avevo detto abbiamo visto un po' questa relazione con la crisi di Cuba che si risolve il 27 di ottobre con l'accettazione appunto di Khrushchev di ritirare le navi con l'altro materiale bellico per Cuba e con questo annuncio appunto quello stesso giorno verso la sera c'è un temporale in realtà non è la causa ma l'aeroplano di Enrico Mattei sta atterrando a Milano e si schianta a Bascapè Fanfani ha detto più volte che quello è l'inizio di tutto in realtà forse è la fine di tutto nel senso che rappresenta un po' la conclusione anche di tutto questo questo spirito post bellico, positivo, ottimista ma anche legata un po' come poteva essere l'arte espressionista raccontata dall'artista nella galleria che termina diventando pop altri interessi, altre scale non si guarda più verso il passato anche queste relazioni i due personaggi che vengono presentati della madre di lei è un orientamento verso un'altra direzione la musica sta cambiando letteralmente il cinema anche la narrativa anche e forse quello che vediamo è proprio un'altra cosa è una delle ragioni per cui questo film congelato per delle dimensioni di distribuzione finisce un po' così in questa situazione di limbo purtroppo però propongo di vedere i titoli così vediamo un po' anche delle altre persone coinvolte devo far partire questa anche la la ma e è bello Grazie a tutti. Grazie a tutti. E niente, un po' di meno che Ted McCord, uno dei più grandi direttori della fotografia, che devo controllare, non mi ricordavo nemmeno stamattina se viene da aver vinto l'Oscar quell'anno per la fotografia, ma secondo me l'ha fatto nel 63, dopo. E' un po' di meno che Ted McCord, uno dei più grandi direttori della fotografia. Buon appetito e ci vediamo dopo il pranzo, anche per le domande e tutto il resto, va bene? Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui per la seconda parte del seminario di oggi intorno a Smog. Abbiamo un po' cambiato il programma, quindi anche per ragioni di buona accoglienza e per l' eventualità di andare un po' oltre con l'orario più tardi con gli invitati presenti. Cominciamo con l'intervento di Alexandra Schwarz, che adesso vi introduco, dedicato alla scena dell'arte contemporanea a Los Angeles negli anni Sessanta. Alessandra Schwarz è recentemente diventata curator del modern e contemporary art, scusa, curator del museo modern e contemporary art, craft and design di New York. Ed è da molto tempo un grande riferimento per gli studi di arte contemporanea, in particolare quelli che hanno a che fare da un lato appunto con la città di Los Angeles. Vi ricordo il suo splendido libro, insomma, su Ed Ruscio e Los Angeles, che ormai ha una decina d'anni. Ma soprattutto anche per i grandi approfondimenti, le bellissime mostre che ha fatto intorno al femminismo, al contributo dell'arte femminista all'arte contemporanea. E ancora di più ha, per esempio, la sua mostra dell'anno scorso, Garmenting Costumes Contemporary Art, ovvero sull'utilizzo di clothing come medium per la creazione artistica. Alessandra, sorry, I speak in Italia for the public, you're welcome, there's a beautiful image of you on the screen, I'm very happy to meet you on screen, at least, and after we talk, and you're welcome in Venice, I hope you will come soon in presence for more ideas. So, if you want to start, or if you need something else, I will be here to help for any, for anything. Thank you. Well, thank you so much for having me. I'm delighted to be participating. I wish I was there with you in Venice. So, let me share my screen, let me know if it works. Perfectly. Great. So, I'm really pleased to be asked to talk about the Los Angeles art world in the 1960s. I was not familiar with Smaug until I got the invitation, but found it to be a fascinating film, especially because its portrayal of Los Angeles is so familiar to me from the art of the era. A lot of the shots are very reminiscent of the artist's work of that period, such as Ed Ruscha and Dennis Hopper and many other artists working then in the city. And I thought it was very interesting how the protagonist's introduction to Los Angeles comes through an artist and an art gallery and the people he meets there. So, today I'm going to give you just a little bit of background on what that world was like and what he would have found in Los Angeles in 1961-62. So, these are just a couple of stills from the film when he comes upon the gallery, goes in it, because he sees that there's an Italian painter who is showing in this gallery. And then at the bottom left, he's meeting the painter and then he goes off on his adventure. So, there were a few things in the film that I thought were interesting in their conversation about the gallery. That the painter tells him that abstraction, abstract art, is what sells in the United States. And that they mention 57th Street in New York, where most of the big galleries were in the U.S. at that point. And also that all the big collectors are in Texas, the money's in Texas, the oil money, which I thought was kind of amusing. And there is a fair amount of historical accuracy to that. And I'm going to dive into that today. So, at this point in time, in 1961-62, when the film was made and released, In fact, most of the art that was being exhibited and shown and bought by collectors, that world was all in New York. At that time, Los Angeles had a very small arts community. There were not many collectors. There were an increasing number of artists living there that I'll talk about more. But what the, you know, the fictional painter was referring to was that abstract expressionism was still very much dominating the United States art world. And, in fact, had started to have influence in Europe and other places as well. But probably the best known abstract expressionist painting is this Jackson Pollock that you see on the left, one number 31 from 1950. And then, on the right, I'm showing a work by Lee Krasner, who was actually married to Pollock, called Polar Stampede from 1960. So, this gives you a sense of how abstract expressionism was very much still dominant in the U.S. art world in the early 1960s. So, what the painter says, it was absolutely true. And the big galleries were in New York. They were on 57th Street. There were collectors from the major cities, some of which were in Texas. But the Los Angeles art world was very small and really starting to undergo a lot of changes that would lead it to becoming much more prominent and much more celebrated. Until the early 1960s, probably the best known work of art to be made in Los Angeles was, in fact, almost a work of architecture by Simon Rodia, who, in fact, was an Italian immigrant living in Los Angeles. And he made these Watts Towers in South Central LA from 1921 to 1954. So, it was a 30-year project that he did by himself. He is often talked about as a self-taught artist. But he essentially gathered found material from all over, including these colored tiles and other metal objects, and created this enormous structure that came to be known as the Watts Towers, really just for himself. It was not, it had no commercial viability, it was not, you know, meant to be seen in a museum, obviously. It was really this project that he did on his own, but it became very well known later and quite celebrated. And in terms of contemporary kind of cutting-edge art, it was the biggest thing that was happening then at the time, I would argue. But around the mid-1950s, there started to be a kind of critical mass of young artists, art historians, curators, writers, who were very interested in contemporary art and who started establishing small galleries and beginning to show new work. There also are a number of art schools in Los Angeles that were also picking up speed at that time. Chouinard is one of the best known from that period, which later became part of CalArts, the California Institute of Arts, UCLA, the University of Southern California, a number of art schools. One of the young, or two of the young, or two of the young art students who became very important players in the Los Angeles scene were Walter and Shirley Hopps. And this is this amazing portrait of them from 1955. So Walter Hopps went on to be a gallerist, a curator, and very influential for decades in the U.S. He was the founding curator of the Menil Collection in Houston. He was at the Corcoran, other places. But around this time, he founded, with some colleagues, the Ferris Gallery, which became the best known art gallery in Los Angeles for about the next 10 years. One of their first and most famous exhibitions was by the artist Wallace Berman, who had a practice that was very much intertwined with poetry, photography. He self-published a kind of journal called Veritas that you see some images of. These are posters from his 1957 exhibition at Ferris. And you get a sense for the handmade kind of aesthetic that he had. This exhibition was also very well known because it was shut down by the police on obscenity charges because it showed sexual acts in some of the work. This gives you another example of what Berman's work was like. So it would combine drawing. He often used the mail. This is a self-portrait. You can see his camera kind of in the shadow here. And he collaborated with a number of artists, including Jay DeFeo, who's very well known for her sculpture, The Rose, which you see in the background. And this is kind of a portrait of DeFeo that they worked on together. And Berman often uses Hebrew letters in his work. And you see that there. So Berman had made quite a splash, although he certainly was not selling a lot of work. But Ferris was developing a kind of notoriety. And a lot of the young, ambitious artists in L.A. at the time wanted to show there. And it became a kind of center of the community among artists. Another very important painter at the time was John Altoon, who has been somewhat forgotten in recent years and then rediscovered. He taught at Chouinard, where a number of younger artists were his students, including Ed Ruscha. This is a portrait of Altoon by Dennis Hopper, who we mostly know as an actor and director, but in fact was a very accomplished photographer and a big art collector in L.A. at the time. And was very close to a lot of these artists, including Altoon, Ruscha, and many others. So Altoon was working more in the abstract expressionist idiom that we saw with the painter in the movie and also thinking about Pollock and Krasner. So this is a painting from around 1958 by Altoon, so just a few years before the film is set, that includes a lot of the heavy brushwork, impasto, layering of colors that's very typical of many of the abstract expressionists. But he was very restless, he worked in a lot of different directions, and he began doing a lot of painting that focused on stripes, moving away a little bit from that very improvisational painting style that he embraced earlier. And eventually he started working in a kind of surrealist style that has elements of those stripes, elements of the dripping paint and splashed paint that you see in someone like Pollock, but with these kind of symbols and this surreal feeling of different elements that don't necessarily fit together logically. And this interest in surrealism was very widespread among artists in Los Angeles at the time. At the same time that Ferris was just beginning to take off, and I'll come back to what was happening at Ferris in a few minutes, there were many other artists who were beginning to show in Los Angeles. Among them, Betty Sarr, who is now in her 90s, and is a great example of an artist who has found fame very late in her career. But in fact, she was working in LA beginning in the 1950s. This is a portrait from her from around 1970. And she started as a printmaker. She was very interested in combining print techniques, in experimental printing. This is a screen print from 1961, where she is showing a self-portrait of her while she was pregnant. So a very kind of intimate look at her own life, which, of course, for a Black woman in the United States, was not something that was being seen in a lot of mainstream art venues. As she went on in her career, she continued to experiment with printmaking, but also began to make the assemblages or works made from found objects that she became best known for and that also became a very important element in Los Angeles art in the 1960s. So this is one of her earliest assemblages, View from the Palmist Window of 1966. These are, in fact, window frames that she has fitted with different images and objects. She often used dolls, photographs, other personal items that she used to kind of tell these, again, rather surrealist, inflected stories. And then one of her best known works, Black Girl's Window, from 1969, which seems to show a self-portrait of her looking out a window almost like an outsider looking into society, which is how I think she felt as a Black woman or a Black girl growing up. And then all these other elements have to do with astrology, their references to the civil rights movement and the Black power movement that she was involved in, this American eagle seems to be included kind of ironically. So these are the works that Sarr eventually became best known for, and now she really is seen as one of the pioneering artists of her time. Simultaneously, another gallery that became rather important in the Los Angeles art world was the Hoistman Gallery founded by Henry T. Hopkins, who was another young art historian who knew Walter Hopps and Shirley Hopps and was kind of part of the same community. This gallery became best known for the exhibition that I'm showing a poster of here called War Babies, which is a colloquial term to refer to young people who had grown up after or during the Second World War. So the dates down here, 1937 to 1961, a lot of this generation was born in the 30s, and then their childhood was during the Second World War. So these are four artists. So Eddie Beril, Larry Bell, Joe Good, and Ron Mirashiro. And each of them is holding a stereotype about his ethnicity. So it was a very kind of satirical, but also quite edgy poster. So Eddie Beril is African-American. He's eating a watermelon, which is stereotypical as kind of a racist symbol for African-Americans. Larry Bell is Jewish. He's eating a bagel. Joe Good is Catholic, and he's eating fish. And then Ron Mirashiro is of Japanese descent, and he's eating with chopsticks. So it's a really interesting poster for them to have done. And it was unusual in that it was engaging so directly with questions of race. and, of course, their tablecloth is the American flag, and really kind of questioning and satirically pointing to these racial divisions at the time, at the same time that they were all doing this together. So in a way, you can kind of read it as a collaborative artistic project that, in fact, brought many different ethnic groups together. This was quite a famous moment in the LA art world and kind of typical of the sense of humor that a lot of the artists at the time had. So to give you an example of the work that these artists were doing, this is Larry Bell, the one who was eating the bagel, and he became a pioneer of the California light and space movement. So this interest in light that you can especially see with this installation, abstract forms, kind of capturing something about the Los Angeles atmosphere and light was a hallmark of his work and of other colleagues working in the same way. This is a portrait of Ed Birell by Jerry McMillan, who took a lot of the photographs of this time. So his work was largely based on portraiture. So, you know, a lot of the kind of focus on abstraction that had been dominant in the 1950s was gradually eroding, and this is a self-portrait that we don't have the exact data of. It's from the early 1960s, and it's got that same kind of, it's got an element of gesturalism, but he is working in a figurative vein. And then here he's kind of combining them, again, using elements of collage, which so many artists did, assemblage and collage, bringing together found objects, like this newspaper. So it's kind of teetering on the edge between figuration and abstraction in these. Ron Marashiro, as I said, is of Japanese descent, and his work was also kind of not easily categorizable. They're abstract elements, but then there's this kind of spoon shape in the middle. And then he also did these assemblages that included Christian imagery, kind of machine parts. So a very wide variety of work that was happening at the time. One of the other very important galleries was founded by Virginia Dwan, the Dwan Gallery. This is a portrait of her. I love all these photographs of these characters from the 60s. because they're all so stylish. And then this was the Dwan Gallery in 1961, so around the time that the movie was shot. And Dwan became very well known for working with earth artists. She did a lot with Robert Smithson and Nancy Holt. But she started off as one of the first to show pop art, which was increasingly at this time becoming more and more well known and starting to dominate some of the smaller galleries. So abstract expressionism is starting to kind of fade, and pop art is starting to come up. So she gave a very early solo show to Robert Rauschenberg at Dwan in 1962, so the year the film came out. This is a collage that he made as an exhibition announcement for that show. These are some interior shots of the Dwan Gallery with Rauschenberg's show on view. And this is a wonderful photograph of Klaus Oldenberg, who also showed a Dwan and had brought one of his floor sculptures, the floor cone, to L.A. on his car. So it's kind of got the spirit of the time and some of these very important pop artists like Warhol, who we'll see in a minute, and Oldenberg and Rauschenberg, who began to show there. So to go back to Ferris, in around 1960, it really began to be the dominant gallery in L.A. and part of that had to do with this person, Irving Blum, who became the director of the gallery. He kind of took over from Walter Hopps, who became the curator at the Pasadena Art Museum, which I'll talk more about in a minute. But Blum was really a salesman. He was very interested in image. He was very good at selling his program. And so Ferris took on kind of a more commercial and also a very distinct personality as the home of these bad boys, of artists who were kind of working hard and living hard, had a lot of girlfriends, went to the beach and rode motorcycles. This is John Altoon reclining on a motorcycle here. They always have cigarettes hanging out of their mouths. So this kind of like James Dean movie star sort of image that was really cultivated by the Ferris artists. And they did a lot of photo shoots of themselves in which they're kind of doing their bad boy thing. So here we have Ed Keenholtz, Alan Lynch, Ed Moses, John Altoon, Robert Irwin, Craig Kaufman, and Billy Al Bengston. And they're all, you know, goofing around, looking cool. They've got their sunglasses. There's the American flag. Sorry. So they take on this kind of almost like a movie star ethos that they're like the epitome of California cool. In fact, they did an exhibition in which they celebrated themselves as these studs. So stud being an American slang for like a playboy, basically. So they, in fact, had their own exhibition called The Studs that had Moses, Irwin, Price, and Bengston. And then this photograph of Irving Blum, I think really speaks to the image they were trying to cultivate. And these were all professional models who were part of the art scene as well. So in addition to cultivating this image, Blum also was very, very smart and adventurous in the work that he showed. And he, in fact, started showing a lot of work that was being made in New York, although not abstract expressionism, pop art. So Andy Warhol had his first ever solo gallery exhibition at Ferris in July 1962. So this is exactly when the film was made. And so here you see Blum with Warhol. These are Warhol's famous silver balloons that you see in the distance. I love this image and the kind of atmosphere it seems to cultivate. And in this first show, Warhol showed his soup cans, which here are shown on a literal shelf, like soup cans in a grocery store. But these are the ones that eventually landed at the Museum of Modern Art that I'm sure many people have seen. So a very, very important exhibition historically that was at Ferris in 1962. Warhol spent a lot of time in Los Angeles and, in fact, made a film about his going out to LA for the exhibition and the people he met there. So this is Dennis Hopper, who some of you might recognize. This is this kind of surreal film called Tarzan and Jane Regained, Sort of, from 1963. It's 16 millimeter. And it's very goofy. Not a lot happens. So it's a lot of kind of pretending to be Tarzan and Jane around the pool in LA. But this kind of tells you what you need to know. They're palm trees. They've got on Tarzan costumes. They're goofing around outside. So it was a kind of celebration of the like hedonistic atmosphere of the LA art scene. Around this time, Ed Ruscha started to become more and more of a star of the Ferris Gallery and of the LA art world. This is a portrait of Ruscha taken by Dennis Hopper in 1964. And he looks like a movie star. And he really cultivated this kind of artist as star vibe. Like he could be James Dean or any of the other stars of the time. And he really used it to his advantage to create a kind of marketable persona of the LA artist. His work at the time was often talked about in terms of pop art. So engaging with popular culture, advertising. This is called Actual Size from 1962. And that refers to this little can of spam. I'm not sure if you're familiar with spam. Certainly you have much better meat of this kind in Italy. But spam is a processed meat product that was developed for the Second World War, but became quite popular in the US. It's kind of like a pate. But it's also kind of like dog food. And it comes in a can and you can keep it forever. So here is the logo of the spam brand. And then a little can of spam flying through space like a rocket. And then there are these drips that seem to kind of refer to Jackson Pollock down at the bottom. So it's a very interesting combination of references that he has here. He also is starting to show his interest in verbal language. So we recognize the label spam. We also say the word spam, which is a nonsense word in English. It comes from ham. But spam doesn't mean anything. It's just the brand of this product. Oof is another one from the same year that is combining this interest in verbal and visual language. So oof is the same in almost any language. It's kind of like, ooh, it's exasperation or relief. Glad that's over. But he's showing it almost like geometric abstraction. So this blue background, the yellow letters, and that fissure between verbal and visual language is very important. Perhaps most significantly for our purposes today, in 1962, he published his first architectural book. This book called 26 Gasoline Stations, he made quite a small, it was mass produced, but in a small edition. So several hundred copies. But it was done in a printer. It's not an artist's book. And to make it, he took these very kind of snapshot-like photographs of gas stations between Los Angeles, where he was living, and Oklahoma City, where he grew up. And basically, they're tracing his route, driving home from LA to Oklahoma City, along Route 66, which of course is also very famous. And looking especially at this one, which is actually in Oklahoma, but there's a scene in Smog that's almost exactly like this, that has those flags in the air, kind of strewn around. So the aesthetic in Ruscha's book is very, very similar to what was captured by Rossi in the film. And Ruscha went on to make a number of these books about 12, most of which captured these very banal aspects of Los Angeles, like swimming pools or parking lots or every building on the Sunset Strip, which was a lot of very kind of shoddy, vernacular buildings that he captured very meticulously. So in talking to Roberto, he told me that, in fact, the film was released on the same day that this exhibition opened. This was called New Painting of Common Objects at the Pasadena Art Museum, where our friend Walter Hopps, who founded Ferris Gallery, was now a curator. Ruscha, in fact, made the poster for this. He designed it in collaboration with a commercial poster maker, you know, graphic designer. And this is well-known as probably being the first exhibition of pop art, at least in the U.S. So it included Jim Dine, among the well-known ones, Lichtenstein, Ruscha, Thiebaud, and Warhol. And it took place at the small art museum, the Pasadena Art Museum, which is technically right outside Los Angeles in Pasadena, California. And interestingly, the first exhibition of pop art was in L.A., not in New York, where a lot of these artists lived. Ruscha was, in fact, the only L.A.-based one. Thiebaud was mostly in San Francisco and sometimes in L.A. But the rest of the artists were, except for Joe Good, based in New York. But it really brought together pop art from both sides of the country. And the title, I think, is really interesting, The New Painting of Common Objects, because these artists were focusing on everyday objects, like gas stations or soup cans. And it brought home that aspect of pop art. The next year, the Pasadena Art Museum also held one of the first retrospectives of Marcel Duchamp, which was interesting, considering that Duchamp was living in New York and, of course, had emigrated from France. But it was a very famous and influential exhibition and really shaped a lot of the work of L.A. artists at the time and New York artists as well. But this was a kind of publicity stunt that became very well-known, where the writer Eve Babitz played chess naked with Duchamp. and you see Duchamp's large glass in the background. Here are Warhol, Irving Blum in the background, Billy L. Bankston and Dennis Hopper at the Duchamp opening. So it really brought together a lot of the key figures in the L.A. art world. At the same time, the artist Via Selmans, who's now very well-known, it kind of took a while for her to also build her reputation. She was a young artist living in Venice Beach, California, and made this series of paintings for which she became quite well-known, also of everyday objects. So she painted every object in her studio. This was a lamp that she painted. She painted her space heater. So they have the same kind of deadpan and the same emphasis on common objects, everyday objects. Things really began to change in L.A. in a permanent way in 1965, when the Watts riots happened in South Central L.A., the same neighborhood where the Watts Towers are. These were very similar to a lot of the protests that have happened in the U.S. in the last five, 10 years. It was an example of police brutality, a Black man being stopped and arrested. And there was a huge protest in the Watts neighborhood in South Central Los Angeles, which is primarily African-American even today. and it really symbolized a kind of break between the peaceful civil rights movement that had been happening for a while and a much more kind of much more violent and much more elevated kind of racial justice movement that came out of some of these incidents. Later on, of course, Robert F. Kennedy was shot in Los Angeles and was part of the wave of assassinations that also took Martin Luther King, Malcolm X, and of course, John F. Kennedy in Dallas. So a very important exhibition that brought together many African-American artists working in L.A. at the time was curated by two artists, Noah Purfoy and Judson Powell, and it was called 66 Signs of Neon. It was at the University of Southern California in 1966 and then it toured. And it was all work that was commenting on, processing, and used actual objects from the Watts riots. So you can see in the poster an image of some of the destruction that came out of the riots. And these are some installation shots of a really wide variety of artists who participated in the exhibition and who were taking on the political events of the time in a very kind of straightforward but very thoughtful way. Around the same time, also, the women's movement in the U.S. was really picking up steam. and the feminist art program, the first program of its kind, was established in the L.A. area in Fresno in 1970 by Judy Chicago and Miriam Shapiro, who, of course, went on to have also very prominent careers. But this graduate program was only for women and it only focused on feminist methodologies. And eventually their final project was Woman House, which some of you may know. this is the cover of the catalog designed by Sheila DeBrettville that was a kind of manifesto for feminist art. There also was increasingly a kind of critical mass around Chicano art or art made by Mexican-Americans in the Los Angeles area. and there were two collectives that became quite well-known of Chicano artists. One was ASCO, which focused on performance. This is Stations of the Cross performance that they did in L.A. in 1971. The artists were Willie Heron, Gronk, and Patsy Valdez. And you can see like the neighborhood kids and passers-by who became part of this rather surreal processional through the L.A. streets. And then Los Four or Frank Romero, Carlos Almaraz, Gilbert Lujan, and Robert de la Rocha who focused on muralism. There, of course, was a very strong mural movement in Mexico, people like Siqueiros and Orozco. And they brought that to L.A. among first and second generation Mexican-Americans and did a lot of public mural projects around the city that focused on the Chicano community and experience. One of the best known of those was by Judy Baca and collaborators from the communities where she worked that she called the Great Wall of Los Angeles. It was in North Hollywood made from 1974 to 1984 and which really brought in everyday people to participate in making murals that reflected their experience. So what I hope to show through this presentation is that L.A. was really at a critical juncture in its art history during the early 60s and into the early 1970s. So it's kind of fascinating that Rossi happened to hone in on that and one gets the sense that along with his fascination with architecture he was fascinated by the other visual culture that was coming out of L.A. and that it was a time of great promise when a lot of things were really starting to come together leading eventually to the very important role that L.A. has in the art world today. But it was all starting right around 1961, 62 when Rossi made Smaug. Thank you so much. Thank you a lot, Alexander, for this brilliant synthesis and stimulating intervention about that time. I don't know what we do about that but maybe if there is somebody that want to ask some question to Alexander so she's free to follow or not later. No? No, I think we are really a little impressed by the time. We will write you eventually and get okay? Absolutely. Thank you so much. Thank you very much and sorry for a brief interaction but I will be long later. Thank you a lot. Thanks. Bye-bye. Bye. Chiamo qui al tavolo Carlo Montanaro che la maggior parte di voi forse conosce già in quanto in qualità di storico del vedere con la sua fantastica fondazione posso dirla museo ma direi più che Carlo che casa museo universo museo fabbrica fabbrica del vedere ex direttore dell'accademia di belle art di Venezia io l'ho conosciuto come docente dell'UIA tantissimo tempo fa l'altro giorno anche come dire non so produttore realizzatore anche di cinema in qualche modo ho fatto è vero insomma non tutto ma di tutto ecco e che ci racconterà un po' di cose intorno alla figura dei Pasinetti e soprattutto ci farà vedere per la prima volta da tanto tempo l'unico film interamente realizzato da Pier Maria Pasinetti e Roberto Zerbini mi hanno detto che io devo stare qui così nel caso veniamo fuori nelle foto tutti e due perfetto io normalmente parlo anche io a braccio preferisco ma essendoci un tempo abbastanza corretto allora ho cercato di scrivere così forse le cose vanno meglio anche perché citerò molto farò raccontare le cose soprattutto agli altri PM Pasinetti un italiano testimone e guida nella riscoperta dell'America scrive Silvana Tamiozzo Golma nelle paretele inventate che sono gli atti di un convegno fatto sui fratelli Pasinetti lo stesso PM in più occasioni aveva affermato che la capacità fuori del comune di elaborazione e di lavoro del fratello Francesco appunto era forse figlia di un presentimento di tempo limitato da vivere PM ha invece il tempo che a Francesco mancò ricostruire la sua vicenda biografica è impresa complessa anche perché ogni sua stazione formativa o lavorativa diventa parte di una sequenza lunga Venezia Padova Roma l'Inghilterra l'Irlanda il primo sbarco in America negli anni 30 a partire dal 38 la Germania poi negli anni 40 la Svezia e poi ancora l'America del Vermont e del Jal e poi dal 49 quella definitiva di Los Angeles che inaugurerà uno stile di vita a corrente alternata diviso tra la sua Venezia appunto e la Città degli Angeli sodali e complementari dalla nascita Francesco 1911 e Pier Maria 1913 Pasinetti nipoti nipoti del pittore Guglielmo Ciarbi appartenente alla buona borghesia veneziana segnano la prima metà del secolo passato per intraprendenza creatività e capacità di coinvolgimento di coetanei altrettanto impazienti di crescere privilegiano la comunicazione in tutte le sue forme con il teatro partendo da quello delle marionette con rappresentazioni rivolte a parenti amici in una chiave tra il grottesco e il surreale con la fotografia e presto anche con il cinema amatoriale e infine con la scrittura scolasticamente non brillantissima quella di Francesco anche se rivolta ai nuovi media eccellente quella di Pier Maria soprannominato prima Bibo e poi PM che scrive e descrive con naturalezza e immediatezza fondano riviste e cleve per cinema amatori cominciando a provarci Francesco nella verifica di un linguaggio che coniugasse nella composizione del bianco e nero l'equilibrio compositivo riscontrabile in particolare nei disegni monocromi del nonno PM più attratto nell'unica prova realizzata e sopravvissuta a nuvola che vedremo non adesso fra qualche minuto dai dettagli tra il realistico e il favolistico di una narrazione essenziale complici anche nei progetti comuni affrontano senza esitazioni problematiche sociali nell'unico lugovettraggio costruito insieme il canale degli angeli 1934 il lavoro che comporta fatica e rischi e soprattutto la tentazione dell'adulterio con sullo sfondo la necessità dell'altrove nella ricerca della realizzazione personale in un'ambientazione in esterni che prefigura già l'idea neorealista di una condizione di vita che impone la conoscenza del nuovo un tema questo tutto di PM che poco più che ventenne viene rimproverato dal padre di impiegare le risorse che sta iniziando a guadagnare avendo sin dalla fine del 1933 deciso di andarsene in giro per il mondo per conoscere l'aspirazione che rimase forse la più radicata della sua vita questo lo scrive Maurizio Rebersiak sempre citato dagli atti di questo convegno iniziato con Francesco dalla zia Emma Pittrice che si prende cura di loro alla scomparsa prematura della madre Maria alla cultura anglosassone PM dice di sé sono uno scrittore che per diversi decenni ha più o meno diviso la sua vita tra Venezia e la California questo non ha reso più facile la mia vita professionale sento però che tutto ciò non mi ha reso due volte esule ma piuttosto una persona che ha le sue radici in entrambi i luoghi anche se più profondamente a Venezia come naturale questa situazione è indispensabile per dare un senso al contributo che posso aver offerto all'arte della narrazione una dichiarazione anticipata da un'altra osservazione importante oggi sono quasi pronto a considerare come regola assoluta che un romanzo moderno degno di considerazione non possa essere scritto da un autore che sia rimasto legato al luogo in cui è nato quando si tratta di acquistare il pieno controllo del proprio patrimonio natio delle immagini dei suoni è necessaria una certa distanza la coscienza degli altri accanto alla coscienza personale delle origini è indispensabile ed è riflessa e assecondata dalle tecniche della narrazione punto di vista istanze narrative il personaggio principale del mio romanzo più importante il ponte dell'accademia un uomo nato a Venezia che ha l'opportunità di evocare di rivivere di commemorare dalla California alcuni avvenimenti personali e storici che hanno costituito la sua vita il livello di comprensione e di arricchimento umano al quale previene è dovuto a questa distanza che ne struttura la memoria il sentimento la coscienza ma l'altra faccia della scrittura quella che dalla metà degli anni 30 ha contribuito all'autosufficienza economica corollario fondamentale della curiosità e della voglia di conoscere il giornalismo e riprende sempre a dire di sé Pier Maria poco più che vent'anni andai in America per la prima volta da studente prima in Louisiana e poi a Berkeley ebbe la prima importante scossa di mal d'America mentre attraversavamo in macchina l'Oklahoma e guardando gli spazi intorno a me durante una fermata pensai che nessuno doveva averci passato una notte ci furono naturalmente innumerevoli altre epifanie allora le mandavo alla Gazzetta del Popolo che aveva la più bella terza pagina d'Italia comincia con il 1934 la collaborazione con il quotidiano torinese e continua a dire di sé Paginetti prima che mi dimentichi meglio avvertire subito che la mia frase di poco sopra arrivai a Strasburgo è l'incipit del mio primo articolo uscito sulla terza pagina che allora era appunto pagina numero tre della Gazzetta del Popolo di Torino nella quale ci sono fior di collaboratori quattro nomi come esempio due giornalisti super Monelli Volta due destinati alla canonizzazione Garda e Montale si pubblicavano anche le poesie il mio primo modesto articolo si intitolava Strasburgo Bruxelles scrivendo meglio descrivendo le cose più diverse iniziando o confermando le amicizie e i rapporti con precisione e alla base quell'ironia che al di là della scrittura ne faceva un interessantissimo disponibile e disincantato compagno d'incontri come Francesco anche PM dal momento che rimangono esclusi da questo breve escursus i molti e prestigiosi incarichi ufficiali in particolare l'insegnamento in America ha fatto di tutto e di più in una vita però più generosa con lui quasi centenaria molto occasionale il coinvolgimento diretto con il cinema che è rimasto comunque componente essenziale della sua vita tanto da suggerirgli per fino il titolo dell'autopiografia scritta riscritta e mai finita filologicamente redatta da Silvana Tamiozzo-Golman e che si intitola Fate partire le immagini si è detto del film sperimentale prodotto dal Cineclub Venezia Nuvola la favola drammatica realizzata nel 1934 insieme a Roberto Zerboni con due bambini sperduti in una sorta di Eden sospeso tra acqua sabbia e cielo e adesso ci si fermiamo un momento proviamo a vedere dura pochi minuti 10-12 minuti Nuvola che è l'unico film firmato da PM Pasinetti essendo muto ha un accompagnamento dal vero della flautista Federica Lotti che è l'unico Grazie. 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 Abbiamo capito abbastanza anche quanto Francesco poteva aver fatto nell'aiuto, era un po' il capo sempre di tutte le iniziative. Francesco è assolutamente rispettato da chiunque e figuriamoci dal fratello. Allora, tra l'altro avete visto film sperimentale per chi non ha conoscenza di quegli anni, quando nasce proprio tutto il movimento cineamatoriale che poi diventa cinegufe e quant'altro, chiamano sempre le opere che fanno sperimentale. E' proprio una sorta di vocazione. E' una sorta di vocazione che loro si portano appresso e che non è un caso poi diventerà l'epiteto di quello che nascerà in Italia come terzo, credo, punto statale di insegnamento per il cinema, cioè il centro sperimentale di cinematografia. E' da quello che nasce l'idea, proprio con il richiamo dei giovani che avevano voglia di fare il cinema. Allora, si è detto del film sperimentale prodotto dal Cinecle Venezia Nuvola la favola drammatica realizzata nel 1934, non 1935, insieme a Roberto Zervoni con due bambini sperduti in una sorta di Eden, sosteso tra acqua, sabbia e cielo. E' del canale degli angeli, dello stesso anno la cui scrittura venne attribuita al solo PM, anche se tra progetto e realizzazione fu predominante il lavoro al dettaglio di Francesco. A parte la collaborazione col fratello ed alcuni soggetti rimasti inediti, bisognerà aspettare il dopoguerra e il grande lutto, la morte di Francesco scomparso, aggiungo io in questo momento prematuramente, nel 1949, per ritrovare nel 1952 PM sul set. Fisicamente, oltre a contribuire alla sceneggiatura, farà infatti la comparsa in una delle scene iniziali della signora senza camelie dell'amico Michelangelo Antonioni. Difficile capire il suo peso nella struttura narrativa costruita dal regista Consuso Cecchi d'Amico e Francesco Citto Maselli, che fa intuire in una breve testimonianza una sorta di supervisione complessiva. Col fin della metro le cose cominciano a solidificarsi, se di solidificazione si può parlare in un genere di lavoro in cui tutto in fondo è un po' vago e un po' dispersivo. scrive l'11 luglio 1952 alla cognata Loredana Balboni, con la quale è iniziato quella che rimarrà nel tempo una intensa corrispondenza, e che è stata pubblicata da poco, sempre dal CISVE, che si chiama, da un arriva all'altro dell'oceano, lettere di PM Paginetti a Loredana Balboni, 49-59, a cura di Monica Giacchino, Michela Riusi, Samuela Simeon e Silvana Tamiozzo-Golman. Naturalmente sta parlando in questo momento della metro perché si tratta del Giulio Cesare di Joseph Manchievic, 1953, tratto da Shakespeare, per il quale PM lavora divertendosi molto come supervisore storico, contenendo e ridimensionando le tipiche baracconate hollywoodiane, tipiche dei film in costume. E se nel 1973 collabora gentilmente con Francesco Rosi, interpretando con Severo Cipiglio, con il suo, nella presa diretta originale, inglese perfetto, un diplomatico italiano all'ONU nel team Lucky Luciano, con ogni probabilità l'opera più significativa del suo professionismo si colloca proprio nel mezzo di questo ventennio, nel 1962, con Smog di Franco Rossi. Rossi, già interno Rai, serevica al cinema con alterne fortune, dimostrando un solido mestiere, saltuariamente al servizio di ispirate introspezioni psicologiche. centrali nella sua carriera, finita poi con robusti sceneggiati televisivi, per l'Eneide nel 71 collaborerà ancora con lui Pier Maria, due film, Odissea nuda 1961, ambientato sui mari del sud, e Smog, il primo film italiano interamente realizzato negli Stati Uniti, sappiamo nel 62. Le due opere, entrambe incentrate su un italiano che si trova a confrontarsi con due realtà simili, ma contrapposte. Una terra mitica e senza tempo, squillante, di primitiva voglia di vivere di colori, quella fra papete e bora bora, e l'altra piatta, ingrigita da un danaroso inquinamento, con emergenti, manufatti, ora industriali, le torri petrolifere, ora civili di grande rigore architettonico, costruiti dall'uomo, questi ultimi, per provare a sentirsi protetto. Attore fetticcio in entrambi un notevole Enrico Maria Salerno, compagni di progetto, ottimi professionisti, da Ennio De Concini a Franco Brusati, Festa Campanile e Franciosa, Ugo Guerra, che si possono presumere coautori nell'imbastitura psicologica. Più legato all'esotismo, stereotipo Ottavio Alessi sul set delle Isole Felici, più curioso e disponibile Gian Domenico Zagni, prima della lavorazione, sarà vicino a Rossi per i tre mesi a Los Angeles ed intorni guidati, come mi ha raccontato il figlio Gianfranco da PM Pasinetti, per una scrittura contestuale alla conoscenza diretta. E mentre nei credit di Odissea Nuda non appare nemmeno il ruolo dello scenografo, vedasi il volume curato da Marco Leto, aiuto di Rossi per entrambi i film, dedicato nel 61 al film da Cappelli nella colana del soggetto al film, per Smog si legge in coda scenografo Ando, e mi permetto un sig, Aldo in realtà, Capuano, l'abbiamo visto prima, fino alla contestazione sessantottesca, seguita dalla ventata utopico-autoriale nella direzione di Roberto Rossellini del Centro Sperimentale di Cinematografia, un film per essere dichiarato prodotto nazionale doveva scritturare almeno due diplomati dal centro stesso, per assicurare loro l'avviamento al lavoro. Nello specifico, il secondo identificativo CSC risulta attribuito nel cast all'attrice Graziella Granata, diplomata nel 60. Se avete ricordato prima che abbiamo ripassato i titoli di coda, era chiarissimamente trascritto. Italianamente, in più di qualche caso, l'ingaggio poteva rappresentare una sorta di proforma per rispondere alle esigenze della legge con costi minimali, dato che Capuano risulta aver finito la scuola nel 1961. Mentre la produzione aveva certamente più attenzione rispetto ai rigorosissimi sindacati americani dai quali attinsa il personale tecnico, capitanato dal bravo direttore della fotografia, Ted McCord, che, racconta Rossi, non gradiva la necessità di verificare, guardando in macchina, l'inquadratura che aveva impostato. Qualche deroga, tra l'altro McCord, abbiamo detto prima, ma comunque semplicemente dei titoli, tre non di più, grande professionista, sia per il bianco e nero, il tesoro della terra madre di John Huston, che per il colore, Valle dell'Eden, l'albero degli impiccati di Delmer Davies, e soprattutto l'Oscar su Tutti insieme appassionatamente di Robert Wise. Qualche deroga ottenuta per generici e comparse, il party dell'immaginaria famiglia Flanagan è stata realizzata in una villa di Pasadena, vi hanno partecipato tra gli altri un nipote di Rockefeller, una signora imparentata con i Vanderbilt e il parente di un ex presidente degli Stati Uniti. Questa è una dichiarazione di Rossi, fatta in quel periodo, recuperata da una scheda del centro San Fedele di Milano. Quest'ultimo, cioè il parente di un ex presidente degli Stati Uniti, fingeva di essere il padrone di casa. Oso credere che molta parte di questa varia e svariata umanità, curiosa di entrare nel meccanismo del cinematografo, venne coinvolta grazie all'amicizia con Pier Maria, che guida per Rossi e Zagni, di certo li ha portati tra Los Angeles, Hollywood, Beverly Hills, Calder City, Pasadena, tra interni ed esterni, alla scoperta di un'America da lui ormai vissuta da quasi trent'anni dal di dentro con personaggi reali, diventando di fatto, se non proprio lo scenografo del film, quello che ha probabilmente indicato i suoi luoghi e i suoi siti esemplari per l'analisi che costituiva la sua personale scoperta dell'America e che aveva descritto, o si accingeva a descrivere nei suoi articoli a venire. Anche se l'aspetto piuttosto realistico, verrebbe da dire dal vero di molte inquadrature, non è rubato come potrebbe apparire nella visione del film e come avrebbe voluto fare Rossi. Sempre un'altra dichiarazione recuperata da queste schede del Centro San Fedele, avevo intenzione di girare il film nelle strade della città Los Angeles, come si fa da noi, usando alle volte la gente che passava. Ma in America questo è inconcepibile e mi guardavano come un matto e quanto a usare gente presa dalla vita non c'è stato niente da fare. E concludo sempre con un estratto da questo convegno, parentele inventate, in questo caso Cesare De Michelis, che è stato nella seconda parte, nella terza parte forse, della carriera di scrittore di PM e anche suo editore. Pasinetti andava a su e giù da Washington a Venezia, da Venezia a Los Angeles e da Los Angeles a Washington, secondo un itinerario ciclico e circolare. In ogni posto c'era qualcosa che lo tratteneva, ma in ogni altro posto c'era qualcosa che lo chiamava e lo rapiva. Los Angeles era la sua storia accademica, la sua vita professionale. Washington era la libertà, la curiosità, la passione politica. Venezia era la famiglia, l'origine, l'appartamento sul Canal Grande, dove si sentiva davvero a casa sua, coccolato e vezzeggiato da un gruppo di donne che lo accoglieva entusiasta. Non era però il luogo dell'amore per il quale invece fuggiva lontano, trascinato a 80 anni da un furore amoroso tutto interiore, da un fuoco che non si era mai spento e così girava instancabile intorno al mondo nel tentativo di avere tutto e contemporaneamente correndo il rischio di perdere tutto, perché questo è il destino degli uomini avventurosi. E in questo girare continuo la fama di PM negli anni era venuta smorzandosi, si era pian piano appannata, i titoli che pubblicava si diradavano come anche le sue collaborazioni giornalistiche, peraltro memorabili. Pasinetti era un grande giornalista, un elzevirista di gusto e di una stagione che non ci sono più, ma i suoi reportage dall'America per chi stava di qua e si accontentava di leggere invece di fare il pendolare erano delle finestre che si aprivano su uno straordinario scenario osservato e vissuto sempre con grande sensibilità e intelligenza. le finestre, concludo, dell'America di Smog. Allora, io suggerisco che le domande se abbiamo voglia di discutere facciamo un po' la fine quindi chiamerei Mario Lupano ex docente dello UOV di Venezia ora mentore se non curatore di una bellissima mostra molto piccola che consiglio di andare a vedere Adwork il cui titolo Erbario del Novecento forse vi invoglio ulteriormente. Grazie. Grazie. Ecco Allora, naturalmente ringrazio per l'invito il Presidente Deborah Rossi responsabile dell'archivio storico che è appunto una straordinaria articolazione dell'istituzione della Biennale e ringrazio Roberto Zancan con il quale condivido molte sensibilità per l'intreccio dei temi e dei problemi che in alcuni casi come nel caso di smog si manifestano in modo assai cruciale e capace di risonanze pluridisciplinare che oggi ci paiono molto produttive. Queste sensibilità condivisa mi porterebbe a dire che il mio intervento un po' potrebbe sovrapporsi con quello ricchissimo di Roberto. una cosa che sto cercando di dire quali ho individuato dei riferimenti da una parte c'è il film lì che pesa con la sua consistenza e la sua densità e poi volevo come dire cercare di accompagnarlo con altre letture che pure pesano o con altre considerazioni. In questo caso per esempio mi sembrava utile ricordare insieme ad una studiosa che è Victoria de Grazia uno degli eventi più significativi del XX secolo che forse è stato il trionfo della società dei consumi americana sulla civiltà borghese europea riconsiderando appunto quello che è l'impero irresistibile attraverso il saggio di Victoria de Grazia su come lo standard di vita americano abbia sostituito lo stile di vita europeo e raggiunto un'egemonia culturale su scala mondiale. Un impero del mercato che ha soggettato i suoi studi con le armi non più belligeranti ma le armi pacifiche e seducenti dei consumi di massa. E nel 62 in Italia erano successe molte cose che avevano favorito questa conquista del vecchio continente esportando prodotti e immaginari e tecniche. Per esempio in fondo bisogna ammettere che molte cose erano successe che favorivano l'espansione dell'impero americano attraverso quelle armi pacifiche seducenti. Per esempio l'estetica degli idrocarburi era varata con l'inaugurazione dell'autostrada del sole e delle relative nostrane gughi architetture quelle degli autogrill per esempio oppure nel 60 si erano tenute le olimpiadi con grande dispendio di energie e anche con grandi successi la rai e l'italia che primeggia anche per le strade di los angeles era come dire un brand riconosciuto italiano americano italiano con modalità americane non so questo è un po' tutto da discutere quindi la diciamo il film nel film sapevo e so perché l'abbiamo visto insieme stamattina l'ho visto tante volte che c'è tanta architettura e che di questa si sarebbe occupato Roberto Roberto mi ha suggerito di parlare degli italiani quella specie alla quale non appartiene più come abbiamo preso stamattina perché lui ormai si sente un po' come Gabriella a Los Angeles mentre io sono il ciocchetti di turno e prendo l'invito e in modo e lo interpreto in un modo nobile come un invito a spostare l'attenzione dall'oggetto architettonico ai comportamenti ai rituali agli stili di vita come hanno fatto per esempio gli architetti radicali che sono seguaci di un grande stimatore anche di Los Angeles che è Rainer Banham che appunto hanno spostato la loro attenzione ai comportamenti alla performance se vogliamo anziché all'oggettualità architettonica con magari un posizionamento anticonsumistico contro la società dei consumi molto più dichiarato mi ha appunto quindi dovevo fare gli italiani quindi adesso insomma ho dovuto riposizionarmi insomma ho cambiato insomma ho zerato tutto ho ricominciato da capo senza cercare di fare l'italiota come tu mi suggerisci sotto sotto no? Povero italiota tu parla degli italiani che così come si comportano un po' da cretini no? in questa Los Angeles ora secondo me appunto sono interessantissimi perché sono personaggi in fuga dal paese di origine no? E in perenne metamorfosi insomma sono esponenti di una diaspora a loro modo e la diaspora costringe ad una metamorfosi per cercare di come dire di cambiare identità o di entrare in rapporto con altre con altre identità sono spaesati che fanno finta di essere nuovamente appaesati che si cercano tra di loro no? e si conformano a giocare il ruolo di entità esotica gli italiani in quel paese no? che parlano la lingua del sì no? l'amabile e musicalissima lingua del sì forse sono erranze come qualcuno ha detto detto prima no? sono altre modalità ciocchetti sicuramente è un piccolo uomo perbenista e come tale tendenzialmente desideroso di fantasie erotiche no? generalmente per esempio l'attore che lo interpreta Enrico Maria Salerno generalmente interpreta dei personaggi che sono molto affascinanti no? qui invece è molto laido ho visto da qualche parte che Pasinetti diceva che avrebbe dovuto avere le sembianze di Andreotti cioè i capelli di Andreotti mi sembra ce l'ho visto proprio quindi insomma con una caratterizzazione molto laido eppure Gabriella ne è interessata forse per costruire una rivalità con Mario ecco la il film comunque io adesso su suggerimento suo quindi spero di non tediarvi avrei ripercorso velocissimamente con immagini non col film appunto alcuni passaggi dei comportamenti già l'abbiamo visto una cosa voglio aggiungere mi aggancio a quello che ha già detto Roberto non è il 62 eppure viene presentato un film molto bello che è Parigi Ocara di Caprioli con la Franca Valeri e si potrebbe sicuramente azzardare una parentela anche qui c'è un desiderio di andare altrove per diciamo confronto e inseguire il desiderio personale di Parigi non andare fuori però aveva già superato un passaggio era andata fuori dal centro storico di Roma per esempio dove dove viveva da piccola in un palazzo nobiliare dove il nobile di turno l'aveva come dire aveva abusato di lei e l'aveva portata sulla strada della prostituzione non si pronuncia mai la parola prostituta nel film cioè Franca Valeri medesima è una prostituta assolutamente improbabile quindi concettuale e comunque con questa postura Franca Valeri inizia un'analisi di Roma della città e del suo desiderio di periferia per esempio per allontanarsi da quel centro storico ecco questi che stanno lo stesso a Los Angeles si allontanano dai centri storici insomma si allontanano un po' dal centro adesso Pasinetti andava su e giù da un centro storico conclamato come Venezia poi andava anche questa è una cosa magari da considerare in un posto dove finalmente non c'era il centro storico questo è centrale per esempio il centro storico della città europea è centrale per il ribaltamento dei paradigmi che porta avanti Banham cioè Los Angeles è una città emblema proprio perché non ha niente a che fare con la città europea e quindi si possono costruire tantissimi ragionamenti anche da bastian contrario per poter creare dei ragionamenti paradossali che ci permettono nuovamente di considerare la città e comunque diciamo se non è possibile se non è possibile non importa vado avanti mi spiego con le mani ma come dunque quindi abbiamo fatto il confronto con Parigi Ocara con questo posizionamento della della diaspora rispetto al centro storico rispetto a Roma e poi si incontrano dei fuoriusciti anche là e anche qui insomma il nostro il nostro ciocchetti arriva in una all'aeroporto di spaziale di Los Angeles sicuramente è spaesato è costretto a confrontarsi con altri spaesati che sono dei migranti però lui ci tiene a dire che non è un migrante ma che è un avvocato che deve andare a seguire una causa di divorzio in Messico e quindi è lì di passaggio però insomma viene messo in quella gabbia c'è quell'inquadratura dall'alto per cui insomma il reparto speciale di coloro che devono transitare e che non possono uscire in città insomma ha una sua configurazione quasi da gabbia che è poi questa gabbia che si ripete alla fine insomma con la la villa in cui si sente perso comunque ci sono degli incontri appunto con gli emigranti che passano da Los Angeles si passava da Los Angeles per andare in Australia quindi i movimenti del jet era erano molto molto zizzaganti anche e poi il nostro Ciocchetti non conosce l'inglese era sicuro di andare direttamente in Messico quindi di parlare un italiano spagnoleggiante e invece si trova appunto lì spaesato a dover ricorrere alle hostess icone fondamentali nella jet era c'erano proprio anche del sex symbol del resto nel 60 nella dolce vita Fellini fa un ritratto bellissimo di fiumicino della jet era dove ci sono le hostess che paiono delle sensualissime bisbigliatrici di cose erotiche insomma mentre fanno i comunicati questo per dirti appunto che diciamo la jet era c'era anche in Italia ed aveva una così forse era una declinazione dell'impero americano italiano cioè quindi il Ciocchetti si arrabbia un po' quando i Los Angelini parlano dell'Italia ancora come se fosse nell'immediato dopoguerra in realtà molte cose sono state fatte lui insomma è un protagonista del boom economico e credo insomma usufruito del piano Marshall e quindi vuole appartenere all'America di diritto insomma vuole non sentirsi estraneo e mentre gli altri fuoriusciti che sono già lì insomma hanno già uno statuto uno statuto diverso intanto sono bravissimi nel muoversi nella città e lo conducono in tutte le sue articolazioni la devo andare così ma mi arrangio nel seguire il film abbiamo fatto appunto tutta la parte dell'aeroporto il confronto con le con le le hostes che sono risolutive perché sanno un po' di spagnolo il nostro deve uscire deve andare con con la cioè gli viene dato la possibilità di uscire anche questo è strano come sia stato possibile di uscire senza documenti di andare in città e poi di ritornare sulla parola e di fatti ciocchetti si sente senza identità per lui è una parentesi un periodo sono delle ore dove lui non ha identità e si sente anche un po' libero però di andare alla deriva con i i losangelini italiani italo-americani alcuni di loro orgogliosamente vogliono vogliono denominarsi la la hostes dice vada pure a fare un giro a los angeles e se ne approfitti si faccia accompagnare dalla hostes americana che sta andando in città prende lo stesso taxi sono andati insieme e poi la hostes e il taxi l'hanno abbandonato a Hollywood per strada e lui come dire si è confrontato con diciamo il camminare nella città a dimensione d'automobile camminare a piedi nelle città nelle città a dimensione d'automobile e che non riesce a fermare i taxi si lamenterà che non riesce a fermare i taxi e gli dirà poi Salvadori l'altro protagonista che non è una città turistica quindi non ci sono i taxi insomma oppure non sono così facili da fermare e quindi questo adesso c'è qualcosa è stato spostato va bene sono immagini che conosciamo il film è un diciamo è strutturato come un documentario un po' on the road che attraversa sei in sei capitoli sei zone di Los Angeles quindi c'è una struttura anche molto chiara quasi di descalica sempre attraversando tutte queste zone queste entità geografiche che sono tutte Los Angeles in automobile sempre con le autostrade quindi viene restituita questa questa Los Angeles che in quegli anni si incominciava a dire che non è più la città negativa di una volta sparpagliata ma ha una sua compattezza cioè tutte queste realtà diverse hanno un senso di appartenenza e questo favorisce diciamo un nuovo corso anche l'apparizione dell'arte contemporanea per esempio dopo faremo alcune considerazioni dunque abbiamo visto il confronto con le hostess l'uscita per andare a prendere il taxi per correre i taxi a destra e a sinistra dell'autostrada ci sono grandi estensioni di parcheggi oppure delle gasoline insomma proprio estetica degli idrocarburi pure per tutta la filiera perché ogni tanto ci sono pozzi di petrolio oppure appunto distributori di benzina parcheggi parcheggi di centri commerciali parcheggi con la filodiffusione e questo è il tema della musica nel film e della musica come sottofondo è molto presente anche perché il lavoro di Gabriele è un lavoro molto figo che è quello di come dire creare degli ambientazioni musicali addirittura nella galleria che avete visto Salvadori Mario nel film viene è un come dire un collaboratore di Gabriele Gabriele è una presenza sempre molto forte anche se si vede molto avanti nel film dopo un buon numero di minuti e anche come è stato sottolineato non si vede apparire immediatamente con il volto in primo piano ma addirittura in una lunga sequenza in cui lei guida l'automobile e la macchina di presa riprende la nuca è una presenza molto attesa che a un certo punto si manifesta allora dopo questi giri a piedi ah beh questa c'è Hollywood che automaticamente un po' come Fracchia mima le forme sinuose delle delle attricette per Hollywood è subito questo per le cliniche per per cani e gatti che saranno uno dei lavori di Mario in Salvadori che incontra ciò che ti incontra ecco i i i i parcheggi sopra i centri commerciali si è stanco si accascia finché arriva appunto ad individuare la galleria dove c'è il pittore italiano Elio Marpicati la Parson Gallery tra l'altro il Parson era una galleria molto importante di New York qui viene utilizzato il nome per per evocare diciamo una lurda da sistema dell'arte la la galleria la galleria ecco nel 1960 su su Life Magazine compare appunto sul numero del giugno un articolo dedicato tutto a Los Angeles dove si ricorda che a lungo per lungo tempo è stata penalizzata la sua reputazione di città senza centro è stata messa anche in difficoltà dai critici che la descrivevano culturalmente come un campo di cactus dove le scintille creative si perdono nel fumo dei barbecue che noi incontreremo nel 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 film nei barbecue in giardino e annegano negli schizzi di migliaia di piscine anche gli schizzi delle piscine le incontriamo ma sicuramente la città in espansione sta guadagnando coesione si dice no la macchia e la macchia culturale di cactus ha iniziato a fiorire anche oltre i sogni dei mecenati d'arte degli impresari di concerti o commercianti di immagini e di schilibri la stessa ricchezza immaginazione forza muscolare che sta costruendo autostrade costruendo arene sportive e torri civiche sta dando a Los Angeles i simboli della cultura che le mancavano così tanto il puro orgoglio civico non renderà Los Angeles un incubatrice per artisti creativi come New York ma sta costruendo grandi centri d'arte di cui qualsiasi città sarebbe orgogliosa il canto di museo Moffart viene costruito proprio in quegli anni tra l'altro credo con il concorso dell'architetto che abbiamo visto che è anche autore del simbolo dell'aeroporto ecco quindi insomma c'è un mercato ci sono dice un nuovo tipo di collezionismo che è legato alle nuove industrie delle nuove insomma industrie che sono molto sofisticate e quindi insomma qualcosa di nuovo insomma i collezionisti non sono solo i cinematografari insomma ma sono anche degli industriali che sono molto più sofisticati la ciocchetti qui appunto conosce ecco questo l'artista l'artista poi lo rivedremo nell'episodio del bullying nella sala da gioco del bullying dove lo incontreremo insieme ad un artista compagno e collega che era diciamo attivo a Roma nell'immediato dopoguerra che faceva il caricaturista tutti e due sia sia il costui che si chiamano Elio Marpicati che l'altro che era di Formia facevano i caricaturisti e facevano le caricature ai soldati americani nel centro di Roma poi diciamo uno è diventato Elio Marpicati l'altro resta sempre in America a fare il caricaturista per insomma per pochi soldi ed era anche nel bullying che faceva il caricaturista quindi ci sono tutti questi italiani sono molto diversi mi hai sollecitato a parlare degli italiani ci sono e questi italiani il pittore riuscito il pittore fallito si ricordano e sottolineano questo dell'immediato dopoguerra quando c'era una libertà che era relativa al fatto che non c'era più era caduto il regime un regime che non c'era più niente e quella era un po' nostalgici di quel momento mentre Ciocchetti dice ma come io sono stato lì a lavorare ho ricostruito eccetera adesso mi dai mi dici che ho ricostruito male quindi c'è un po' questa questa discussione fra i due nella galleria incontra anche il sound designer oppure l'assistente della sound designer che è Mario interpretato da Salvadori che intreccia una relazione con Gabriella e anche una storia d'amore impareremo che diventerà molto credibile perché i due attori si innamorano durante questo film e si sposeranno l'anno successivo quindi insomma una storia d'amore molto importante quella tra Annie Girardot e Salvadori che poi è durata tantissimo anche alla fine del loro matrimonio insomma una una bella storia e la e quindi dove eravamo ecco la nel ricordare appunto i comportamenti i comportamenti poco alla volta ciò che ti conosce questo è tante giovane che è un po' un furbastro che fa tanti mestieri che desidera farne altri che lui si definisce in un modo straordinario lavoro con inventiva allo sbaraglio questo qui lo dice in due parti del film che è quello che lo fa insomma anche quando fa un po' come dire il guascone lui lo fa con l'intenzione di essere visionario e di avere di andare anche allo sbaraglio per tentare la fortuna e quindi è già un italo americano con inventiva allo sbaraglio diciamo che lavora con Gabriella che nel frattempo cresce il mito di questa Gabriella che pare l'unica equilibrata e lui fa tanti lavori tipo una clinica fa l'assistente alla clinica degli animali qui porta Faido che sarebbe Fido alla villa a Beverly Hills la scarica e c'è la mamma che urla Faido quel brano che appena arriva il calibro del cagnolino e poi mostra al ciocchetti il suo lavoro che è quello di insegnare un italiano per turiste conversazionale ecco immagino prima c'era una delle molte cose che sono nel film che non siamo mai viste prima in Italia l'ascensore vitrato sì esatto che porta alla scuola dove si impara a dire buonasera e che non c'è buon pomeriggio in italiano e questo sembra preso io non lo so cose del genere le ho viste negli ambienti degli istituti italiani di cultura all'estero dove ci sono le scuole ci sono tutte le signore bene che vogliono entusiasmarsi della lingua del sì ecco e lui insomma un pochino lavora in questo ambiente il nostro il nostro Mario e seduce seduce queste queste signore mature e poi le aiuta magari a fare i party fa le pizzette durante i party e ciocchetti lo segue e dice ma come pensi di poter fare strada tu che entri in queste case belle dalla porta di servizio per andare in cucina io voglio sapere dov'è il padrone di casa ciocchetti è sempre lì che cerca di omaggiare il padrone di casa dove c'è il potere e poi arriva finalmente arrivano nella casa dove vive Gabriella Gabriella vive una single che vive insieme a un'altra single che è Isa Isabella una 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 modella che è sul serio interpretata da Isabella Albonico che era una una nota modella e attrice che era già a New York dal del 1957 insomma quindi viene utilizzata per questo film e ho visto nei titoli di coda che anche gli abiti che indossava lei erano dati da un negozio di moda di Los Angeles quindi vuol dire che c'era un negozio di moda che faceva stile a Los Angeles che non è da poco insomma quindi vive con Isa e con Isa che è una appunto modella che ha un amante che cerca un amante che possa diventare amico ricchissimo che aveva la Roll Royce e il nostro resta ciò che ti resta molto affascinato da Gabriella che si presenta con una con un piglio di donna moderna molto secco deciso risolutivo la quale però appunto dimostra interesse anche per il ciocchetti insomma e lui subito ci casca e lui doveva partire subito il ciocchetti doveva partire subito ritornare subito in aeroporto e poi in realtà insomma decide di andare e partire il giorno dopo poi decide ancora di partire il giorno dopo ancora e quindi inizia questo soggiorno da abusivo in Los Angeles questo è il bowling dove si può anche mangiare c'è anche a Roma il bowling dice però non si può mangiare quindi è pieno di italo-americani in questo bowling quindi lui si entusiasma c'è la possibilità di bere il vino che quindi fa molto italiano c'è un personaggio come Al che è il trafficante di pezzi di terreno che possono essere estrattivi oppure per il petrolio oppure possono essere fonte di speculazione per immobiliare e ha questo Al ha una serie di traffici che cerca di portare avanti con Mario tutto ciò e qui succede appunto succedono dei fattacci Mario cerca di rubare dei soldi ruberà dei soldi al Ciocchetti per fare un affare insieme al il furbastro e Ciocchetti in questo ha una discussione con gli altri italiani lì presenti proprio riguardo appunto alla ricostruzione italiana e alla modernità italiana e del boom economico insomma noi abbiamo le aziende che lavorano dice al nord non abbiamo neanche più forza lavoro fra un po' vorremmo prenderle in America dice quindi insomma e qui Gabriella appunto ha una ha una sua posizione bellissima le chiede ma sì però le donne come sono in Italia come si comportano sono parlo di donne autonome dice non quelle che fanno la serva al marito e fa una serie di di prese di posizione sull'Italia cioè sull'Italia e sui modi di vivere italiane che creano subito una distanza fra lei e il Ciocchetti e sposta un po' la diatriba su un altro territorio no cioè quindi lei è americana ed è orgogliosa di essere americana per aver raggiunto una certa indipendenza e per aver conquistato anche uno stile di vita americano che è l'originale si può dire anziché diciamo quello italiano americanizzato diciamo ecco qui si vede l'Isabella Albonico che recita in postura da modella qui al bullying sulla destra ecco qui c'è l'incontro con il caricaturista amico del del pittore che parlano dei giorni nell'immediato dopoguerra a Roma e qui questi litigano con il Ciocchetti il Ciocchetti litigando qui c'è il salvadore che ruba dal portafoglio del Ciocchetti il Ciocchetti agitato sta male e gli viene un coccolone e quindi chiamano il medico lo portano a casa lo porta lei a casa e lo porta nella casa che è il Study House 22 che non è la casa di questo è importante non è la casa di Gabriella è la casa che intende comprare e che desidera e ha già il permesso di utilizzarla ogni tanto e quindi porta il Ciocchetti per spiegarle questo suo progetto Ciocchetti naturalmente non capisce mentre viene mentre lei misura la pressione la macchina della misurazione della pressione il Ciocchetti le mostra la fotografia di Maria Pia che sarebbe la sua fidanzata Maria Beatrice sì Maria Beatrice fa vedere la fotografia a Gabriella e Gabriella dice ah bella e lui dice sì ma dico la villa perché si vedeva solo la villa e lui dice sì è una villa del Settecento e lei dice ma è sua e lui dice no è di suo padre che è un uomo importante insomma lei dice beh beh insomma quindi lei aveva appena fatto vedere la casa la case study house ventidutta di vetro eccetera e quell'altro gli fa vedere la fidanzata che in realtà è una villa del Settecento e quindi insomma proprio altro che la Franca Valeri che aveva abbandonato il centro storico per la periferia dove c'era il portinaio che aveva dei ragni di ferro battuto sulle porte c'aveva una tastiera che sembrava un pianoforte ecco insomma il Ciocchetti racconta di questa sua fidanzata e insomma lo lascia poi lui dorme lì lei va nella sua casa con la sua amica quella dove abitava abitualmente e lo va a riprendere la mattina la mattina però lo svegliano qui il tema della casa di vetro lo svegliano dei bambini arriva lei lo recupera apprezzano la casa di giorno di mattina e poi vanno a Calver City perché lui chiede a Gabriella dove è Mario e lei dice lui va tutti i sabati va a Calver City perché c'è dei traffici con quelli là del petrolio e lui dice beh allora andiamo perché lì insomma e lei dice ma scusa è brutto no dice poi devo cambiare mi sono vestita di bianco andando del petrolio insomma la costringe ad andare a trovare il Mario che nel frattempo qui c'è tutto questo paesaggio con i grandi sbancamenti che paiono architetture che sono citati da Banham in un modo nel suo nel suo libro sulle cinque ecologie architetture quattro ecologie e arrivano a Calver City il paesaggio del petrolio arrivano alla villa di Hall e qui litigano perché appunto c'è la resa dei conti il ciocchetti si è reso conto che Mario gli aveva rubato i soldi insomma quindi li vuole li prende indietro però capisce che Mario gli aveva rubato i soldi per investire in questo terreno quindi insomma c'è uno scontro sì che non è assolutamente una lotta come diceva tu però infatti tutte quelle fotografie che hai mostrato all'inizio che sono quelle della comunicazione c'è una molta differenza rispetto al film perché sono foto di scena quindi non sono non sono fotogrammi quindi hanno anche una una postura da e qui vanno prima di andare e qui e qui e qui e qui finalmente lui vanno a Pasadena a quella famosa festa a cui lui voleva andare e prima di andare appunto lavano la macchina vanno è interessante a prendere un vestito da sera per lui esistono i negozi dove si affittano i vestiti anche per lui è una cosa abbastanza sorprendente e poi arrivano appunto alla casa dove c'è questo di cui si è parlato anche prima si è parlato prima dove c'erano anche delle degli attori che potrebano essere considerati dei come dire degli attori verità insomma come è stato detto nell'intervento che mi ha preceduto però è tutto invece molto costruito non c'è nulla di neorealistico diciamo assolutamente i personaggi scivolano da una situazione all'altra con appunto con sottili problemi esistenziali e si intrufolano in tutte le diramazioni della città e interpretano i luoghi e le architetture in un modo mirabile e il personaggio di Gabriella soprattutto sembra uscito dalle le amiche di Antonioni sembra una delle protagoniste delle amiche di Antonioni sofisticata con capacità di leggere tra le righe i sentimenti di calcolare di mantenere di mantenere una postura anche forte nei confronti per esempio di Mario a un certo punto lei lascia perdere ciò che ti dice si arrangi ad andare all'aeroporto ci penserà la figlia del proprietario di Pasadina di quella festa e lei torna a casa e trova Mario e lei è contenta insomma si si amano si vogliono bene insomma lei ritrova Mario però Mario come sempre arriva e fugge no? quindi dopo la lascia comunque sola no? cioè va via e la lascia sola mentre quell'altro il Ciocchetti scopre appunto la casa la casa di che è appunto con questa involucro di 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 plastica spaziale cioè materiale esatto che è appunto erroneamente viene detta appunto dello Sputnik in Italia evidentemente lo Sputnik fa più era spaziale che qualsiasi altro nome quindi un pochino quindi ritorna la guerra fredda in due punti da una parte quando c'è la locandina con la bomba atomica dei russi e poi con questo lapsus dello Sputnik diciamo e l'hai già detto tu l'architetto è effettivamente l'architetto che in quegli anni eccolo viveva nella nella villa e la finisce appunto con questo ciocchetti che è sperso rinchiuso diciamo in questo involucro che peraltro fa un rumore sinistro quando lo si tocca quando lo si bussa alle pareti di questo involucro ecco la qui avrebbe dovuto salire per vedere l'immagine il panorama che quella sera lì non c'era lo smog quindi si poteva vedere fino all'oceano ecco questo qui sono immagini che vi ha già mostrato Roberto comunque queste sono l'aeroporto che abbiamo visto all'inizio questo in alcune soluzioni non proprio definitive per il progetto finale ci volevo far vedere ancora una cosa non capisco perché non va avanti no eccolo va bene questa è sempre la la casa di la cupola geodetica così come funziona eternamente ecco questo è il numero di live del 20 giugno 1960 che è dedicato a Los Angeles beh questa è una pubblicità che mi sembra abbastanza interessante quella di destra con le pareti vetrate ecco questa è la famosa fotografia dove il dome cioè questa casa era ancora in costruzione l'architetto è appunto lassù che monta la struttura sono immagini di Los Angeles qui ci sono ecco i terrazzamenti di cui abbiamo parlato prima e poi ci sono anche alcuni progetti di centro civico che vengono che vengono promossi dall'amministrazione c'è una dichiarazione del futuro sindaco gli architetti gli architetti importanti e alcuni edifici molto importanti all'UCLH che soprattutto si edifici legati all'università oppure edifici legati ai nuovi tipi di industria di tipo elettronico che si affacciano sulla baia e questo è interessante perché in modo molto sincretico riporta una tesi di Banham che dice che l'automobile non è diciamo la relazione fra la vastità di Los Angeles e l'automobile non sono una conseguenza diretta la conseguenza è piuttosto tra il precedente della ferrovia elettrica che poi è stato dismesso ed è stato sostituito dalle autostrade ed ha appunto un sistema urbano che è molto rarefatto per cui si possono sostituire delle infrastrutture con altre quindi è stato possibile questo ammodernamento quindi per Banham è molto importante questa precisazione e poi un'altra immagine che mostra l'elicottero dal quale la polizia controlla l'andamento del traffico in città che in collegamento con una radio dove dice dove sono per dire dove sono gli incidenti dove ci sono gli addensamenti del traffico ecco è interessante se noi mettiamo in relazione con anche alcune considerazioni di Banham che diceva che il passaggio successivo al freeway all'automobile saranno i movimenti in elicottero non solo ma anche dei piccoli aerei all'interno della della città e c'erano dei segnali ecco qui ci sono alcune foto di delle delle feste gallerie d'arte di Beverly Hills ecco un po' stralunato ho finito qua cioè non non ho altre non ho una tesi no la mia tesi un po' c'era cioè che volevo un po' contestare diciamo quest'idea dell'italiano un po' così ingenuotto no? cioè rispetto ad uno scenario cioè la società dei consumi c'era e c'era anche in Italia si stava stava aggredendo diciamo la società italiana la società europea quindi non so il confronto è che non è non è vista con soprattutto in questo film come qualcosa di divertente paradossale no? la società dei consumi ma è come dire un qualcosa di molto complesso che interviene anche sull'esistenza sulle persone sui rapporti interpersonali di questi personaggi che si aggirano nel in questa in questa città basta grazie allora ripropongo che casomai discutiamo dopo casomai spero proprio di sì insomma ma Gianfranco Gianni che regista oggi abbiamo scoperto di un mucchio di cose che ci sono piaciuti da giovani eh anzi ormai ha un disco fantastico ed è anche figlio di uno dei tre sceneggiatori del film ha da tanto tempo l'ha già detto il presidente Ciccuto iniziando in progetto un documentario su questo film e quindi insomma lo sentiamo ovviamente non per ultimo ma con l'idea proprio di avere di completare ma vabbè naturalmente io cercherò di occuparmi di quello che più o meno so cioè legato più al cinema volevo solo dire una cosa che non ho scritto e mi è venuta in mente mentre parlava chi mi precedeva è il fatto che quel Elio Malpicani il pittore in realtà è Nino il caricaturista dal diario che ha scritto mio padre in quei tre mesi vissuti a Los Angeles lui dice io vado alla galleria Landau e scopro che c'è un pittore che io conosco un mio amico che si chiama Nino Scordia Nino Scordia è un pittore completamente sconosciuto adesso per lo meno però all'epoca aveva un suo e racconta in questo diario esattamente quello che viene detto lì a proposito di Malpicani che dice il Malpicani a proposito del caricaturista dice io mi ricordo alla fine della guerra nel 45 46 in via nazionale a Roma c'era un bugigattolo dove Nino cioè il caricaturista si sedeva e fuori un omone grosso prendeva i neri americani o i soldati i soldati americani che neri o bianchi che fossero e li mettevano davanti li metteva davanti nella sedia e il caricaturista per campare faceva la caricatura e si faceva dare i soldi ora Scordia era il caricaturista l'omone grosso grande era Federico Fellini che all'epoca oltre ad essere un bravo disegnatore faceva anche questo e quindi mi sembrava carina come cosa nel senso che porta un aneddoto di quelli di vita vissuta ce ne sono tanti altri poi che ho scoperto nel film e proprio i due il Malpicani di fatto era Federico Fellini cioè quello che aveva avuto successo Scordia era quello che non aveva avuto successo ed era il caricaturista questo come prima cosa io mi sono scritto le cose perché insomma sono abituato così Smog inaugurò il Festival di Venezia nel 1962 per poi sperire dalla circolazione a produrlo era stata la Titanus di Goffredo Lombardo a dirigere Franco Rossi e interpretarlo tre dividi all'ora Salerno Salvatori Girardot le musiche erano di Piero Umiliani l'autore italiano di Clone e Sonore insieme a Trovaioli più legato al jazz che solo tre anni prima aveva curato le musiche per i soliti ignoti e con lui di Chad Baker che viveva in Italia aveva aperto un locale a Roma in piena dolci vita entrava e usciva dalle carceri per consumo di cocaina per sopravvivere Chad Baker faceva un po' di tutto suonava dove capitava e all'RCH accompagnava i cantanti poi magari gli capitava un'occasione come questa e la chiapava al volo erano cose che accadevano in quegli anni lui mal aveva chiamato per ascensione per il patibolo Mice Davis che improvvisò tutta la conora della sonora del film in una notte la fotografia di Freddie McCord era quella tipica di un certo tipo di un certo cinema in bianco e nero of Hollywood quello di John Cassavetes all'epoca Smog racconta la storia di un avvocato romano arrogante superficiale catapultato a Los Angeles dove scopre cose che gli sembrano incredibili e assurde nel suo gare per le strade le case di Los Angeles insieme ad una America incomprensibile incontra un mondo sconosciuto quello degli italiani che vivono lì alla conquista di un po' di successo ripartirà 48 ore dopo senza più quelle certezze di italiano medio in pieno boom economico che aveva prima di arrivare Smog è un film on the road dove The Road è l'immensa metropoli la Los Angeles del 1962 il regista parlerà del protagonista del suo film interpretato da Salerno come di un personaggio vigliacco e corruttibile in questo tipico di una certa commedia all'italiana come quelli interpretati da Gasman qualche anno dopo penso al Bruno Cortona del sorpasso forse per questo quando Smog venne proiettato al festival di Venezia dissero che denigrava gli italiani un classico di quegli anni e non solo di quegli anni sono pochissime le tracce critiche di questo film il Morandini scrive che una Los Angeles così nella sua orizzontalità smisurata e un po' mostruosa non si era mai vista in un film americano mentre Mereghetti parla di un film quasi senza intreccio più interessato ai personaggi alle notazioni di costume e agli squarci documentari Smog è stato il primo film italiano girato interamente negli Stati Uniti questo quando le majors americane arrivavano in Italia per girare colossal storici con budget molto inferiori rispetto agli standard degli studios di Hollywood e con in più il vantaggio di agevolazioni fiscali una specie di piano Marshall all'incontrario una legge voluta proprio dall'Andreotti di cui i capelli giustamente vengono citati da Salerno nel film i grandi tycoons colti in contropiede dall'arrivo della televisione producevano film sempre più giganteschi a colori spesso in cinemascope con migliaia di comparse come Benuro e Cleopatra come due settimane in un'altra città di Vincent Minnelli che celebrava in tempo reale il mito della Hollywood sul Tevere paradossalmente film come questi aiutavano noi italiani usciti dalla guerra a rafforzare un altro mito quello di un'America identificata sempre di più col cinema quando Rita Ewart Audrey Hepburn Kate Douglas Alagarner Marlon Brando si materializzavano per le strade di Roma erano delle apparizioni miracolose ad apparire non erano gli attori era l'America anche per questo era strano che con Smog girato interamente a Los Angeles dove tra l'altro non si parla quasi mai di Hollywood un produttore italiano facesse il percorso inverso e realizzasse un piccolo film con pochi attori ed una truppa ridotta ma Goffredo Lombardo non era un produttore qualsiasi la sua Titanus era stata costruita e gestita come una vera e propria major una delle pochissime italiane che produceva e distribuiva i film di Totò ma anche quelli di Visconti Rocco e i suoi fratelli girato due anni prima di Smog e da cui avrebbe ereditato la coppia Renato Salvatore e Annie Girardot divenne un film epocale e di successo tra il 62 e il 63 però il flop attrettanto epocale del Gatto Pardo abbinato a quello del colosso dall'italo americano Sodoma e Gomorra portò Lombardo sull'orlo del baratro finanziario fu questo potenziale fallimento che spinse la Titanus a vendere definitivamente all'MGM americano una serie di film tra i quali proprio Smog probabilmente è questo il principale motivo per il quale è scomparso dalla circolazione per 60 anni ma se Goffredo Lombardo non era un produttore qualsiasi Smog non era un film nato per caso tra la fine degli anni 50 all'inizio dei 60 la Titanus diede fiducia a una serie di giovani registi Valerio Zurlini Nanni Loi Mauro Bolognini Ermanno Olmi Dino Risi registi diversi tra di loro che realizzavano film diversi L'estate violenta cronaca familiare La ragazza con la valigia per Zurlini Il posto e i fidanzati per Olmi La viaccia per Bolognini Le quattro giornate di Napoli per Loi Poveri ma belli per Dino Risi tra questi giovani registi c'era Franco Rossi Rossi era il direttore di doppiaggio prediletto da Fellini diresse i doppiaggi di La strada Il bidone Le notte di cabiri e La dolce vita praticamente tutti i suoi film degli anni 50 contemporaneamente alla direzione del doppiaggio e alla radio nel 51 aveva iniziato a dirigere film le sue scelte lo rendevano abbastanza tipico nel panorama di quegli anni era sempre in bilico tra la voglia di essere popolare come ne Il seduttore interpretato da Sordi il suo esordio dieci anni prima di Smog e la ricerca di una propria poetica da autore come In Amici per la pelle morte di un amico su sceneggiatura di Pasolini Odissea nuda un film speculare a Smog girato un anno prima sempre con Salerno protagonista a Tahiti vista come una terra dell'innocenza Smog sembra fare i conti con l'aria nuova che si respirava nel cinema europeo di allora che fosse la nouvelle vague basti pensare e guardare le sequenze con Annie Girardot in automobili riprese di spalle lungo i grandi boulevard al tramonto oppure con Antonioni nel rapporto tra corpi e architetture nel vagare del protagonista lungo i marciapiedi in una Los Angeles deserta e inquietante dopo il prevedibile insuccesso al botteghino di Smog Franco Rossi prenderà la strada di un cinema dichiaratamente commerciale da alta fedeltà a controsesso fino a porge l'altra guancia con Bud Spencer la televisione però gli permetterà di realizzare quella che resta la sua opera più conosciuta l'Odissea dove questo suo doppio registro riuscirà a sintetizzarsi in qualcosa di mai visto nella televisione di quegli anni oggi è impensabile che per scrivere un film un produttore italiano anche uno importante come era Goffredo Lombardo mandi gli sceneggiatori a Los Angeles per scoprire i personaggi e individuare i luoghi che avrebbero poi inserito nella sceneggiatura ma questo è quello che accadde Franco Rossi e mio padre Gian Domenico Gianni arrivarono a Los Angeles nell'aprile del 1961 il film che dovevano scrivere non aveva ancora un titolo lo avrebbero chiamato Smog allora per noi Smog era una parola sconosciuta o quasi questo sarebbe lo Smog cos'è? una specie di nebbia chiede Salerno nebbia e fumo sale fabbriche il gas delle auto gli spiega Garnir Girardot mio padre nella sua breve vita ha scritto pochissimi film tra i quali il più famoso è Italiani Brava Gente scritto per Peppe De Santis primo di quel film una commedia post-neorealista La Domenica della Buona Gente con Sofia Loren e Nino Manfredi e poi Amici per la pelle scritto proprio per il suo amico Franco Rossi con cui aveva collaborato alla radio dalla fine degli anni 40 quando mio padre raggiunse a Los Angeles con Franco Rossi quando arrivò a Los Angeles con Franco Rossi raggiunse Pier Maria Pasinetti che in quella città come sapete sappiamo ci viveva insegnava e che sarebbe stato il terzo autore a loro tre una volta tornati a Roma si aggiunsero altri sceneggiatori più di mestiere e più legati alla Titanus Pasquale Festa Campanile Massimo Franciosa Hugo Guerra Franco Brusati tutti nomi importanti del cinema di quegli anni e degli anni a venire proprio in quegli anni l'industria cinematografica di Hollywood stava agonizzando il pubblico che andava al cinema negli Stati Uniti durante gli anni 50 si era dimezzato gli studios erano occupati dalle truppe televisive i grandi produttori come Meyer Selsnick Zanuck o erano alla fine della propria vita o erano costretti a dimettersi oppure combattevano contro i propri consigli di amministrazione Cosmog ebbe anche la curiosa avventura di fare un film praticamente americano nel senso che tutta la truppa era stata un'intensa Hollywood era uno spettacolo impressionante non c'era nulla di cinematografico in produzione sulle mie spalle si scaricavano anche le speranze e le ansie di tanti poverini che dicevano beh finalmente arriva uno che gira un film racconterà questo Rossi sopravviveva sopravviveva però il mito di Hollywood che ritrovo in alcune pagine del diario scritto da mio padre durante i tre mesi vissuti a Los Angeles ore 22 e 30 ad un tavolo del Frascati Franco Franco Rossi mi risveglia con una gomitata c'è la vecchia dice il tempo di girarmi ed eccola a portata di mano una maschera di cero una voce profonda come un oceano Marlene la prima delle 150 pagine del trattamento scritto da Basinetti Giannomenico Giagni e Franco Rossi prodromo alla vera sceneggiatura la vera e propria sceneggiatura inizia così il nuovo modernissimo aeroporto di Los Angeles Jet Age sulle mastondontiche piazzole che circondano i satelliti dell'aeroporto lentamente si muovono gli agli oggetti la grande torre di controllo è appena appena definibile tra la nebbia del mattino e così la grande semisfera al centro dell'aeroporto in quelle poche righe c'era lo stupore di chi arrivando da un'Italia ancora provinciale era rimasta a bocca aperta di fronte all'aeroporto di Eaglewood che sembrava uscito da un fumetto di Flash Gordon e stupore e smarrimento quello di Salerno nelle prime sequenze del film al suo arrivo a Los Angeles quando si perde nello stesso corridoio all'interno dell'aeroporto che rivedremo come detto stamattina nei meravigliosi titoli di testa di Jackie Brown di Quentin Tarantino e poi all'esterno dove i giochi di luce di un muro bianco traforato lo abbagliano lo stesso stupore che proverà davanti alla casa di Yannis Girardot la Star House un set usato per la prima volta in Smog ma che poi comparirà in tanti altri film e che nel trattamento viene descritto così Gabriella va verso un muro spinge un bottone e improvvisamente una tenda comincia a muoversi scoprendo una parete di cristallo venga dice a Vittorio e fa scivolare la parete di cristallo lui ubbidisce ed esce all'aria aperta quello che appare ai suoi occhi sembra fuori dalla realtà una piscina illuminata azzurra limpida e al di là della piscina il mare di luci di Los Angeles appare smarrito Salerno anche nella sequenza finale del film davanti all'enorme sfera trasparente della Bernard George House ma è vera? cos'è? cellophane una copertura provvisoria chiede no è materiale fortissimo lo stesso che serve a vestire i satelliti Salo Sputnik è la risposta negli ultimi metri di pellicola vedremo proprio lui l'avvocato italiano piccolo piccolo chiuso in quella specie di bolla continuare a battere contro quel materiale fortissimo mentre cerca una via d'uscita così finisce Smog un finale aperto non consolatorio all'Antonione si potrebbe dire ma un film è importante se ci permette di parlare anche di altro alla fine degli anni 50 per gli italiani l'America era qualcosa di lontano di raggiungibile si scrivevano le lettere su una carta speciale che non pesava troppo sugli aerei che trasportavano la posta oltre l'oceano l'oceano non ci separava soltanto dall'America ma anche dal futuro l'America per noi erano le serie che si vedevano in televisione Sunset Street Lessy Rintintim Perry Mason o il giovedì i telefoni di Hitchcock era anche qualche canzone in una lingua incomprensibile e nei grattacieli che cominciavano a spuntare anche da noi il Pirelli a Milano e a Roma il Palazzo del Legno il ristorante sul fungo all'Euro il bowling all'acqua cetosa il drive-in verso Ossia primi supermarket erano tutti luoghi americani a 60 anni di distanza i smog ci sono sequenze che hanno inevitabilmente perso la propria forza oggi le vediamo non per capire come era l'America di allora piuttosto perché anticipavano un probabile inevitabile futuro mostravano agli italiani come sarebbe cambiato il loro modo di vivere una sequenza con Annie Girardot sola che guarda malinconica verso un punto non definito mentre alle sue spalle la sua automobile viene lavata ad un lavaggio automatico oggi è assolutamente banale ma in quel 1962 no perché allora per noi era sorprendente perfino quel modo di lavare le automobili era fantascienza il telecomando con cui la Girardot cambia canale decine di canali quando in Italia ce ne erano solo due oppure fantascienza era per Salerno entrare in una galleria d'arte e sentire una musica di sottofondo che raggiunge tutte le sale mio padre scrive nel suo diario entro nella galleria Landau sulla Sienega una musica giunge da qualche angolo della galleria attutita riposante anche qui l'impianto di musica in sottofondo come dappertutto nei bar nelle cliniche nelle banche nelle piscine nei ristoranti nei markets c'è una scena che spiega bene il personaggio interpretato da Salerno in quella specie di città non luogo che è Los Angeles lui cammina da solo lunghi marciapiedi isolatamente vuoti senza riuscire a comprare neanche il giornale deve prelevarlo da un distributore automatico e non è capace il trattamento del film così spiega quella scena Vittorio viveva nella sicurezza dei propri gesti sulla vivacità proprietà e pomposità del suo linguaggio si trova improvvisamente a compiere i gesti di un bambino inesperto e di un ebete e nella costrizione di non poter aprire bocca in marciapiedi vuoti percorsi da Salerno nei lunghi tragitti in automobili di Annie Girardot e Renato Salvatore lungo la Senega l'Hollywood Boulevard il Sunset fanno dei grandi Boulevard di Los Angeles un altro dei protagonisti di Smog che come ho detto è un film on the road e sulle strade che accadono cose che gli sceneggiatori avevano visto di persona che verranno inserite nel film e che ritrovo nelle pagine del diario di mio padre 24 aprile Hollywood Freeway 5 del pomeriggio verso l'est macchine che rientrano dopo il lavoro Corvina West Corvina Pomona Alphabeta Market Ragazzo con Cane Chiosco con Bibite Clermont Village Theater Cinema Vuoto una specie di cimitero felice rientro alle 22 Freeway Libera o ancora dallo Chateau Marmont sono andato a casa di Franco a piedi le 7 di sera tra le case basse tra le case basse incominciavano ad accendersi lontane le luci di Los Angeles milioni di lampadine allineate per tutto il tragitto due chilometri circa non ho incontrato che tre persone e Sunset Boulevard è un centro ho pensato a via Condotti alle 7 di sera di una sera di aprile quando venne girato Smog il decalogo di censura del codice Hays con i suoi 13 comandamenti non esibire nudità non girare scene d'amore appassionato non parlare troppo di criminalità eccetera era incredibilmente ancora in vigore e lo sarebbe stato fino all'86 ma anche le scorie del maccartismo non si erano ancora esaurite mi ha raccontato Marco Leto aiuto regista di Smog che come sempre succedeva il giorno prima dell'inizio delle riprese venne allestita dalla produzione una conferenza stampa alla quale però non si presentò nessuno il motivo? i giornalisti di Hollywood pensavano che tutti i registi italiani fossero dei comunisti arrivò solo una persona e non era un giornalista ma un attore il suo nome Paul Newman qualcosa però stava cambiando i due sceneggiatori sbarcati a Los Angeles non potevano sapere che in quei mesi del 61 a portare su e giù con l'ascensore del grande magazzino era Ornette Coleman che di notte invece suonava nel garage degli amici forse avranno sfirato Charles Bukowski che lavorava le poste ma che pubblicava la prima collezione di poesie potevano essersi seduti in qualche bar vicino a John Funtin che sopravviveva scrivendo sceneggiature o incrociare lo sguardo di James Harry adolescente disturbato che faceva il caddy al Wilshire Country Club all'orizzonte poi cominciava a intravedersi il cinema della New Hollywood che nei due decenni seguenti avrebbe stravolto i canoni lewoodiani con i film di Atman Coppola Al Oshby Bob Rafferson e poi di De Palma e Marty Scorsese a fare da apripista l'enorme successo di Easy Rider il cinema stava cambiando di nuovo come spesso succede come spero che avrà in futuro e questo piccolo film misterioso sconosciuto praticamente mai visto ne ha una piccola grande testimonianza grazie 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 va bene che ho fatto mister fantasy ma non esageriamo allora visto che siamo pochi propongo che cioè ne chiacchieriamo ma anche in maniera un po' informale alzandoci ho preferito che ci sediamo tutti qui però vedo una domanda già una curiosità Carlo e Mario allora dai venite anche voi che se volete l'ha detto l'ha detto l'ha detto l'upano l'ha detto ma io lo sono quindi vabbè no ma dice giustamente puoi continuare a essere timida ma colpimi troppo comunque dice che è già stato detto e quindi forse mi ero persa il passaggio da Mario è buono sottolinearlo cioè a me mi ha colpito certo perché come dire era talmente scritto grande e poi anche graficamente aveva una una tipografia interessante il dire dove si è è un percorso diceva giustamente lui anche questo on the road certo della città di Los Angeles però un conto è capirlo vedendo le immagini un conto è vedendo proprio la scritta certo grazie grazie sì una considerazione più che una domanda riprendendo anche uno spunto detto da da dottor Giagni cioè è stato notato il il precedente del grande cinema italiano quindi Antonioni soprattutto e Fellini a Dolce Vita poi successivamente poi il fatto che questo tipo di immagini e di scenari sia stato ripreso da Wenders e da Tarantino però un po' più in là però forse c'è un'analogia abbastanza forte anche col cinema francese che in quegli anni era molto attento alla modernità sia prima che dopo prima lo spaisamento di Enrico Maria Salerno all'interno della metropoli può ricordare forse Jacques Tati che aveva già fatto mio zio e che poi avrebbe fatto Playtime però diciamo questa no questo questo smarrimento questo inciampo nelle cose che che il personaggio di Salerno ricorda Tati abbastanza poi sicuramente le inquadrature della nuca di Annie Girardot ma appunto le prime sono quelle di Jean-Louis Godard in fino all'ultimo respiro di Jean Seaberg sulla macchina quindi la nuca di una donna davanti a una macchina scoperta e insomma quello sicuramente è il modo di inquadrare che è stato fatto per la prima volta da Godard che era presente nel 62 alla mostra di Venezia con Viv Savi e che poi proprio anche parlando di fantascienza alcune situazioni soprattutto quelle aeroportuali che prefiguravano un futuro già presente ci sono nel cinema francese d'autore in Godard nell'episodio di L'amore attraverso i secoli che è proprio tutto ambientato all'aeroporto di Orlì e poi anche La jeté di Chris Marker che è un film di fantascienza è un mediometraggio di fantascienza però praticamente tutto ambientato inizio a fine in situazioni aeroportuali quindi sicuramente anche un legame con il cinema con suggestioni del cinema francese ma infatti io credo che sia la cosa voglio dire la cosa sorprendente fra le tante di questo film è proprio il legame con la Nouvelle Vague e con la triangolazione con Casaletes voglio dire cioè l'idea quella quella ripresa famosa che abbiamo visto anche stamattina della Girardot in automobile ripresa della Nuca a me ricorda tantissimo visto con la luce naturale ricorda tantissimo in Ascensore per il Patibolo una lunga camminata di Jean Moreau non in automobile ma a piedi davanti alle vetrine certo Ascensore per il Patibolo quindi è sorprendente questo perché in realtà cioè il cinema italiano pochi dopo con Bertolucci Bellocchio il trio Bertolucci Bellocchio Cavani il rapporto con la Nouvelle Vague diventa gli esponenti più importanti italiani poi ci sono tanti altri di noi e in questo caso fatto da un regista come Franco Rossi a me sinceramente mi ha molto colpito perché in realtà è qualcosa come posso dire anche di tipicamente italiano certe volte dei registi che noi consideriamo chiamiamo un certo tipo di cinema che consideriamo dei minori eccetera poi però avevano una cultura cinematografica che magari non avevano non mettevano nei loro film ma però esisteva ed era forte voglio dire e questa cosa a me mi ha molto colpito insomma quando ho visto il film le prime volte insomma solo rispondo a un punto poi magari se parlano gli altri meglio ma cercavo dei camera card notturni e l'altro che mi era venuto in mente era quello di Alphavilla no? sì un altro in realtà però si svolge in maniera un po' diversa in realtà è molto originale questo perché non ha non vede qualche cosa quello di vendersi addirittura non si vede niente nemmeno le luci si sente solo la musica ed è sono un po' molto di questa radicalità questo film certo probabilmente per la libertà con cui è stato realizzato per la scelta di anche di avere questa tutta la narrativa però cioè adesso mi scuso perché cito sempre il diario di mio padre ma essendo un testimone diretto mio padre fa la prima volta insieme a Franco il Sunset Boulevard e dice a me piacerebbe fare un film evidentemente stanno incominciando a pensare che fosse semplicemente una lunga corsa attraverso il Sunset Boulevard in cui i due protagonisti parlano tra di loro adesso non so se è Salerno eccetera e fosse probabilmente come un lungo piano sequenza naturalmente Franco Rossi lo fulmina come uno sguardo e mio padre dice io sono stato zitto perché so che non lo farebbe mai però secondo me Zavattini non capisco perché ma Zavattini un pensiero su una cosa come questa l'avrebbe fatto secondo me c'era una voglia parliamo del 60 61 una voglia di cambiare anche certi canoni del cinema che poi arriverà con Antonioni ma e più sono i canoni dell'arte l'ha fatto vedere l'ho fatto vedere brevemente io adesso tutti gli altri architetti sorridiamo ma insomma c'è un artista che è Drew Shea che si mette lì e invece farne un film usando una pellicola cinematografica fa questa lunga fotografia dei due lati stampati certo 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 poi anche le cose di Andy Warhol che faceva sull'uomo dormiente sì però questa è molto california c'è una differenza in Andy Warhol c'è sempre una contestazione critica del contesto come dire consumistico eccetera la posizione di Lusche o di alcuni anche dei suoi amici è dire questa è la nostra vita capito non c'è un un aspetto di critica è proprio una rappresentazione di essere se stessi e di quello che è il paesaggio della tua generazione io invece scusa non mi trovavo d'accordo con quello che diceva il dottor Lupano a proposito della della mancanza di ingenuità degli italiani nel film se ho capito bene forse ho capito male cioè io ho l'impressione che Salerno sia profondamente cioè furbo ma profondamente ingenuo cioè quello che guarda è un qualcosa di assolutamente incredibile e in quanto tale venendo appunto da Via Condotti si ritrova lì e dice ma guarda il mondo com'è poi si richiude no? secondo me non c'è e dall'altra parte gli italiani sono ingenui cioè un Salvatore che per tutti i suoi ruoli praticamente tutti i suoi ruoli della sua vita ha fatto l'ingenuo un po' mascalzone un po' è ingenuo allora forse se mi puoi spiegare meglio io no non non Salerno no non è è ingenuo sì però gli altri secondo me hanno una loro consapevolezza di 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 lavorare in un certo modo interpretano lo stare in quella situazione secondo me e anche un po' combattono per fermarlo beh Gabriele assolutamente sì Gabriele sì sì assolutamente anche 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 l'amica modella cioè hanno un loro sì insomma hanno lavorano diciamo per rapportarsi con questa realtà ma mi sembra che faccia parte anche della narrazione cioè no no io come ingenuo probabilmente ha ragione rispetto a Salerno rispetto a Salerno avevo capito male io allora no no Salerno è uno che arriva lì a bocca aperta rispetto e c'è l'ingenuità del fare di Salerno di Salerno in qualche maniera faccio questo perché certo che è finalizzata a qualcosa però c'è un'ingenuità di base dicendo questa è la terra dell'opportunità sì però c'è quella consapevolezza di spavalderia e di c'è una cosa mi sembra uno statement no cioè rischio sì sì in questo senso sì infatti Gabriella si innamora di questo c'è anche il fatto di Lili l'America non è più quello che era una volta sì c'è questa reazione sì è vero è vero però Carlo non lo so se stiamo parlando di stereotipi nel senso che trovare gli italiani messi lì vi è quasi automatico renderli stereotipi di qualcosa o se c'è invece una sorta di volontà di descrizione che ritrovi l'opposto dello stereotipo cioè negare lo stereotipo attraverso lo stereotipo non so se rendo l'idea cioè io voglio raccontare dei personaggi e purtroppo siccome sono estrapolati e messi lì non possono che venire fuori così e allora non è che siano gli italiani così è che a loro che li hanno descritti sono venuti fuori in questo modo qua cioè io credo onestamente che sia molto più valido il film proprio nelle ambientazioni nella fotografia in quello che rappresenta l'America piuttosto che nei personaggi che è l'opposto di quello che la critica a suo tempo ha trovato come limite del film invece probabilmente c'è proprio una facilità nello sbozzamento anche perché da Brusati a Pasinetti a Festa Campanile e Franciosa e Compagnia cioè voglio dire ci sono fior di sceneggiatori che però forse hanno dato il peggio di loro dovendo essere pagati andando a rimpolpare dei difetti soprattutto a Brusati che poi è uno un altro espatriato sia in Italia che fuori nel senso che lui inizia facendo un film in Olanda assolutamente fuori no forse è il secondo film un film assolutamente che si chiamava I tulipani di Harlem assolutamente poco italiano e fa forse come primo film un film con George Siegel e Virnalisi che non mi ricordo come si chiama adesso che sembra una commedia alla Billy Wilder cioè era completamente tant'è vero che poi quando fece pane e cioccolata passò le pene in inferno perché il giorno montava lui e la notte arrivava Manfredi smontava e rimontava lui quindi era perché voleva invece un tipo di operazione che fosse diversa dalla solita commedia italiana quindi io voglio dire al di là di quello che può essere l'America di Pasinetti che quindi salvo totalmente proprio dicendo questo ma per il resto sto ammappata di teste pensanti in realtà possono aver contribuito a complicare la vita a tuo padre no scusa sia a tuo padre che al regista perché poi ci hanno messo sicuramente le mani sui dialoghi e su altre cose assolutamente poi non so questo però sempre partendo dal diario per esempio il locale quello lì Bullying secondo me è la cosa peggiore del film è quella scena sono d'accordo ed è quella in cui loro cercano invece appunto di infilare più cose possibili di farla lì era l'Ocean non mi ricordo come gestito da un italiano e succedono più o meno le cose che troviamo nel film questa cosa per esempio il Triestino la cosa del Triestino di Salvatori che è improbabile come Triestino ma Triestino anche quello dice abbiamo trovato il personaggio che ci serve è quello perché un Triestino che è arrivato con i soldi di Eisenhower si è trovato qui eccetera eccetera in realtà è l'unica cosa sbagliata del film perché la legge viene fatta da Truman mi metto a vedere apposta però c'è Eisenhower in quel momento allora mi serviva anche per il resto lei beccata sono messi in save quindi magari l'ha anche fatto apposta insomma va beh niente grazie tantissimo grazie splendidi ci tengo a ringraziare tantissimo tutte le persone che mi hanno aiutato Elga soprattutto che ha fatto d'accollante tra tutti noi in queste settimane non la vedo quindi glielo dite sta lavorando anche in questo momento grazie grazie Deborah il presidente e tutti voi anche per aver resistito a tutte queste ore grazie 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 grazie